Buonasera, in quanto Vice-Direttore della Scuola sono stato richiesto da parte del Direttore Fabio Beltram di porgere un saluto di benvenuto e di accoglienza agli partecipanti e al pubblico di questa importante iniziativa. Il Direttore non può essere presente, che in questo momento è impegnato in un funerale per una scomparsa tragica di un ex dipendente della Scuola Normale Superiore, che è particolarmente benvoluto da tutta la comunità e che è scomparso un paio di giorni fa in un incidente che ha molto traumatizzato l'ambiente. Il Direttore ha ritenuto giusto essere presente in quella circostanza, al tempo stesso però mi ha chiesto di rivolgervi un saluto da parte sua e anche di leggervi una lettera che ha ricevuto. Questa è una riflessione e un vero e proprio convegno che fa seguito a un primo incontro che fu fatto qualche mese dopo, non ricordo, due o tre mesi dopo, una scomparsa di Roberto Vivarelli che era stata una commemorazione a caldo, quindi con tutte le caratteristiche che hanno quel tipo di rievocazioni fatti in prossimità della scomparsa, però è già stato il primo momento di riflessione culturale e scientifica molto utile e molto stimolante, a quale tra l'altro hanno partecipato in quell'occasione il professore e il collega Daniele Menozzi, che è l'organizzatore di questo incontro, e due relatori che oggi sono qui, appunto oggi su questa iniziativa, Mauro Moretti e Roberto Pertici, quindi c'è un filo, insomma, di continuità, di riflessione intorno alla figura di questo grandissimo storico. Naturalmente il convegno che appunto ci riunirà oggi e domani ha le caratteristiche, diciamo, di una riflessione molto approfondita sui temi principali, non tutti, naturalmente, ma certamente quelli che più contano nella produzione di questo grande storico, e che appunto sono indicati, in fondo non utile che gli elenchi parlano da soli, attraverso i titoli delle relazioni dei colleghi che parleranno oggi e domani. Io dirò soltanto, ricorderò le cose essenziali, il fatto, in particolare dirò qualcosa sul rapporto tra Roberto Vivarelli e la scuola, che è stato un rapporto molto profondo e soprattutto molto variegato, perché ha riguardato ovviamente la sua funzione di docente con i seminari che teneva nell'Aula Pasquale e che hanno lasciato un'impronta vivissima in tutti coloro che hanno avuto la fortuna di parteciparvi. Seminari che erano non soltanto preziosi per gli allievi che si orientavano verso quel campo di studi, ma erano un'occasione importante di riflessione intellettuale, di più ampio respiro, un po' per la comunità della scuola. Infatti erano seguiti, cosa non sempre frequente, nemmeno vent'anni fa, venticinque, vent'anni fa, trent'anni fa, da allievi di filosofia o di altri ambiti disciplinari. Si riteneva che fosse comunque utile, indipendentemente dagli obblighi didattici, come si sol dire, seguire le lezioni di questo grande maestro, che è una delle rare occasioni di dibattito e di arricchimento culturale, in un senso molto lato. La presenza di Roberto Gioarelli è sempre viva nella scuola, non soltanto nel ricordo di chi lo ha conosciuto, di persona o lo ha conosciuto attraverso i libri, ma è sempre viva perché alcune sue azioni fanno vivere la scuola e le attività della scuola. In particolare la donazione del suo archivio, che lui ha fatto confluire nel centro archivistico della scuola, diretto dal professor Menozzi, e alcuni documenti di questo archivio sono esposti nel ballatoio, se non sbaglio, vero Daniele, nel ballatoio, quindi possono essere visitati nella pausa o se lo dare non è troppo tardo per voi, anche dopo la sessione o domani mattina, credo che Daniele sarà disponibile anche forse a fare la guida, oppure insieme con lui gli espertissimi, gli espertissimi, insomma, professionisti che si occupano dell'archivio della scuola normale superiore. Oltre all'archivio, queste sono storie forse note a chi conosce la figura e la storia di Roberto Gioarelli, meno note forse a qualcuno qui nella sala, soprattutto ai più giovani. Questo archivio è composto per un verso, dall'archivio personale, questa donazione di Roberto Gioarelli, per l'altro verso da una parte dell'archivio Salvemini, che Salvemini, in quanto maestro, ha donato a Gioarelli in funzione dell'avvio dei suoi studi sull'origine del fascismo, che sono tra le cose più importanti e più impegnative che gli abbia realizzato. E poi, oltre a... quindi già questo fa intendere in che senso la sua presenza sia viva, ecco, non come in un senso così... che già sarebbe abbastanza, insomma, sufficiente del ricordo e della continua lettura dei suoi lavori. Ma, e poi c'è l'altro aspetto, l'altro aspetto è il dono della biblioteca, che ha rappresentato un'acquisizione molto importante per la scuola normale e superiore. Quindi pensiamo a lui come una sorta di collaboratore, diciamo così, vivente, insomma, grazie a queste sue opere e a questa sua università. e pensiamo come un collaboratore vivente che lavora con noi, in nostra compagnia, adesso e, insomma, nei prossimi anni. Il professor Beltram mi ha chiesto, oltre appunto al fatto di trasmettere, insomma, i suoi auguri di buon lavoro e suo benvenuto, di reggere su richiesta della figlia Marina, di Roberto Vivarelli, un breve messaggio di saluto che Marina Vivarelli ha voluto inviargli e che io vi leggo. un messaggio che, carico di, come si dice, umanità e anche degli spunti, spunti, insomma, di carattere, insomma, umano e biografico, insomma, che nella loro brevità sono significativi perché ricordano alcuni tratti anche della persona che oggi e domani ricordiamo e studiamo. Caro Fabio, due righe per confermare che non riesco a venire domani e dopodomani alle giornate di studi che avete organizzato in memoria di mio padre Roberto. Roberto, parla di alcuni suoi impegni, è un medico, per sapere, Marina Vivarelli, che lavora all'ospedale Bambi Gesù di Roma, fa riferimenti a questi impegni e dice, mi incresce davvero molto perdere questa occasione per conoscere meglio l'opera e l'eredità intellettuale di mio padre, quel mondo accademico che lui a casa con noi menzionava pochissimo e fingeva, un po' per gioco, un po' no, un po' per gioco, un po' no, di disprezzare, ma al quale è dedicato alla maggior parte delle proprie energie e risorse, sia materiali che fisiche. Voglio che tu sappia quanto sono grato alla scuola normale per avergli fornito durante la sua carriera e anche adesso, dopo la sua morte, spazi e opportunità di studio e di scambio di idee in un ambiente privilegiato di persone colte e curiose. Vorrei anche che tu portassi questo saluto e questo ringraziamento domani, cioè oggi, ai redatori, agli organizzatori e ai partecipanti, con gratitudine e stima Marina. Poi aggiunge, certamente, se ci saranno degli atti stampati di queste giornate, mi farebbe moltissimo piacere averle. Non dubito che ci saranno degli atti di queste giornate. Questo mi pare, insomma, possiamo rispondere che inevitabilmente ci saranno. Bene, quindi, nel aggiungere, insomma, al parole e messaggio del direttore i miei auguri di buon lavoro e ringraziamento per tutti coloro che sono qui con vari ruoli, in particolare al collega Daniele Menozzi, prego proprio Daniele di non solo venire a prendere la parola come primo relatore, ma anche di presiedere questa seduta pomeridiana e quindi di dirigere un po' i lavori di tutti. Se qualcosa ho dimenticato di significativo, ti prego, insomma, di rimediare. Grazie e buona ora. Buonasera. Grazie, grazie Andrea. Non mi pare che ci sia nulla da aggiungere, se non forse un piccolo dato personale, cioè ho sentito per telefono recentemente Giovanni Miccoli che aveva avuto notizia di questo convegno e mi ha pregato di portare i suoi saluti. Non può essere presente all'incontro, ma appunto mi ha chiesto di porgere a tutti voi un benvenuto e un augurio di buon lavoro. Tocca dunque a me aprire questo convegno. Per evitare una eccessiva solitudine chiederei al professor Orsina di tenermi in compagnia dato che è il secondo relatore e quindi grazie molte della solitudine del tavolo che ha sempre qualche difficoltà. Quindi grazie molte. Ecco, quindi comincio la mia relazione che come sapete è dedicata all'opera che più ha sollevato discussioni e polemiche tra le varie pubblicazioni di Roberto Vivarelli e cioè la fine di una stagione. Nella frase conclusiva del penultimo capitolo che è dedicato alle vicende successive al 25 aprile 1945 Vivarelli dava ragione delle motivazioni che l'avevano spinto a scrivere il volumetto sulla sua adesione alla Repubblica di Salò e vi si leggeva Cominciò allora anche per chi come noi aveva dopo tutto evitato il peggio una vita per così dire clandestina dovevamo nascondere la nostra identità ed anche più tardi quando le acque si calmarono e la vita tornò gradualmente alla normalità dovemmo ugualmente nascondere il nostro passato e negare una parte importante della nostra storia e della nostra vita e questa specie di esilio è durata a lungo in un certo senso è durato sino ad ora ed io ne esco soltanto scrivendo queste pagine Il tema qui enunciato ritornava in quasi tutte le interviste da lui rilasciate dopo che il libro in seguito all'anticipazione in chiave sensazionalistica che ne aveva fatto Paolo Mieli sulla stampa del 5 novembre 2000 era stato al centro di una vivace polemica giornalistica tale clamore che aveva avuto l'effetto di portare la fine di una stagione ai primi posti della classifica dei volumi più venduti nel mese di dicembre di quell'anno non era certo stato promosso da Vivarelli in diverse occasioni ricorderà di non conoscere Mieli di non avergli mai parlato neppure per telefono approfitterà tuttavia di quello strepito mediatico per chiarire denunciando le strumentalizzazioni politiche e le insinuazioni dice scrive persino ingiuriose avanzate sul suo lavoro le ragioni reali che lo avevano mosso su diversi quotidiani ribadiva infatti quel che così ricordava sul Corriere di Siena aveva maturato la decisione tra virgolette di levarsi un peso che si era portato dentro per molti anni perché a una certa età si devono chiudere i conti con la propria vita e come specificavo ulteriormente sul mattino con la pubblicazione del suo memoriale intendeva rimarginare una ferita quella ferita che era rimasta in lui aperta fin dal 1955 nell'ottobre del 1954 era infatti apparso sul ponte un articolo di Riccardo Bauer che aveva contrapposto all'eroismo della resistenza la pazzia della Repubblica Sociale di Salò e delle sue non esigue schiere di criminali nel numero di aprile e maggio dell'anno successivo la rivista pubblicava una lettera in cui Vivarelli rievocando la sua personale esperienza di volontario saluino rivendicava l'integrità morale e la buona fede di tanti fra coloro che avevano abbandonato casa e famiglia per rischiare senza alcun tornaconto personale la vita in una causa ritenuta ormai persa alla lettera faceva seguito una breve ma tagliente risposta di Enzo Enrico e Zagnoletti a suo avviso non si poteva mettere sullo stesso piano i giovani che si erano arruolati nelle brigate nere con quelli che avevano combattuto nella resistenza non scriveva per un giudizio moralistico ma per un giudizio storico i primi anche se puri e disinteressati erano per sempre sprovveduti e ignoranti e il direttore della rivista fiorentina li qualificava infine con un'espressione anime morte che sarebbe rimasta come uno stigma profondo nell'animo di Vivarelli a quasi 50 anni di distanza il problema di tornare pubblicamente su quella vicenda giovanile nasceva dunque dalla volontà di riconsiderare il percorso compiuto in effetti la valutazione sprezzante sul suo passato non aveva impedito ad Enrico e Sagnoletti di aprire le pagine della rivista il giovane studioso che poteva così pubblicarvi i suoi primi contributi né la conoscenza della sua militanza saloina era stata di ostacolo all'amicizia e alla stima di personaggi come Gaetano Salvemini Ernesto Rossi Leo Valiani Franco Venturi che apprezzando ed incoraggiando i suoi studi di cui le origini del regime costituivano l'asse portante lo avevano inserito fin dai primi decenni della Repubblica nella rete di relazioni dell'area politico-culturale dell'antifascismo la nomina insistentemente voluta da Carlo Francovic nel consiglio direttivo dell'istituto storico della resistenza in Toscana di cui sarebbe rimasto membro per circa un ventennio aveva finito per sancire anche agli occhi dell'opinione pubblica la sua collocazione proprio in quell'area si trattava di un'immagine che nel corso del cinquantennio postbellico non era certo stata scalfita dall'occasionale riemergere in qualche pubblicazione della memoria dell'adesione di Vivarelli alla Repubblica Sociale giunto alla soglia dei settant'anni il professore di storia contemporanea alla normale intendeva insomma ripercorrere il suo itinerario per dar ragione della coerenza morale conservata nel corso di un tragitto esistenziale che partito dall'arruolamento volontario nelle truppe di Salò era approdato alla pubblica professione di antifascismo lo snodo che gli consentiva di compiere questo passo era chiaramente annunciato fin dalle battute iniziali del libro dove si presentava in termini positivi la figura del padre buon cattolico fervente monarchico fascista convinto che partito volontario per la seconda guerra mondiale aveva trovato la morte in Jugoslavia scriveva l'onestà riguarda le intenzioni e il modo particolare del proprio agire sicché ci si può mantenere moralmente integri indipendentemente dalla parte in cui si milita questo concetto veniva poi applicato nel corso del libro per spiegare l'itinerario politico-culturale che egli stesso aveva compiuto in effetti l'uomo che dopo la liberazione scoprendo gli orrori della barbarie nazifascista che dichiarava lui del tutto ignoti fino a quel momento aveva maturato una profonda adesione ai valori della democratica civiltà occidentale non trovava nulla di riprovevole nelle scelte del ragazzo che imbevuto dei valori ottocenteschi di patria onore sacrificio aveva deciso di arruolarsi nelle milizie di Salò perché scriveva le ragioni della storia non coincidono con le ragioni della vita come sinteticamente notavo in conclusione dell'opuscolo sul piano della vita pubblica solo a posteriori sapremo il più delle volte se la parte nella quale ci siamo trovati ad agire la parte che ci è stata data è quella che più tardi la storia dichiarerà giusta o sbagliata allora dopo l'8 settembre 43 io feci semplicemente quello che ritenevo il mio dovere se all'origine della pubblicazione del memoriale sta la riconsiderazione di un percorso personale occorre subito aggiungere che Vivarelli non intendeva però ricorrere come commentava superficialmente una nota giornalista all'esercizio della psicoterapia della scrittura certo alla sua redazione aveva anche contribuito la volontà di rielaborare la relazione con la figura paterna che il rapporto con il padre cui attribuiva la trasmissione dei valori che lo avevano portato ad arruolarsi costituisse un rilevante nodo psicologico e ben mostrato dalla confessione nitidamente espressa in diverse occasioni in particolare nell'intervista rilasciata alla nazione che una spinta decisiva agli studi sulle origini del fascismo era venuta proprio dalla volontà di comprendere le scelte compiute dal genitore e con ogni probabilità questa esigenza era stata ulteriormente accentuata dal libro dato alle stampe nel 1999 dal fratello Piero che poco più anziano di lui allora tredicenne aveva voluto arruolarsi volontario prima in un reparto tedesco di Panzergranadieren e poi nella decima mass questo volume pur presentandosi nel titolo come un neo romanzo storico costituiva anche direi soprattutto una rievocazione dell'esperienza saloina basata sulla memoria personale il protagonista appariva mosso alla difesa della patria e dell'onore da un mero impeto vitalistico che si traduceva in comportamenti in cui si succedevano e si intrecciavano sensualità sfrenata goliardia violenza sfida alla morte confusione ideologica si trattava evidentemente di un quadro che sollecitava un intervento correttivo da parte di chi intendeva in primo luogo rivendicare la moralità della sua esperienza di volontario della repubblica sociale in ogni caso oltre che le ragioni personali che ho cercato di richiamare un altro elemento giocò un ruolo determinante nello spingere alla redazione del volumetto in alcune interviste Vivarelli sottolinea infatti che il suo caso pur circoscritto e di per sé irrilevante poteva offrire l'occasione per un ripensamento di carattere generale credo che qui si trovi il motivo per cui anziché editare il diario di quel periodo cui pure a più riprese attinge abbia deciso di elaborare un memoriale nella sua ottica occorreva infatti intrecciare il ricordo puntuale degli eventi con una serie di riflessioni e considerazioni a carattere storiografico perché intendeva perseguire un preciso obiettivo incidere sull'interpretazione di una vicenda ritenuta decisiva per una migliore consapevolezza dell'identità nazionale questa intenzionalità non fu presa in considerazione nella discussione che si aprì sul volumetto le ampie recensioni di Roberto Barzanti e soprattutto di Claudio Pavone sottolineavano la confusione tra diario e ricostruzione tra memoria e storia tra rievocazione soggettiva e analisi oggettiva Pavone in particolare ne attribuiva l'origine cito ad una incompiuta elaborazione del lutto della sua di Roberto Vivarelli disastrosa esperienza adolescenziale lo storico romano non era certo il solo a leggere in questa chiave l'opuscolo il tema ricompare ad esempio fin dal titolo l'outing di un cattivo maestro di una nota critica particolarmente aspra pubblicata da Giorgio Rochard su Italia Contemporanea l'organo dell'Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione Italiano ma l'intervento del prestigioso autore di una guerra civile saggio storico sulla moralità nella resistenza costituiva in realtà l'ultima puntata di un dibattito storiografico che datava dal 1992 quando Vivarelli aveva scritto per la rivista dei libri una lunga recensione proprio a quel volume di Pavone vorrei qui seguire seppure rapidamente questa discussione perché mi pare la via con cui potremmo meglio chiarire almeno alcune delle questioni storiografiche che con la pubblicazione del volumetto Vivarelli si proponeva di mettere in gioco nella sua recensione in quella sua recensione il professore della normale pur riconoscendo i molti meriti di una splendida ricerca sottolineava anche alcuni elementi di dissenso il più importante riguardava un tema che ormai c'è familiare che ho cercato di ricostruire all'inizio cioè a differenza di Pavone che sosteneva una radicale differenza etica nel ricorso alla violenza dei partigiani rispetto ai saloini Vivarelli ribadiva che l'unico criterio per misurare la moralità degli individui in una determinata circostanza è la coerenza con cui danno testimonianza di ciò in cui credono la disponibilità a morire per la causa che hanno scelto prima tuttavia di entrare in maniera un pochino più approfondita su questo dibattito vorrei però anche rilevarmi i limiti credo che oggi ormai a 15 anni di distanza si possa cogliere i limiti di quel dibattito in effetti mi pare che non vi si esplicitassero alcuni elementi a mio avviso decisivi per una adeguata trattazione della questione in primo luogo l'intera discussione se lasciava sullo sfondo la considerazione che l'eticità è questione che riguarda la sfera individuale ed è quindi arbitrario trasferirla da singoli casi alla connotazione di un intero gruppo o di un intero movimento eludeva completamente un altro dato che mi pare fondamentale in ordine allo statuto degli studi storici e cioè il giudizio morale è del tutto estraneo all'indagine scientifica sul passato che chiamata ad accertare i fatti non mira certo a pronunciare condanne o assoluzioni in secondo luogo la formulazione del giudizio storico non si basa soltanto sulla ricostruzione delle intenzioni soggettive degli attori in campo ma anche sulla considerazione degli esiti e delle conseguenze delle scelte da essi compiute ed infine la valutazione storica delle azioni compiute in un contesto bellico non può prescindere dall'attenzione alla disciplina giuridica data in quel determinato momento alla conduzione di una guerra il giudizio sui comportamenti dei contendenti si misura insomma anche in relazione al rispetto o meno delle regole che la comunità internazionale ha faticosamente elaborato in ordine alla condotta dei belligeranti non mi pare insomma che sia una questione di soggettivismo morale o almeno solo di soggettivismo morale tuttavia in questa sede più che approfondire questi limiti di quel dibattito magari si potranno anche discutere vale però la pena di soffermarsi appunto su di un dato storiografico che tocca le ragioni profonde della posizione assunta da Vivarelli al fondo della sua critica pavone stava infatti la convinzione che la corrente analisi storica sul fascismo mostrasse vistose carenze dal momento che impediva di fare realmente i conti con quel passato secondo il professore Senese fino al 25 aprile era pressoché impossibile distinguere tra fascisti e italiani dopo l'8 settembre la resistenza aveva rappresentato un fenomeno molto circoscritto in rapporto al tempo al territorio all'insieme dei cittadini della penisola mentre la direzione politica del movimento partigiano era stata assunta da quegli antifascisti di sempre che spesso vissuti all'estero ben poco sapevano degli intrecci profondi che si erano intanto costituiti tra il regime e il paese per di più in quel frangente era loro apparso a questi dirigenti politicamente conveniente costruire un'immagine di comodo del fascismo identificandolo con la repubblica sociale si poteva cancellare il ricordo della partecipazione e del consenso di cui Mussolini aveva goduto nel ventennio in questa situazione si era verificato un passaggio all'antifascismo privo di un autentico riesame del passato degli italiani la risposta di Pavone a questa analisi affidata ad una lettera privata che sarebbe stata resa pubblica sull'indice del 2001 insieme alla sua recensione all'opuscolo al libretto al volmetto di Viverelli non andava oltre il ribadimento della validità sul piano della conoscenza storica del riconoscimento di una diversa qualità morale dei partigiani rispetto ai fascisti la ripresa della discussione nel 1998 in relazione alla nota assai critica e pungente redatta da Viverelli a proposito della storiografia relativa alle stragi nazi fasciste che Viverelli pubblicava su Belfagor riproponeva la persistenza delle rispettive posizioni ma nella discussione non era in gioco solo una antitetica valutazione circa la moralità dei protagonisti della guerra civile schierati sui due fronti la replica ai rilievi di Pavone che il professore Senese affidava ad un ampio intervento apparso sul mulino nel 2001 riprendeva e sviluppava nuovamente le sue argomentazioni in ordine alla dignità morale dei militanti saloini che già abbiamo visto ma insisteva soprattutto su un altro argomento occorreva a suo avviso prendere coscienza della necessità di condurre un'analisi storica in grado di andare più a fondo nell'individuare le radici del fascismo nella società italiana e nella sua storia per liberare il paese da vischiose eredità che ancora aggravavano sulla sua vita civile dall'intervento si ricavava insomma che con la pubblicazione del memoriale Vivarelli non mirava solo a rivendicare la coerenza morale del suo percorso individuale ma intendeva anche dare un contributo ad un miglioramento della pratica storiografica sul regime che suo avviso appariva inadeguata alla funzione civile da lui attribuita all'indagine sul passato con ogni probabilità alcune concrete circostanze maturate verso la fine degli anni 90 lo spinsero a collegare l'esigenza personale di un riesame del suo itinerario biografico con l'istanza generale di proporre una riconsiderazione del passato giudicata cruciale per il presente e per il futuro del paese non credo di poterla ricostruirne al loro insieme non penso di avere tutti gli elementi per poterla ricostruire ma per quanto almeno alcuni aspetti vorrei ricordarli per quel che ho potuto capirne per quanto Vivarelli tendesse a minimizzarlo un ruolo non secondario dovette giocare il radicalizzarsi dello scontro già da vari anni in atto all'interno dell'istituto storico della resistenza in Toscana non è questa la sede credo per ripercorrere la vicenda che apparentemente si dipanò anche con penosi strascechi giudiziari intorno a due questioni da un lato la pubblicazione delle carte salvemini depositate presso l'istituto fiorentino e dall'altro lato la riforma dello statuto dell'istituto stesso ma al di là di questi aspetti un elemento mi pare che valga la pena dirchiamare su cui soffermarsi un attimo come avrebbero mostrato i commenti al volumetto firmati sul manifesto da Gian Pasquale Santo Massimo uno dei più intransigenti oppositori all'interno dell'istituto alla linea di Vivarelli il contrasto riguardava in primo luogo il tipo di storiografia promossa dall'istituto nelle sue attività didattiche e di ricerca per Vivarelli non era ovviamente in gioco il giudizio negativo sul fascismo cioè non era in gioco una revisione quella che volgarmente si chiama il revisionismo non aveva alcun esito a ribadire con forza il fatto che il nazifascismo rappresentava una barbarie che la sua scelta democratica era una scelta per la civiltà e contro la barbarie si trattava piuttosto di individuare un nuovo campo su cui indirizzare lo sforzo conoscitivo occorreva mettere a fuoco le responsabilità collettive del paese anche quelle dell'antifascismo nella rimozione di un serio esame del consenso goduto dal regime nel ventennio alla base di questa prospettiva stava l'istanza di una ricostruzione del passato che uscendo dalla rituale condanna del regime quella che siamo abituati a chiamare il paradigma antifascista potesse contribuire al superamento di una arretratezza che bloccava ora lo sviluppo civile del paese come scriveva nello scambio di lettere con Giovanni Miccoli uno dei pochi studiosi che pur manifestando alcuni dissensi sul suo lavoro magari se ho tempo ci ritorno sopra gli aveva anche espresso solidarietà per gli attacchi viscerali cui era stato sottoposto Vivarelli intendeva promuovere una storiografia che aiutasse a introdurre un costume cito della vita civile dove si mira non allo scontro ma alla pacifica convivenza e pur mantenendo ciascuno le proprie posizioni si riconosce il diritto degli altri di averne di diverse e si cerca di intenderne le ragioni una considerazione che gli appariva ben lontana dalla presente vita pubblica italiana dove cito si considerano nemici gli avversari e si nega a questi il diritto di esistere e anche di governare se hanno la maggioranza e si lanciano anatemi contro chi non la pensa come noi il volumetto nasceva insomma dalla volontà di collegare il ripansiamento dell'itinerario individuale con la proposta di alcune generali tesi storiografiche che miravano a reintrodurre nella società italiana il rispetto dei presupposti di quella cultura liberale la chiamava così che secondo Vivarelli pur avendo avuto vita grama nella storia nazionale gli appariva cito l'unica in grado di garantire una vita civile tuttavia nel corso dell'esposizione Vivarelli non si limitava a proporre questa generale impostazione storiografica avanzava anche alcune specifiche valutazioni di tipo propriamente storico non posso qui analizzare questi importanti e direi assai problematici a mio modo di vedere elementi del suo del suo lavoro mi limito soltanto a ricordare che investivano tre rilevanti aspetti della vicenda di quel periodo in primo luogo egli negava ogni conoscenza nell'Italia dell'inizio degli anni quaranta della persecuzione e dell'asterminio degli ebrei e direi che appunto questo è uno degli aspetti che mi paiono assolutamente problematici perché c'è un problema tra conoscenza e rimozione cioè un atto in qualche modo volontario di non conoscere in secondo luogo dettato dagli stereotipi ovviamente dettato dai pregiudizi in secondo luogo esprimeva un giudizio fortemente negativo sull'attendismo quando ormai gli studi avevano cominciato a scomporre quella massa morfa che De Felice aveva definito zona grigia scoprendovi in realtà inaspettate forme di resistenza civile di resistenza passiva di resistenza non violenta in terzo luogo asseriva che la Repubblica ma su questo punto Viorelli riconobbe che il suo linguaggio era andato oltre ciò che la storia criticamente intesa riconosceva infine in terzo luogo asseriva che la Repubblica era stata fondata su una deformazione della verità storica e cioè sulla tesi della continuità istituzionale dello Stato italiano anche dopo l'8 settembre e su questo punto invece alle contestazioni che gli furono mosse reagì in maniera molto dura ribadendo che lo Stato italiano in Italia lo Stato risorgimentale era finito con l'8 settembre che poi cominciava un altro ordinamento statale il tempo a disposizione non mi consente di discutere adeguatamente queste questioni magari lo affido appunto al testo al testo finale soprattutto perché vorrei affrontare qualche altro tema che mi sembra meritevole di attenzione in primo luogo vorrei ricostruire sia pure rapidamente schematicamente il dibattito che si era aperto sulla stampa quotidiana sul volumetto perché mostra che lo straordinario interesse riscosso dal libro come abbiamo visto appunto gli aveva permesso di scalare le classifiche dei libri più venduti perché quello straordinario interesse era dettato da speculazioni sulle sue ricadute politiche del tutto indipendenti dalle motivazioni reali che lo avevano mosso e dai problemi storici che aveva sollevato come ho ricordato la discussione era stata avviata su questa strada dalle anticipazioni ne ho parlato all'inizio di Mieli sulla stampa del 4 novembre ecco questi aveva infatti dopo aver riportato quelli che a sua vedere erano i passi salienti del volumetto senza peraltro formulare particolari giudizi su questi su questi brani che citava questo aveva chiuso il suo articolo con una valutazione tranciante dagli attendisti rimasti alla finestra durante la guerra civile scriveva cito è venuta fuori quella che nel dopoguerra si sarebbe autoproclamata nuova classe dirigente in nome dell'antifascismo la questione scivolava dunque dal ripensamento sui nessi tra caratteri strutturali della società italiana e il fascismo alla messa in discussione dell'antifascismo post resistenziale come orientamento politico-culturale in grado di fornire adeguata fondazione alla Repubblica si trattava di un problema che Vivarelli aveva posto mi pare nei suoi corretti termini storici fin dalla recensione al libro di Pavone dove aveva scritto la resistenza ha aperto all'Italia la possibilità di incamminarsi su di una nuova strada quello che è avvenuto più tardi il modo in cui quella possibilità di quella possibilità ci si è serviti non riguarda più la resistenza bensì tutto il popolo italiano ma nel clima di quei mesi era molto difficile affrontare la questione nell'ottica di questa precisa analisi storica appunto distinguendo tra resistenza e ciò che era accaduto dopo giungevano infatti allora al suo culmine alcuni elementi di una tensione politico-culturale che si era già sviluppata da alcuni anni in effetti fin dal 1994 in concomitanza con la prima vittoria elettorale del centro-destra guidato da Silvio Berlusconi che aveva portato esponenti politici provenienti dall'area politica fascista ad assumere responsabilità di governo nell'opinione pubblica si era svolto un dibattito intenso sulla resistenza per quanto in maniera sai sorprendente almeno per chi ritenga che la ricerca storica fondata su una precisa delimitazione di problemi indagati con criteri scientifici non abbia nulla a che vedere con l'uso pubblico della storia quella discussione si era ben presto orientata sull'esistenza o meno di uno stretto nesso intercorrente tra la resistenza e la crisi attuale presente in quel momento della Repubblica in questo clima non poteva che riaprire lo scontro mediatico la lettura della fine di una stagione come l'inequivocabile dimostrazione che il personale politico nato nella resistenza si era legittimato attraverso un ricorso all'ideologia dell'antifascismo anziché era l'ovvio sottinteso quando non veniva esplicitamente detto attraverso la propria capacità di governo né si può dimenticare che in quel periodo simili considerazioni avevano un inevitabile riverbero propagandistico nel maggio 2001 era infatti prevista una tornata elettorale per cui additare la responsabilità dei mali della Repubblica nel ceto politico che si richiamava la resistenza significava accreditare la propaganda di quel centrodestra che aveva già avuto un risultato favorevole alle elezioni amministrative dell'aprile 2000 per la verità la stampa due giorni dopo l'articolo di Mieli cercava di ricondurre l'attenzione sul terreno degli studi storici pubblicava infatti un articolo di Alberto Papuzzi che riferiva ai pareri raccolti presso due studiosi Giovanni De Luna e Elena Agarossi i quali pur senza aver potuto leggere il libro conoscevano solamente ciò che Mieli aveva scritto infatti il libro sarebbe apparso in libreria solo l'11 novembre cioè una settimana dopo si sforzavano sia pure da opposti punti di vista di nucleare da quanto noto fino a quel momento qualche problema storico contemporaneamente però Dario Fertiglio sul Corriere della Sera ribadiva con forza la conclusione di Mieli e il giorno successivo Gaetano Quagliariello sul giornale interpretava l'opuscolo di Vivarelli come la sconfessione della proposta di pacificazione con i ragazzi di Salò che poco prima era stata avanzata dall'ex Presidente della Camera Luciano Violante a questo punto partiva una campagna di risposte orchestratta dalla Repubblica con una serie di articoli che partivano spesso in prima pagina e tra loro occupavano le pagine centrali redatti da Mario Pirani Giorgio Bocca Miriam Mafai e cui faceva in seguito infine seguito una serie di interventi di Adriano Soffri non ho il tempo di farne un'analisi precisa ma insomma basta ricordare che la lettura che di questa campagna di stampa una lettura un po' come dire esasperata che forniva Pasquale Chessa su Panorama ecco questa lettura non andava poi tanto lontano dal vero rispetto a quanto c'era scritto in quegli articoli e cioè si diceva che il giornale romano aveva maturato la convinzione che il rilievo mediatico dato al libro di Vivarelli mostrasse l'esistenza di una centrale di manipolazione dell'opinione pubblica coordinata da Mieli che mirava attraverso la destrutturazione dei filoni politico-culturali su cui si era basata la Repubblica ad organizzare una nuova egemonia culturale nel Paese nell'intento di promuovere una svolta politica davanti a questo dibattito e a questi tratti del dibattito Vivarelli mi pare avesse tutte le ragioni di lamentare che la pubblicazione del suo lavoro aveva dato occasione alla nascita di un nuovo genere letterario la discussione di un libro prima di averlo letto ma lo sforzo di ricondurre il dibattito nel quadro degli studi storici era subito vanificato dagli interventi del presidente della regione Lazio Franco Storace e dall'ex e dall'ex presidente della Repubblica Francesco Cossiga che presentavano la fine di una stagione come la testimonianza esemplare della necessità di procedere ad una revisione dei libri di storia significativa dimostrazione dell'impossibilità di ricondurre il dibattito alle ragioni della storia mi sembra la partecipazione di Vivarelli alla trasmissione televisiva porta a porta dedicata proprio al problema dei libri di testo per la storia contemporanea preso all'interno dello scontro politico ideologico abilmente alimentato dal conduttore Bruno Vesp tra Storace e Oliviero di Liberto come sapete allora segretario del partito dei comunisti italiani gli fu di fatto impossibile far valere la tesi che la storia non è un'opinione cui ciascuna parte politica può attingere le sue armi polemiche o apologetiche l'intensa risonanza mediatica del memoriale poco aveva dunque a che fare con le sue reali ragioni il suo vero contenuto ed il suo significato ma quel che colpisce e con questo è l'ultimo aspetto che vorrei trattare ma quel che colpisce è il fatto che anche la ricezione presso gli storici non ebbe miglior sorte già abbiamo ricordato la recensione di Pavone e di Rochard l'outing di un cattivo maestro qualche studioso subì la fascinazione della lettura politica proposta da non storici sulla Repubblica accreditandone il valore storiografico altri non sfuggirono al condizionamento del clima politico culturale cui si è accennato se qualcuno si limitò a denunciare tra virgolette il grande fiuto mostrato nella scelta del momento più favorevole per la dimensione del libro qualcun altro arrivò ad addebitare cito all'eterno adolescente di Salò un concorso nel progetto di affossare la democrazia nel paese altri ancora una citazione altri ancora attesero l'edizione del volume i caratteri dell'età contemporanea apparso poco dopo per regolare i conti con il professore di un tempo asserendo che era passato cito da riconosciuto maestro di studi storici a vanaglorioso esaltatore dei suoi trascorsi di imberbe masnadiere insomma come ricordava la recensione di Francesco Perfetti sul sole 24 ore molti storici si erano fatti coinvolgere in un dibattito pretestuoso e pericoloso presentando prestandosi ad un uso pubblico e politico della storia anziché dedicarsi a salvaguardare le ragioni della loro disciplina anche il quotidiano della conferenza episcopale italiano che in un primo momento aveva mostrato un sostanziale consenso verso il volumetto si affrettava a mettere in chiaro con un intervento affidato allo storico di riferimento qual era la sua preoccupazione nel dibattito in corso respingere ogni possibile coinvolgimento della cultura cattolica del mondo cattolico nella operazione politica che accreditava attribuita dalla Repubblica al libro di Vivarelli e che vedeva appunto legata alla pubblicazione del memoriale e alle sue anticipazioni giornalistiche mi pare che in tal modo si chiudesse la porta ad un approfondimento dell'attenzione sui media cattolici verso il libro di Vivarelli che andasse anche nella direzione di un'analisi dei suoi contenuti eppure non credo che sarebbero mancati agli esponenti di quest'area politico-culturale motivi per affrontare l'argomento mi riferisco al fatto che Vivarelli aveva puntualmente richiamato il nesso esistente tra l'educazione cattolica ricevuta e di valori che l'avevano indotto da adolescente a compiere le sue scelte si apriva insomma credo per una storiografia attento alla questione del rapporto tra cattolicesimo e società il problema di investigare le modalità con cui la Chiesa aveva articolato durante il fascismo un tema che il professore Senese poneva al centro della rivendicazione della moralità dei suoi comportamenti l'esaltazione del sacrificio per la patria fino all'immolazione della propria vita certo Vivarelli non scorgeva alcun merito intrinsecamente cristiano nella sua adesione a questo principio ma non era stato proprio un insegnamento ecclesiastico durante il ventennio a permettere per la mancata distinzione tra valore meramente civico e valore soprannaturale della morte per la nazione quella assolutizzazione della patria che era poi stata la base del comportamento di tanti italiani e che comunque aveva costituito per Vivarelli il tratto fondamentale della sua scelta per la Repubblica di Salò ma al di là di questo aspetto specifico credo si possa constatare la generale tendenza della storiografia dell'epoca a lanciarsi nella polemica politico-ideologica anziché misurarsi con i problemi di una corretta analisi del passato che il memoriale sollevava mi limito ad un solo esempio con cui concludo questo mio intervento che è fornito dal più celebre dei capitoli del memoriale l'incontro dopo la liberazione con il professor Rossi come forse voi ricorderete Vivarelli che in un primo momento ricordava come cito con voce partecipe sua dente quel suo docente gli avesse insegnato quanta fosse santa la sua cioè del fascismo causa annotava quello che era stato il mio maestro di fede politica ora mi giudicava con disprezzo solo perché venuto il momento senza nulla da guadagnare avevo seguito i suoi insegnamenti nella rievocazione della formazione ricevuta era quindi evidente il ricorso a quel vocabolario del sacro che gli serviva per connotare l'opzione politica che aveva compiuto non era peraltro il solo passaggio del libro in cui il fascismo era caratterizzato in termini religiosi a proposito del padre come abbiamo visto il confronto con la figura del padre e le sue scelte mi pare uno degli elementi caratteristici del libro e anche una delle motivazioni che spinsero alla sua redazione a proposito del padre ricordava che il fascismo costituiva per lui una fede politica che ai suoi occhi la patria era un valore religioso che il fascismo era la sua fede semplicemente perché in esso vedeva il partito della patria che ancora la sua morte la morte del padre era legata al bisogno di testimoniare cioè dimostrare coi fatti in cosa credesse era un linguaggio religioso che ricorre ancora durante tutto il libro per il momento di sciogliere di dare ragione di alcune opzioni ed anche di motivare ad esempio l'opposizione a Badoglio per noi il fascismo era un mito ed ora continuavamo a credere con fede assoluta per me patria e fascismo erano una cosa sola e questa patria io sentivo come una cosa sacra insomma non sono infrequenti come vedete il ricorso al linguaggio sacrale queste frasi citate mi sembrano più che sufficienti a mostrare che nel ricordo di Vivarelli il fascismo gli appariva come una religione politica e che proprio sulla base di questa connotazione gli poteva rivendicare la coerenza morale di un comportamento che ha nell'adempimento del dovere fino al sacrificio della vita per qualcosa di assoluto come appunto ciò che implica una fede il suo punto focale si tratta di una questione che venne completamente elusa dal dibattito storiografico suscitato dalla pubblicazione del suo libretto eppure credo che se si fosse prestato attenzione alla lettera al vocabolario di quel libro forse si sarebbe potuto dare una risposta in termini generali alla questione avanzata sul piano individuale da Enrique Agnoletti nel 1955 circa la sprovvedutezza l'ignoranza le anime morte di coloro che avevano aderito alla Repubblica di Salò Vivarelli come abbiamo visto riteneva improponibile quella presentazione quella caratterizzazione dei volontari perché le sue scelte erano state condizionate dall'ambiente in cui era vissuto eppure se rapportiamo questa indicazione con le frasi che ho letto in precedenza mi pare che l'assunzione di una religione politica risulti nell'Italia degli anni 40 come la sostituzione di una religione con un'altra soprattutto se pensiamo appunto al modo in cui caratterizza il padre l'educazione cattolica che gli aveva dato il padre ci troviamo qui dunque davanti ad una decisione che non può non coinvolgere gli aspetti intimi della personalità individuale ora confinata sul piano delle scelte del singolo oltre che inafferrabile agli studi storici questa decisione appare anche scarsamente rilevante lo diceva lo stesso Vivarelli ma se viene proiettata sul piano collettivo mi pare rinvii a una domanda che riguardando le condizioni complessive della società italiana in epoca fascista avrebbe invece dovuto interessare una storiografia almeno una storiografia che volesse essere attenta ai risvolti civili delle sue pratiche scientifiche quali erano infatti le alternative alla religione secolare del fascismo che nel ventennio venivano offerte a giovani intellettualmente vivaci e caratterialmente coraggiosi come il tredicenne Vivarelli grazie bene grazie grazie per la pazienza per aver ascoltato le mie riflessioni dovute appunto alla lettura del libro di Vivarelli cesso la mia funzione di relatore passo ad assumere un'altra funzione quella di presidente e quindi do ben volentieri la parola al professor Giovanni Ursina che ringrazio per aver accettato il nostro invito devo dire che appunto abbiamo costruito la trama di questo intervento con Mauro Moretti con Giovanni Pertici con Ilaria Pavan e appunto anche a nome loro esprimo i più vi ringraziamenti per aver accettato di partecipare e lo prego appunto di affrontare uno dei temi che sono al centro del lavoro storiografico di Vivarelli il liberalismo con questa relazione intitolata i caratteri del liberalismo tra Manzoni e dei Naudi dunque io innanzitutto sono io che ringrazio moltissimo gli organizzatori per avermi dato l'opportunità ovviamente dati i noti dati insomma gli impegni accademici per avermi costretto a riflettere su questo argomento che è un argomento insomma che mi ha molto preso mi ha molto colpito mi ha molto coinvolto un pochino insomma come occasione di una riflessione con un'altra generazione storiografica io ho conosciuto naturalmente il professor Vivarelli l'ho conosciuto nel 1992 a Napoli all'istituto di studi storici dove io ero studente all'epoca ne ho laureato e lui veniva a tenere un seminario e l'ho sempre considerato insomma al di là ovviamente poi del rapporto che è proseguito in maniera non particolarmente continua è proseguito negli anni e al di là quindi del rapporto personale del punto dei ragionamenti che ho potuto avere con lui anche un po' un trade union fra la mia generazione storiografica e la generazione storiografica diciamo dei padri della storiografia italiana insomma partendo naturalmente da Federico Chabot non per caso poi ci siamo incontrati appunto a Napoli e quindi insomma questo nel mio rapporto con lui questo ragionamento un po' anche sui rapporti generazionali e su un certo modo di evolvere della storiografia italiana è sempre è sempre stato presente e credo che in queste cose che dirò un po' questa diversità di prospettive generazionali storiografico generazionali io credo di averla trovata poi vedremo insomma se riuscirò a convincervi di questo e riprenderò il discorso nel corso di questa relazione qualche parola appunto sulla struttura innanzitutto ho cambiato il titolo il titolo è Radicalizzare il centro il liberalismo eroico di Roberto Vivarelli perché ovviamente cercherò di spiegare perché radicalizzare il centro che cosa è il centro cosa vuol dire radicalizzarlo e perché ritengo che il liberalismo di Vivarelli fosse un liberalismo eroico la visione del liberalismo che aveva Vivarelli la seconda premessa che faccio è che non diciamo per questa relazione poi negli atti cercherò di fare un ragionamento di tipo diverso ho schiacciato il liberalismo di Vivarelli cioè non ho osservato come si è evoluto nel corso del tempo e invece naturalmente è evoluto nel corso del tempo cercando di fissarne dei caratteri un po' astorici il che naturalmente non va bene però anche appunto come dire per la semplicità per la semplicità della relazione poi invece mi ripropongo con più calma di ragionare anche sull'evoluzione nel tempo del liberalismo di Vivarelli la relazione è strutturata in due parti la prima si occupa del liberalismo e dell'occidente la seconda si occupa del liberalismo italiano entrambe le parti hanno qualche osservazione preliminare e sono fondate ciascuna su due personaggi Erasmo da Rotterdam e Adam Smith la prima parte e Luigi Einaudi e Giovanni Giolitti la seconda non parlo di Manzoni che era presente nel titolo ma perché da quel che ho capito il professore ha parlato molto di Manzoni in questo luogo ma nei suoi scritti io non ho ritrovato riferimenti importanti non tanto importanti quanto per esempio appunto a Erasmo Adam Smith e Luigi Einaudi in positivo e Giovanni Giolitti non in positivo ma questo ovviamente è anche un dato interessante dunque il liberalismo è l'occidente allora appunto qualche domanda di fondo qualche ragionamento sui presupposti di valore che portano che hanno portato Roberto Iovarelli a interrogarsi su che cosa sia il liberalismo e quindi che cosa anche sia l'occidente a me sembra che tutto anche se dell'Italia parlerò dopo un po' tutto il ragionamento di Iovarelli abbia l'Italia al suo al suo centro insomma la modernità occidentale che Iovarelli osserva è la modernità occidentale osservata da una periferia che vorrebbe essere centro appunto l'Italia e che si chiede e se lo chiedo ovviamente in forma ancora più ansiosa dopo la catastrofe fascista che cosa sia andato storto perché questa periferia si stia ostinando a rimanere così periferica e così non solo lontana ma anche diversa dal centro che è appunto è il centro che è l'occidente diciamo così un centro geografico che potremmo collocare nell'Atlantico settentrionale a partire da questa domanda che a mio avviso appunto dentro la quale si trova l'Italia parte un ragionamento su che cosa sia la modernità occidentale quali siano le cause che hanno portato all'avvento della modernità occidentale o forse ancora più di preciso come si è avvenuta la mutazione del mondo anglosassone che è considerato ovviamente il motore di questa trasformazione storica questo avvento della modernità occidentale come frattura storica radicale naturalmente questo è un primo problema storiografico ma anche come modello di carattere universale che vale per la periferia dell'occidente e per il non occidente modello il cui valore assiologico non è messo in discussione penso soprattutto al libro sui caratteri della contemporanea di nuovo ho schiacciato il ragionamento nel quale Vivarelli tra l'altro due volte con le stesse identiche parole parlando del politicamente corretto visto come negazione della diciamo la parola supremazia dell'occidente fa una scelta molto precisa e prende una posizione molto precisa diciamo di diversità dell'occidente e direi anche di superiorità abbastanza chiaramente dell'occidente modello occidentale col quale sostanzialmente coincide il liberalismo diciamo di cui il liberalismo è l'animo si tratta dunque di comprendere in termini problemi storiografici il perché e il come della modernità occidentale punto primo secondo punto forse ancora di più si tratta di analizzare le articolazioni soprattutto geografiche interne a questa modernità occidentale e forse ancora di più un'altra volta cercare di nuovo di comprendere che cosa sia andato storto in Italia cioè appunto in questo particolare pezzo di periferia dell'occidente che cosa sia andato storto partendo da una promessa robustamente tra virgolette amendoliana cioè che molto forse tutto nella penisola sia andato storto che l'Italia come oggi non ci piace appunto amendolianamente insomma mi pare che quella che è stata notoriamente chiamata deprecatio temporum l'insoddisfazione l'intransigenza l'impazienza sottolino molto l'impazienza perché ci tornerò e in particolare la deprecatio temporum sull'Italia mi pare una cifra importante per comprendere il liberalismo di Vivarelli una cifra caratteriale forse prima ancora che intellettuale eppure di grande impatto pure sul versante intellettuale un approccio a ciò che è che vede subito quel che non va in ciò che è e che si contrappone a ciò che è in qualche modo se è una cifra diciamo caratteriale che poi diventa intellettuale penso per riprendere la relazione di chi mi è preceduto nelle ultime pagine ai fini di una stagione insomma che cosa dice Roberto Vivarelli della zona grigia di chi non si impegna insomma una scelta etica molto forte ma su questo tornerò più volte questo atteggiamento è un atteggiamento mentale come noto caratteristico dell'intelligenza italiana non soltanto certamente di Vivarelli che però di nuovo l'appartenenza generazionale e le vicende biografiche di Vivarelli nelle quali si è appena detto rendono particolarmente comprensibile insomma l'esigenza di spiegare il fascismo e è inutile che ricordi che impatto esistenziale abbia avuto questo perché insomma lo sappiamo ma anche tutta la relazione molto bene precedente molto bene l'ha puntualizzato come Vivarelli sia uscito dal fascismo e quindi la sua formazione culturale post bellica a partire dai rapporti appunto con Salvemini e la lettura del mondo che pure richiama in fine di una stagione e le lunghe permanenze negli Stati Uniti che naturalmente non possono essere dimenticate perché lo mettono direttamente a contatto col centro dell'Occidente diciamo così un pezzo almeno del centro dell'Occidente prima di venire un attimo appunto ai personaggi su cui vorrei ragionare vorrei fare due ultime osservazioni un po' incidentali che però rimandano al discorso che facevo prima rispetto ai rapporti generazionali c'è un po' da chiedersi che cosa sia ancora vivo di questo atteggiamento oggi ho detto insomma un atteggiamento tipico di una certa intelligenza italiana ma anche generazionalmente particolare soprattutto per una persona come Roberto Iorelli nata nel 1929 insomma che quindi attraversa quella determinata fase della storia d'Italia la mia impressione è che ne sia ancora viva la pars destruens cioè l'insoddisfazione per le condizioni del paese però non è più tanto viva la pars construens semplicemente per la crisi del modello occidentale una crisi che come ho detto Iorelli contesta molto duramente e rifiuta e che però è una crisi per certi aspetti nei fatti e di nuovo torniamo al discorso generazionale insomma la seconda osservazione è questa per come l'ho letta se ho letto bene la storiografia di Vivarelli aveva sicuramente un importante componente analitica però in qualche modo cercava anche le soluzioni ai problemi che identificava e giustamente il titolo di questo convegno è è sull'impegno civile cioè la storiografia deve servire nell'impegno civile deve trovare aiutare a dare delle risposte non soltanto ad analizzare o a porre delle domande e questo fatto io lo trovo con l'insistenza che Vivarelli ha spesso sulle considerazioni controfattuali come le cose non sono andate bene ma sarebbero potute andare bene in altre se fosse successo che cosa se la chiesa cattolica avesse accettato Erasmo da Rotterdam se la classe dirigente liberale non avesse introdotto il protezionismo faccio esempi molto diversi ma per dire che c'è anche retrospettivamente si cerca la via alternativa tra virgolette perdonatemi buona positiva che avrebbe prodotto esiti maggiormente virtuosi nelle pagine che seguo muoverò delle critiche a queste soluzioni controfattuali che secondo me hanno delle contraddizioni e delle debolezze però voglio dirlo subito che il mio è un gioco facile perché poi non mi prendo la responsabilità di indicare delle soluzioni alternative cioè quella responsabilità che invece Roberto Vivarelli si assumeva e di nuovo però non credo che sia soltanto un problema come dire tra lui e me ma sia anche un problema diciamo di generazioni storiografiche e sia un problema della distanza che c'è fra la metà e la fine del ventesimo secolo insomma ci si prendeva certe responsabilità che oggi forse non ci prendiamo più e non so se in questo caso possa parlarsi di progresso dunque Erasmo da Rotterdam è appunto il primo personaggio che non ho scelto io ma ho scelto perché lo ha scelto Vivarelli per ragionare di che cosa sia il liberalismo e di appunto di come si possa ragionare sul liberalismo mi muovo con qualche prudenza perché è un terreno più filosofico che storico e quindi mi scuso fin da ora se dico delle cose che fanno hanno scarsamente senso scegliere Erasmo come punto di partenza della modernità cosa che appunto viene fatta nei caratteri di realtà contemporanea a mio avviso significa scegliere una certa idea della modernità un'idea che Vivarelli chiama liberale io chiamerei appunto centrista tra virgolette tra molte virgolette insomma è una modernità questa che si trova alla confluenza al compromesso per questo dico al centro fra moralità e libertà deve avere un ancoraggio alla verità e al bene un criterio per distinguere il vero dal falso e il giusto dall'ingiusto criterio che secondo Vivarelli va cercato comunque nella tradizione cristiana ovviamente parlando di Erasmo ma questo ancoraggio però deve servire a amplificare e promuovere non a limitare la libertà umana se vogliamo insomma riprendo l'espressione di Eric Vogelin è una sorta di dogma minimo tra virgolette c'è un qualcosa che deve essere difeso dal potere corrosivo della ragione che va salvaguardato che non può essere messo in discussione che appunto l'ancoraggio alla verità è al bene però il potere della ragione al di fuori da quel dogma minimo deve scatenarsi senza limiti oltre a quelli della salvaguardia di quel dogma minimo è comunque un'idea centrista a me pare per quanto questa idea di modernità un fatto ovviamente personale anche una scelta di valore non mi dispiace affatto credo che sia un'idea molto fragile sostanzialmente perché prevede che l'uomo dopo aver stabilito la propria sovranità su se stesso poi autolimiti questa stessa sovranità sottoponendosi appunto a una rigida disciplina morale una disciplina morale peraltro in cui i valori fondanti sono prima o poi destinati a essere corrosi dalla ragione perché è irragionevole sperare che la ragione col tempo non finisca per rivolgersi anche contro il dogma minimo ora sarebbe sbagliato asserire che Vivarelli non si accorga della fragilità ossia delle contraddizioni interne che segnano questa idea erasmiana di modernità penso per esempio alle pagine sempre dei caratteri della storia contemporanea su Erasmo e Voltaire o alla notevole citazione da John Wesley il rigore religioso rende ricchi la ricchezza allontana dalla religione questo diciamo lo semplifico la citazione e il ragionamento che sono secondo me di grande interesse ciò nonostante torniamo al discorso che facevo prima sui controfattuali Vivarelli sembra cercare una via controfattuale alla tra virgolette salvezza storica del modello erasmiano in particolare criticando la Chiesa Cattolica ma anche seppure in misura minore quelle riformate per averlo rifiutato in questa maniera a mio avviso sottovaluta vuole sottovalutare ma torniamo al discorso dell'impegno civico il fatto che la debolezza la fragilità di questo modello la sua ambiguità il suo stesso carattere di nuovo centrista in qualche modo sollecitano il rifiuto del modello da entrambe le parti cioè dalla parte di chi sostiene un dogma non minimo respingendo la libertà ma anche da parte di chi respinge il dogma seppur minimo nel nome di una libertà che non vuole limitata in nessuna in nessun modo insomma in qualche modo a me sembra più logico pur come ho detto condividendo questa idea di modernità sembra più logico che questo modello centrista sia stato rifiutato e più difficile l'ipotesi controfattuale che avanza Vivarelli poiché questo modello è storicamente e logicamente fragile la sua tenuta in definitiva Vivarelli sembra affrontarla a una scelta etica radicale e in fondo eroica e da qui di nuovo il titolo di questa relazione insomma la posizione originale è centrista all'interno del campo di forze delimitato da libertà e moralità ma può essere difesa soltanto in virtù di un'opzione radicale e quest'opzione proprio per la sua radicalità richiede un che di oroico ossia non è per tutti insomma la posizione in sé è una posizione moderata che però deve essere accolta in maniera radicale e vissuta con delle scelte eroiche perché da un certo punto di vista illogiche e anche difficile da difendere sul piano storico da qui l'enfasi sull'educazione come unico strumento possibile di universalizzazione di un'opzione eroica enfasi che appartiene notoriamente a Erasmo ma anche con grande forza a Vivarelli l'epilogo dei caratteri della storia contemporanea è interamente dedicato al problema dell'educazione è un'enfasi che è del tutto conseguente starei per dire necessaria se è sufficientemente chiaro chi sia da educare tuttavia non è poi molto chiaro chi sia l'educatore e soprattutto non è chiaro come l'educatore possa educare visto che l'educazione è la libertà può passare soltanto attraverso la libertà stessa e non attraverso l'assolutizzazione dei valori e la loro imposizione autoritaria perché altrimenti usciamo dal campo liberale tornerò su questo punto parlando dell'Italia insomma è un'opera educativa estremamente fragile destinata a essere messa in grande difficoltà dagli sforzi diseducativi concorrenti che sono molto più semplici e comprensibili nel loro proporre altra virgolette volgo valori assoluti e soluzioni immediate secondo personaggio col quale Vivarelli dialoga nel ragionare del liberalismo è Adam Smith al quale sempre nei caratteri di età contemporanea dedica circa una decina di pagine e nel rispetto al quale scendiamo dal terreno filosofico su quello invece ci avviciniamo al terreno storico quanto meno che cosa caratterizza la diversità occidentale e soprattutto come è articolato l'occidente al suo interno e perché dunque le pagine che Vivarelli di Adigan Smith sono a mio avviso molto centrate e molto interessanti e smontano con efficacia una certa vulgata sullo stesso Smith ma più in generale sul liberalismo il liberalismo smithiano ha un carattere morale ha a che fare con l'amor proprio non con l'egoismo le due cose sono differenti la competizione il carattere agonistico del liberalismo in realtà è una forma di collaborazione quel che tiene insieme gli uomini è più importante ancora di quel che li separa la società commerciale è una scuola di educazione civile quindi tutt'altro che esclusivamente economico e lo Stato non svolge affatto un ruolo secondario e su questo diciamolo l'ho trovato un quadro estremamente puntuale ed efficace ma ci sono due passaggi in particolare che mi paiono cruciali uno che riguarda le precondizioni di una società libera e l'altro che riguarda la natura provvidenziale della mano invisibile smithiana punto primo le precondizioni di una società libera e qui Vivarelli parte da Anna Smith ma aggiunge una citazione di John Stuart Mill che io trovo estremamente centrata e devo dire trovando la quale in questo libro mi sono anche un po' sorpreso perché è una citazione che io avevo enucleato da On Liberty e che avevo utilizzato varie volte perché secondo me rendeva estremamente bene questo punto che secondo me appunto è un punto cruciale e quindi mi è fatto molto molto piacere diciamo scoprire retrospettivamente che avevo seguito su questo le orme del professor Vivarelli perché è una cosa che ho appunto trovato in precedenza Vivarelli appunto seguendo John Stuart Mill ma anche Anna Smith prima Smith e poi Mill vede con grande chiarezza come la società liberale possa funzionare soltanto in presenza di un determinato tipo umano caratterizzato da senso di giustizia fairness e simpatia nei confronti del prossimo compassion insomma c'è un'antropologia liberale forte c'è un'idea di essere umano liberale non è un liberale ed è un'idea un'antropologia molto robusta molto esigente il punto cruciale che Vivarelli vede con perfezione è che questo tipo umano non si dà in natura ma è esso stesso un prodotto della storia ora se per far funzionare una società liberale c'è bisogno di un certo tipo umano che è esso stesso il prodotto della storia la domanda cruciale che ovviamente è una domanda essenziale per quel che riguarda l'Italia è che cosa facciamo laddove quel tipo umano non si dà come facciamo a esportare il liberalismo o importarlo se preferite dove non mancano le precondizioni del liberalismo cioè torniamo di nuovo alla questione che già abbiamo visto parlando di Erasmo cioè ai paradossi dell'educazione liberale questo è un primo punto ma ci torneremo parlando dell'Italia secondo punto la mano invisibile è provvidenza credo che la fiducia liberale nella natura provvidenziale della mano invisibile mostri fino a che punto il liberalismo si sia esposto sul terreno di quello che Vivarelli sostanzialmente definisce la speranza secolarizzata cioè la fede nel progresso insomma il liberalismo garantisce in sostanza l'esistenza di un nesso necessario fra libertà e progresso una società libera necessariamente progredisce questa garanzia di progresso materiale ma non soltanto materiale che il liberalismo dà secondo me è utile a mostrare un elemento della storia del liberalismo e una ragione della crisi tardo-ottocentesca del liberalismo che mi pare Vivarelli proprio perché prende il liberalismo da un punto di vista etico abbia in una certa misura sottovalutato insomma fino a che punto l'ideologia liberale divenga egemone a metà ottocento non o non soltanto o non prevalentemente su base etica ma su base utilitaristica il liberalismo diventa egemone perché garantisce effettivamente progresso basti pensare a alcuni dei libri tra l'altro non particolarmente nuovi come quelli di Eugenio Biagini o Jonathan Perry sul successo ottocentesco del liberalismo che puntano molto su questo il liberalismo viene accettato dalle classi popolari perché funziona perché quello che dice promette un benessere materiale che poi riesce a realizzare se però l'affermazione del liberalismo avviene su base utilitaristica e non etica e per esempio ha scritto delle pagine molto interessanti su questo Michel Foucault quando smette di funzionare o sembra che smette di funzionare naturalmente il liberalismo entra in crisi cioè torniamo ancora di nuovo al problema dell'eroismo etico liberale che resta comunque per pochi cioè all'approccio di Vivarelli al liberalismo e fatica a conquistare le masse preoccupate da ben più prosaiche questioni di bread and butter dalla consapevolezza della crisi di questa crisi del liberalismo e delle origini di questa crisi mi pare che emerga la risposta crociana alla crisi del liberalismo sulla quale l'interpretazione di Vivarelli non mi convince pienamente cioè a mio avviso croce prova a ristabilire su base metafisica la fiducia nel liberalismo come in esso necessario fra libertà e progresso che invece sul piano empirico la storia del tardo ottocento e la guerra mondiale avevano distrutto e la ristabilisce rivolgendosi consapevolmente all'elite e lasciando poi alla storia il compito di trasformare questa verità metafisica e per pochi in una verità empirica e per molti e qui naturalmente come dire è il problema però a me sembra che il discorso sulla religione e la libertà che fa croce scaturisca da questo ragionamento e invece appunto non mi convince l'interpretazione che ne dà Vivarelli dunque il liberalismo e l'Italia seconda parte sulla quale spero di essere un pochino più rapido per non tediarvi eccessivamente come dicevo anche qui qualche osservazione preliminare e poi due personaggi Luigi Einaudi e Giovanni Giolitti ma l'osservazione preliminare in realtà in parte l'ho già fatta insomma di nuovo si parte dal problema italiano dalla questione italiana e rispetto alla questione italiana mi sembra che la diagnosi di Vivarelli non abbia bisogno di molte parole perché è una diagnosi molto chiara se vogliamo molto classica l'Italia è un paese profondamente e strutturalmente liberale affetto da una malattia morale tra virgolette cito la forte e diffusa indifferenza degli italiani per i valori che improntano le libere istituzioni e una assai scarsa disposizione ad assumersi le responsabilità di liberi cittadini non è appunto una diagnosi particolarmente particolarmente originale questa malattia morale trova le sue radici profonde nel rifiuto che la Chiesa Cattolica ha posto a Erasmo detto molto semplicisticamente poi il ragionamento naturalmente è più ampio e nell'alleanza contro riformistica frattore altare e non è affatto parentetica alla croce ma strutturale alla gobetti viene da dire caratteristica del prefascismo così come del post fascismo anche se poi nel fascismo trova una sua incarnazione particolarmente compiuta come dicevo la diagnosi in sé non mi sembra particolarmente originale neanche particolarmente interessante insomma è abbastanza nota abbastanza diffusa mi sembra molto più interessante il tema della cura non tanto la cura in generale perché la cura in generale se il problema italiano è una malattia morale la cura di nuovo non potrà che essere di natura pedagogica gli italiani dovranno essere rieducati alla alla libertà e anche questo non mi sembra una risposta particolarmente originale nel modo come gli italiani dovrebbero essere riducati alla libertà invece mi sembra che ci sia un tema abbastanza più originale che passa ovviamente attraverso il dialogo con Luigi Einaudi insomma normalmente il tema della rieducazione degli italiani passa fortemente attraverso l'intervento dello Stato attraverso uno Stato che rieduca gli italiani il che peraltro è anche comprensibile nel senso che per chi voglia produrre un progetto di rieducazione di un paese è chiaro che lo strumento che viene immediatamente sotto le mani è lo strumento statale non ci vuole gran fantasia però il ragionamento che fanno Iinaudi e i liberisti è diverso passa non attraverso lo Stato ma attraverso la libertà e mi pare che sia un ragionamento che consta di quattro passati oggi primo passaggio è una dicotomia di origine sostanzialmente spenceriana fra lo Stato democratico l'archetipo ovviamente quello britannico e lo Stato autoritario l'archetipo ovviamente quello germanico e una chiara opzione in favore del primo qui appunto lui Vivarelli riprende il discorso che fanno i liberisti seguendo Spencer passando penso a uno tra i tanti per esempio Antonio De Viti De Marco che teorizza questo abbastanza chiaramente è un tema che riprende anche Giolitti peraltro ma poi di questo dirò qualcosa più avanti la secondo il secondo punto è la convinzione che soltanto lo Stato democratico sia in grado di costruire un circolo virtuoso di fiducia fra paese legale e paese reale un circolo di fiducia tale da educare i cittadini nella libertà responsabile al civismo alla legalità alla percezione della cosa pubblica come cosa propria quindi la dicotomia si lega a un processo di natura educativa lo Stato democratico è uno Stato che educa i cittadini terzo punto la convinzione che lo Stato nominalmente liberale italiano sia stato tra virgolette sequestrato dagli interessi particolaristici ovviamente soprattutto a partire dal 1876 e quindi che sia diventata un'agenzia non di educazione ma di dis-educazione degli italiani rendendo gli italiani asserviti e irresponsabili facendo loro pensare che le istituzioni siano uno strumento privato finalizzato a perpetuare il privilegio e l'emblema di tutto questo ovviamente è la protezione eduganale è il protezionismo quarto punto e conseguente a tutto quanto questo la convinzione infine che la liberalizzazione dell'Italia cioè la trasformazione dell'Italia in un paese liberale che vuol dire anche trasformazione dell'Italia in un paese democratico e che vuol dire anche trasformazione dell'Italia in un paese moderno le cose sono fortemente intrecciate se non del tutto sovrapposte l'una anzi direi che sono del tutto sovrapposte l'una con l'altra passa ovviamente dal rovesciamento di questo modello uno stato giusto imparziale e indipendente del quale ci si possa fidare e dentro la cui cornice possa svolgersi la inaudiana anarchia degli spiriti ossia i cittadini possono godere di quella libertà regolata dalla quale scaturisce il senso di responsabilità che c'è da dire su questo ragionamento ma innanzitutto il ragionamento in astratto è sensato e oltre al fatto che tenere viva l'alternativa liberista giova a identificare i difetti reali dell'Italia liberale per differenza oltre che a mantenere sveglia una consapevolezza controfattuale utile a evitare di attribuire agli eventi del passato un carattere di necessità e come ho detto in apertura utile a non perdere ogni speranza per l'Italia però in concreto questo ragionamento in astratto si scontra con quello che si diceva prima ragionando Diana Smith e John Stuart Mill se un assetto liberale per ben funzionare ha bisogno che si diano determinate precondizioni e se in Italia quelle precondizioni non si danno come si può sostenere che quelle precondizioni saranno raggiunte costruendo un assetto liberale sarebbe come dire che un assetto liberale crea le proprie stesse precondizioni che è come dire che non ci sono precondizioni se le precondizioni ci sono perché il liberalismo funzioni bene allora quelle precondizioni per definizione non possono essere create in forma liberale perché se no già saremo all'interno di un mondo liberale insomma il ragionamento regge in concreto soltanto se si pensa che la società italiana sia matura per la libertà non è un caso che il padre spirituale dei padri spirituali di Vivarelli perdonatemi la battuta i padri spirituali sarebbero i liberisti Einaudi Salvemini il padre spirituale dei padri spirituali è Carlo Cattaneo ragionasse di una Lombardia che poteva pensare fosse già pronta la libertà ma la Lombardia non è l'Italia e lo stesso Vivarelli col suo atteggiamento di cui dicevo prima di opposizione nei confronti dell'Italia così come oggi parte dall'assunto che l'Italia appunto non sia pronta peraltro è proprio di fronte all'Italia così com'è che la classe dirigente risorgimentale decise di arretrare nei fatti rispetto al suo liberalismo teorico basti pensare naturalmente all'accentramento amministrativo nella convinzione che la creazione delle precondizioni della libertà dovesse almeno una certa misura appoggiarsi su basi non liberali insomma i liberisti e Vivarelli con i liberisti contestano in sostanza questo arretramento ritenendo che l'idea originaria ed educativa si fosse mutata in diseducativa nella loro parts destruens come critica dell'Italia liberale hanno ragione nella loro parts construens non sapremo mai se potevano aver ragione visto che hanno perduto politicamente però non c'è dubbio che la loro ipotesi abbia soffra di contraddizioni interne molto serie molto profonde e non è un caso mi pare che Inaudi cerchi di superare questo cortocircuito con un notevole colpo di reni etico tra virgolette ed è ovviamente questo il motivo per cui piace a Vivarelli il liberalismo inaudiano è virgolette la citazione da Inaudi una fede virile una dottrina maschia e Inaudi è duramente critico dell'aspirazione umana alla tranquillità e alla stabilità cioè della fuga dalla lotta se la prende con gli imprenditori italiani perché per comodità e interesse hanno accettato e sostengono il fascismo ma insomma di nuovo è una nozione eroica del liberalismo che può forse valere per delle litri strette ma difficilmente potrà farsi sentimento di massa e da qui di nuovo appunto il successo medio-ottocentesco del liberalismo su base utilitaristica e il suo fallimento tardo-ottocentesco e primo-novecentesco sempre sulla stessa base se non funziona non lo accettiamo più per ragioni per ragioni etiche e veniamo qui all'ultimo punto e cioè a Giovanni Giolitti che è ovviamente la controparte negativa di Inaudi l'antigiolittismo è con ogni evidenza una categoria utile a comprendere sia Vivarelli sia i suoi maestri da Inaudi a Salvemini alla luce delle contraddizioni del liberalismo appunto di Vivarelli e dei suoi maestri che ho evidenziato nelle pagine precedenti forse questo antigiolittismo possiamo ridiscuterlo almeno in una certa misura a favore di Giolitti rispetto a due questioni il primo è il tema delle valutazioni ritrospettive il secondo è il problema del tempo o meglio ancora della pazienza e torniamo all'aggettivo che avevo detto all'inizio sottolineando l'impazienza come cifra anche caratteriale mi sembra di Vivarelli ma che si fa anche cifra intellettuale Vivarelli studia l'Italia liberale alla ricerca delle origini del fascismo e quindi la studia in chiave retrospettiva io ho l'impressione che di questo meccanismo retrospettivo che pure critiche condanna giustamente quando viene applicato al fascismo quando lo applica all'Italia liberale invece non se ne liberi veramente mai questa è la mia impressione cioè lui partendo dal fascismo vede il fascismo diciamo ex ante però l'Italia liberale la vede esposta e continua a vederla esposta insomma ne evidenzia ne enfatizza soprattutto i difetti le fragilità le premesse del regime tirannico successivo e che è ovviamente tutto giusto e tutto vero ma è soltanto una parte del discorso faccio soltanto un esempio concreto Vivarelli nel secondo volume dell'origine del fascismo critica Giolitti perché Giolitti riavvia una politica progressista soltanto nel 1910-11 quando sostiene Vivarelli le condizioni economiche culturali internazionali sono ormai assai sfavorevoli e quindi la ripresa progressista di Giolitti è destinata al fallimento la critica col senno di poi è totalmente fondata sono completamente d'accordo ma appunto col senno di poi nel senso che nel senno di prima cioè quando Giolitti imposta quella politica all'indomani delle elezioni del 1909 il momento sembra il più favorevole che mai si sia presentato e peraltro per tanti versi è proprio quello che Giolitti fa a partire dal 1909 perché il momento gli sembra favorevole come l'allargamento del suffraggio o quello che fa sulla spinta di pressioni impossibili da ignorare come la guerra di Libia è proprio questo che contribuisce a trasformare il momento da favorevole in sfavorevole ma prevederlo prima non era mica semplice perfino per Giolitti quindi di nuovo col senno del prima certi meccanismi diventano un po' un po' più complessi peraltro Vivarelli insiste molto sul fatto che Giolitti avrebbe dovuto farlo prima all'inizio del secolo quando le condizioni erano più favorevoli e anche qui io qualche dubbio sul fatto che le condizioni politiche in questo caso fossero più favorevoli ce l'avrei soprattutto ragionando sulla crisi di governo dell'ottobre del 1903 che porta al secondo gabinetto Giolitti che secondo me è un punto di svolta cruciale politicamente e che invece appunto sulla quale invece Vivarelli si sofferma molto meno primo aspetto secondo aspetto Roberto Vivarelli sostiene che a Giolitti era strana un'idea di progresso e che si limitava a guadagnare tempo io credo che siano due osservazioni cruciali era strana un'idea di progresso e si limitava a guadagnare tempo e le sono cruciali proprio in una prospettiva liberale e sono di diverso avviso rispetto a Vivarelli in primo luogo secondo me un'idea di progresso Giolitti in realtà lo aveva l'aveva abbastanza chiara anzi molto chiara e l'aveva in una prospettiva tardo-positivistica peraltro come era come era per la sua generazione cioè Giolitti il progresso lo affidava allo spontaneo svolgersi della storia rispetto al quale la volontà umana a suo avviso poteva ben poco ma nella convinzione che in epoca di libertà quello spontaneo svolgersi della storia avrebbe avuto appunto un carattere progressista e nella convinzione inoltre di segno opposto rispetto all'atteggiamento di De Pregatio Temporum che la vicenda post-unitaria dimostrasse a luce meridiana che il progresso si stava davvero attuando in Italia cioè c'è una fede nel cammino della storia in epoca liberale passata entrati dentro l'era delle società progressive le cose in qualche modo camminano da sole e noi dobbiamo soltanto assecondarle perché camminano bene e in fondo la storia d'Italia a partire dall'unità numeri alla mano Giolitti nei suoi discorsi fa i numeri dimostrano che effettivamente il progresso si sta attuando è un'idea di progresso se vogliamo Giolitti le castagne dal fuoco se le fa togliere dalla storia possiamo ritenere che sia un errore e sicuramente storicamente si rivela un errore però non è vero che non ci sia un'idea di progresso ma se così è allora torniamo al discorso al secondo punto precedente Giolitti non si limitava a guadagnare tempo Giolitti puntava consapevolmente prima di ogni altra cosa a guadagnare tempo non era una strategia di risulta era la strategia guadagnare tempo far passare il tempo perché il tempo di per sé risolve i problemi nella convinzione appunto che lo spontaneo svolgersi progressivo della storia avrebbe tolto le castagne dal fuoco all'Italia si è generato un circolo virtuoso fra istituzioni e cittadini tale che quelle le istituzioni sarebbero diventate sempre più liberali e questi i cittadini sempre più adatti alla libertà tale insomma da risolvere le aporie contenute nella necessità storica di costruire le precondizioni per un sistema liberale la parola chiave per comprendere il giolittismo in questa prospettiva è insomma pazienza una parola chiave peraltro del liberalismo più in generale stando a un autore molto amato da Viverelli come Lord Acton che però questa citazione non la riproduce forse non la conosceva perché non è delle opere edite di Acton dice Lord Acton il tempo è il grido naturale del liberalismo insomma la pazienza di un liberalismo che rimane centrista non si fa radicalizzare e non crede di aver bisogno di eroi un liberalismo che però naturalmente fallisce con quella guerra della quale Giolitti aveva lucidamente e direi più lucidamente degli interventisti democratici previsto le conseguenze e un liberalismo che comunque non poteva in alcun modo essere apprezzato da uno storico impaziente grazie grazie molte io penso che come previsto dal programma possiamo adesso fare una pausa una pausa che può essere sfruttata tra un attimo per avere un coffee break che si fonda che si trova nel corridoio in fondo ma se volete prima possiamo fare una breve visita qui nella sala del ballatoio dove sono esposte alcune delle carte che si possono trovare nel fondo Vivarelli appunto lettere salvemini chabot e alcune altre carte che potrete che possiamo vedere riprendiamo alle 18 fra mezz'ora ecco penso che possiamo riprendere la seconda sessione di questa giornata ecco come avete visto questa piccola esposizione di carte di documenti resterà anche domani per cui se qualcuno di voi desidera vedere in maniera più approfondita qualcuna delle lettere che sono esposte anche chiedere ulteriori informazioni sul fondo Vivarelli domani per tutta la giornata è a vostra disposizione ora riprendiamo il nostro percorso di indagine sulla figura di Roberto Vivarelli con l'esposizione di Paola Carlucci che ringrazio per aver accettato direi subito immediatamente anche con mi pare con ben volentieri insomma l'invito che avevamo rivolto di tenere questa relazione sulla questione agraria nella ricerca di Vivarelli che presenta questo sottotitolo il realismo politico nell'Italia liberale e sono dunque lieto di darle la parola grazie infatti io inizio questa relazione con un ringraziamento non rituale per l'invito ad affrontare un tema che senza dubbio è stato il punto di maggiore incontro fra me e Roberto Vivarelli certamente come Mauro Moretti e Roberto Pertici forse ricorderanno è stato anche il punto di maggiore scontro con lui tuttavia questo scontro per quanto non privo di asprezze non ha mai interrotto il nostro scambio di vedute e il nostro rapporto personale che mi permetterei di definire affettuoso quindi di percorrere questo tema mi ha permesso oltre che di riflettere nuovamente su un argomento centrale per la storia d'Italia di riprendere anche i fili del mio rapporto con Roberto Vivarelli dopo questa premessa personale inizio la relazione vera e propria che sarà divisa in due parti la prima dedicata alla questione agraria o meglio ancora contadina e vedremo fra breve le implicazioni sottese all'utilizzo dell'una o dell'altra espressione alla sua genesi nel pensiero di Vivarelli e al suo concreto di spiegarsi nella sua opera in questo intervento mi s'efformerò sul primo paragrafo dedicato appunto alla questione contadina del lungo quarto capitolo che chiude il secondo volume della storia delle origini del fascismo perché evidentemente è questa trattazione che è connessa alle voci di realismo politico di cui tratterò nella seconda parte del mio intervento del resto che il paragrafo la questione contadina costituisse una sorta di trattazione a sé stante e che ad essa Vivarelli attribuisse una particolare importanza lo dimostra la sua pubblicazione in anteprima sulla rivista storica italiana nell'aprile del 1990 dopo la questione contadina dunque la seconda parte è dedicata alle voci di realismo politico qui ovviamente per ragioni di tempo mi soffermerò sulle principali di queste voci cioè Iacini Sonnino e Fortunato ma bisogna tener conto che Vivarelli tenebbe presente anche altre più o meno note dagli ovvi Pasquale Villari e Leopoldo Franchetti a voci meno note ma non meno significative come Francesco Guicciardini e altri inizio dunque la prima parte della mia relazione dedicata e questa prima parte appunto dedicata alla questione agraria e contadina il 23 giugno del 1980 scusandosi per il grande ritardo con cui rispondeva all'invio dell'estratto della recensione apparsa l'anno precedente sulla rivista storica italiana del suo libro da contadini a francesi così Eugene Weber scriveva Roberto Vivarelli una buona recensione è sempre un piacere ma io sono particolarmente grato per la per la tua comprensione del mio intento del significato di ciò che volevo dire come quando a pagina 62 discuti il termine modernizzazione questo è un punto molto importante che riprenderò dopo come tu dici verso la fine la storia che io racconto è una storia di progresso è difficile ritenere conservare la fede nel progresso quando uno vive nel mondo occidentale oggi ma i cambiamenti della fine del secolo sembrano suggerire l'appropriatezza di una nozione di questo tipo per quei tempi non so quanto la lettera abbia fatto piacere a Vivarelli dovrebbe anche se un apprezzamento del genere non poteva che gratificarlo tuttavia Vivarelli non amava i ritardi nelle risposte chiunque gli scrivesse come è ampiamente dimostrato dal suo carteggio al di là di questa speculazione biografica la lettera di Weber è importante oltre che per vari più specifici punti di uno di questi parlerò più tardi e di altri di cui discuterò nel testo scritto anche perché ci aiuta a comprendere quello che ho definito la genesi della riflessione di Vivarelli sulla questione contadina Weber infatti affermava il tuo articolo del 1978 mi ha aiutato a illuminare la tua recensione così come quest'ultima è stata arricchita dal tuo interesse per la politica dell'Italia rurale l'articolo a cui Weber si riferisce è rivoluzione e reazione in Italia negli anni 1918 1922 apparso nel 1978 nel volume rivoluzione e reazione in Europa 1917 1924 curato da Leonardo Rapone e che raccoglieva gli atti del convegno storico internazionale tenutosi a Parì e Perugia nel 78 articolo poi apparso in inglese in The Journal of Italian History e incluso infine nel fallimento del liberalismo del 1981 non che prima del 1978 fosse mancato l'interesse di Varelli per la questione agraria come lui stesso scriveva nel 2011 nell'introduzione alla riedizione edita da Rubettino del suo saggio liberismo protezionismo fascismo era stata la lettura della rivoluzione industriale offerta da Rosario Romeo nel 1955 a lasciarlo insoddisfatto affermava Vivarelli in particolare la lettura della rivoluzione industriale che implicitamente nelle pagine di Romeo e degli studiosi con lui concordi si veniva a dare mi sembrava inaccettabilmente riduttiva in particolare quella lettura non teneva conto del fatto che uno sviluppo economico limitato al settore industriale e che lasciava inalterate le tradizionali strutture del mondo contadino non solo mancava di produrre sul piano della vita civile quei risultati che corrispondono a una rivoluzione liberale ma era destinato ad alimentare tensioni sociali difficilmente contenibili nel quadro delle libere istituzioni pur non intervenendo direttamente nel dibattito successivo all'opera di Romeo come sempre lo stesso Vivarelli rammentava nel 2011 evidentemente lo storico sinese iniziò a riflettere in maniera sempre più approfondita su queste questioni e per quanto riguarda questa relazione sulla situazione delle campagne italiane è sintomatica a questo proposito la vicenda risalente al 1961 di una mancata recensione di Vivarelli al volume curato da Renato Zancheri Lotte agrarie in Italia è apparso nel 60 per l'istituto Gian Giacomo Feltrinelli volume che lo stesso Vivarelli aveva proposto ad Armando Saitta che lo solicitava a collaborare alla nascente critica storica la recensione a Zancheri Vivarelli non la scrisse mai perché distratto da un'altra recensione quella al volume di Paolo Alatri nitti d'annunzio alla questione adriatica su cui ebbe un vivace scambio di opinioni per usare un eufemismo con Saitta la conclusione della vicenda fu che la recensione Alatri apparve sulla rivista storica italiana tuttavia è interessante che Vivarelli in prima battuta proponesse proprio una lettura del libro curato da Zancheri successivamente nell'assai bella recensione alla storia d'Italia di Christopher Seaton Watson 1967 recensione apparsa nel 70 sulla rivista storica italiana uno dei migliori esempi di quella che definirei l'arte di recensore di Vivarelli la rilevanza dell'assai difficile situazione della maggioranza dei cittadini italiani cioè dei contadini era chiaramente evidenziata ed anzi a questo proposito Vivarelli parlava espressamente di questione sociale tuttavia è nell'articolo del 78 rivoluzione e reazioni in Italia che ho appena rammentato da Weber nella sua lettera che si trova anticipata nella maniera più avviso più chiara la tesi che sarà poi al centro della lunga trattazione e reagitazione delle campagne contenuta appunto nel secondo volume della storia delle origini del fascismo la tesi è che il terreno su cui più acceso si manifestò lo scontro di classe non fu a mio avviso sostiene Vivarelli quello dell'agitazione industriale bensì le lotte nelle campagne e di conseguenza sulla scorta dell'analisi di Barrington Moore che per alcuni aspetti è molto importante nella riflessione di Vivarelli la necessità di riflettere che suggeriva Vivarelli sulla stretta correlazione tra regimi agrari e evoluzione politica degli stati moderni di qui l'assunto fondamentale del successivo pensiero di Vivarelli il rapporto tra protezionismo cerealicolo e evoluzione politica di stampo nazionalistico in questo contesto si trova chiaramente enunciata un'assenza che spiega il successivo evolversi della ricerca e dell'analisi di Vivarelli sulla questione agraria e contadina l'assenza è quella cito di studi più specifici che illuminano la storia delle campagne italiane dopo l'unità non semplicemente nel loro aspetto economico bensì anche nei suoi aspetti sociali e facendo attenzione tutto ciò che nei documenti le prevalenti strutture mentali nel 1978 i punti di riferimento per l'analisi di Vivarelli sono soprattutto Religion and the Decline of Magic di Keith Thomas del 1971 e pur non mancando richiami a altri grandi studiosi come Bloch ad esempio e Gerschenkron è importante a mio avviso anche il riferimento a Sereni e al suo capitalismo nelle campagne Vivarelli infatti afferma che le acute e suggestive indicazioni di Sereni relative al mutamento dello stato d'animo della guerra all'indomani della grande guerra e del progressivo processo di politizzazione non erano state a parere non erano state in alcun modo raccolte e sviluppate ritornerò su Sereni e la sua importanza che un po' cambia nell'opera di Vivarelli nel testo scritto ma quello che mi preme ora dire è che è in dubbio e chiaro nelle sue linee essenziali l'approccio di Vivarelli ai problemi agrari e alla questione contativa prima del suo incontro con la grande opera di Eugene Weber da contadini a francesi apparsa ricordata in versione originale nel 1976 tuttavia la lettura di Weber senza dubbio chiarisce e amplia gli orizzonti di Vivarelli come testimone all'importante recensione appunto già ricordata apparsa sulla rivista storica italiana del 1979 ai contadini francesi tra il 1870 e il 1914 non mi posso soffermare qui partitamente su questo scritto ma e sulle conseguenze di esso conseguenze che vanno menzionate perché come lo stesso Vivarelli richiama nell'introduzione al volume apparso nel 2004 per storia e storiografia questa recensione generò una polemica epistolare di cui vi è traccia qui nell'archivio con Carlo Ginzburg una polemica molto dura che generata dal fatto che nell'introduzione all'edizione di Peter Burke cultura popolare nell'Europa moderna Ginzburg attaccava violentemente Vivarelli e la sua recensione a Weber Vivarelli gli rispose con una lettera privata e da qui partì uno scambio che non venne mai reso pubblico se non appunto c'è un richiamo nella in questa nell'introduzione al volume storia e storiografia e mi intratterrò in maniera un po' più specifica su questa cosa certo fu una polemica che ferì molto Vivarelli perché lui ritenne che Ginzburg l'avesse sostanzialmente accusato di disprezzo per il mondo contadino e degli umili cosa che Vivarelli non poteva non poteva accettare in qualche maniera comunque voglio sottolineare almeno alcuni punti che Vivarelli ricava dalla lettura di Weber i caratteri della condizione contadina sono povertà brutalità isolamento e rispetto a questi caratteri bisogna valutare il valore della trasformazione appunto della francese da contadini della trasformazione culturale delle campagne l'altro punto importantissimo è che la progressiva politicizzazione delle campagne francesi non avviene nel segno dell'antipatriottismo bensì la Francia quindi attuò prima del 1914 la sua nazionalizzazione delle masse e questo è centrale per Weber modernizzazione significa dissoluzione dei particolarismi e integrazione dei ceti contadini nell'insieme di un tessuto civile nazionale il quale è improntato dai valori della civiltà quindi modernizzazione vuol dire urbanizzazione e questo fatto viene appunto accettato proprio da Weber questa interpretazione viene appunto accettata da Weber nella lettera che ho in precedenza menzionata più in generale rivoluzione agricolo-industriari il termine il viverelli rifiuta recisamente che questo termine possa avere significato solo economico e c'è la necessità di un significato più ampio e quindi la necessità di valorizzare le trasformazioni sociali e culturali va tenuto conto che le ricerche sul mondo agrario e contadino di viverelli si collocano a metà fra il suo interesse e il suo confronto con la storiografia straniera in particolare anglosassana infatti per questo mi dispiace molto che non ci sia tagliaferri domani e allo stesso tempo il suo confronto con quello che accadeva nella storiografia italiana dell'epoca sono anni in cui questi temi sono molto dibattuti in Italia e tra l'altro come dimostra la fondazione del centro studi per la storia delle società rurali in età contemporanea voluta da Pasquale Villani e che ancora esiste presso l'Università di Napoli e a questo centro studi si deve l'organizzazione del convegno trasformazione delle società rurali nei paesi dell'Europa occidentale e mediterranea nell'ottobre del 1982 i cui atti vennero poi pubblicati anni dopo nel 1986 durante quel convegno a cui tra l'altro partecipò proprio Jim Weber Roberto Vivarelli prese parte alla tavola rotonda finale a cui parteciparono tutti i maggiori studiosi italiani dell'epoca Cafagna Caracciolo della Peruta De Rosa Mirri Rossidoria Ventura Villani Rosario Villa il suo intervento fu evidentemente apprezzato perché tramite Mario Mirri gli venne chiesto di compilare una nota al convegno nota che appave su società e storia nell'aprile giugno del 1983 in questo breve testo Vivarelli riaffermava alcuni dei punti essenziali della sua visione dell'evoluzione delle campagne europee tra 800 e 900 in primo luogo la necessità di porre tale evoluzione all'interno di un quadro generale questa è una necessità che lui richiamava molto spesso il punto di riferimento di questo quadro generale era la rivoluzione industriale di cui scriveva Vivarelli le trasformazioni delle società rurali ci appaiono in tal senso proprio come uno dei momenti più significativi ha affermato questo principio Vivarelli riteneva che per valutare le importanze e la complessità di questo rapporto era necessario analizzare le trasformazioni delle società rurali sotto vari aspetti quello economico sociale quello demografico quello culturale e quello politico pur in un contesto generale estremamente loggiativo del convegno napoletano Vivarelli notava che la gran parte delle relazioni mancavano di riferimenti al quadro generale da lui così delineato in particolare si soffermava sugli aspetti culturali e politici che evidentemente gli erano più cari e più conosciuti e per quanto riguardava i primi richiamava di nuovo i lavori di Keith Thomas di Eugene Weber e fondamentale per lui per comprendere tutto il suo pensiero David Lanz che avevano ampiamente dimostrato che le grandi trasformazioni che caratterizzano la nostra epoca corrispondono ad una grande rivoluzione culturale con la quale un intero sistema di valori viene sovvertito e sostituito con un diverso quadro di riferimento in base ad una nuova visione del mondo tali aspetti come Vivarelli non mancava di rilevare erano sicuramente ben presenti agli organizzatori del convegno tanto che avevano dedicato una sessione specifica tuttavia le relazioni a questo riguardo erano particolarmente deficitarie Vivarelli affermava che tale stato di cose dipendeva forse da una singolare situazione degli studi poiché qui più che altrove mancava la guida di un discorso generale intorno al quale collegare i propri risultati particolari e ciò vale soprattutto per l'Italia a mio avviso quel discorso generale Vivarelli intende fornire con il grande affresco sulla questione contadina con cui egli apri il quarto e ultimo capitolo del suo volume sulla storia delle origini del fascismo tra parentesi va detto che questa trattazione fu particolarmente apprezzata nelle recensioni non sempre positive al volume del 91 e recensioni su cui poi tornerò partitamente nel testo scritto in primo luogo rileggendo in questi giorni il saggio perché di quello si tratta anche se organicamente inserito in un libro non posso nascondere la mia ammirazione per la padronanza di Vivarelli di una massa sterminata di bibliografia bibliografia va detto francamente anche indigesta quando si scende nei dettagli più propriamente tecnici non mi posso soffermare ora sull'analisi condotta da Vivarelli che comunque andrà letto in parallelo anche con risultati coevi della storiografia come quelli contenuti nella storia dell'agricoltura italiana di Piero Bevilacqua e altri volumi che apparono in quel periodo Vivarelli divide la sua analisi in tre parti le condizioni di lavoro le condizioni materiali le condizioni morali per quanto riguarda le prime le condizioni di lavoro Vivarelli richiama tra l'altro le inchieste classiche in materia di Sonnino e Franchetti sulla Sicilia e il Mezzogiorno continentale la conclusione di Vivarelli relativa alle condizioni di lavoro conduce senza soluzione di continuità alla seconda parte dedicata alle condizioni materiali cito dato la stretta e diretta correlazione tra redditi e condizioni materiali è naturale che in un contesto sociale nel quale il lavoro era al tempo stesso scarso e assai mal remunerato le condizioni materiali fossero caratterizzate da una diffusa e generale miseria e di questa profonda miseria Vivarelli ci offre un quadro articolato così come della conseguente miseria morale che predomina nelle classi rurali italiane l'epilogo non poteva che essere opposto a quello di Eugene Weber a proposito dei contadini francesi nel suo primo mezzo secolo di storia l'Italia non aveva saputo attuare una trasformazione culturale delle campagne il che equivale a dire che non aveva risolto il problema della nazionalizzazione delle masse la concreazione sostanziale di Vivarelli a questa articolare analisi si trova in realtà già nell'avvio del saggio come vogliamo chiamarlo e riprende nella sostanza quello che egli era andato affermando ormai da più di un decennio la modernizzazione dell'agricoltura italiana riguardò solo una minima parte del territorio nazionale la valle padana e non tutta altrove laddove vi furono progressi non vennero però modificate le strutture tradizionali e quindi il modo di pensare più in generale la mancata soluzione della questione contadina debba deve in realtà ricercarsi più che nel semplice terreno dell'agricoltura in quel più vasto intreccio di condizioni che impedirono in Italia una più spedita via verso l'industrializzazione ai fini della seconda parte di questa relazione che inizia qui a prendere le sue mosse quello che però maggiormente conta sono le osservazioni di Vivarelli relativi a coloro che della denuncia della questione aggrave della questione contadina furono i principali artefici Vivarelli apriva infatti la sua trattazione della questione contadina con una citazione di Stefano Iocini tratta dalla sua interpellanza al Senato nel 1885 in merito alla crisi agraria vale la pena di riportarne almeno una parte si può dire che nulla è più certo di questo che in Italia esiste un grosso problema agrario complesso multiforme racchiudente l'avvenire del paese che la nuova Italia trascina con sé fino dalla sua origine e che ella ha il dovere di risolvere completamente se vuole mostrarsi degna della sua fortuna politica Vivarelli commentava così le parole di Iocini cito quando il 27 aprile del 1885 presentando un'interpellanza per conoscere gli intendimenti del governo circa le conseguenze politiche che emergono dall'inchiesta agraria Stefano Iocini pronunciava alla camera queste parole la questione contadina che del problema agrario era il punto più dolente si trovava ormai da oltre un decennio alla ribarta della vita pubblica era un problema che al di là delle differenze tra le varie aree dell'Italia agricola era comunque sempre presente ben oltre i dati obiettivi del fenomeno tuttavia ciò che dopo il 1860 conferiva ad essa la sua specifica rilevanza politica era il carattere stesso delle istituzioni che il regno d'Italia si era dato in uno stato liberale la cui prassi di governo si improntava regime parlamentare dove i cittadini erano chiamati a concorrere alla vita pubblica non soltanto attraverso i pesanti obblighi a cui erano tenuti ma anche attraverso i diritti politici di libertà di parola di associazione e di riunione di cui almeno formalmente godevano uno stato che si configurava insomma come una res pubblica il problema del consenso acquistava un'importanza vitale ora assicurare alle libere istituzioni il consenso di quelle moltitudini di plebe rurale che costituivano la larga maggioranza dei cittadini italiani non era certamente possibile senza dare al tempo stesso una risposta alla questione contadina se nei primi anni del regno era spiegabile che i governi si fossero concentrati sulle emergenze più immediate e in questo senso Vivarelli respingeva il rimprovero di Sereni relativo alla mancata attuazione di una rivoluzione agraria dopo il 1870 le cose erano radicalmente uso il suo avverbio cambiate vi era stato un fervore di iniziative avviate dai ascini con la pionistica monografia del 1854 sulla Lombardia in questo contesto per Vivarelli l'inchiesta agraria guidata da Acini si pone come l'atto finale di un processo attraverso il quale la classe dirigente liberale era gradualmente pervenuta ad acquisire piena consapevolezza dei termini effettivi della questione sociale così come dei pericoli che essa rappresentava per la stabilità delle istituzioni Vivarelli riprendeva poi anche una lunga citazione da uno dei primi discorsi parlamentari di Sonnino 7 luglio 80 macinato in cui si diceva senza giri di parole come era uso del politico toscano che la classe rurale si è disaffezionata alle nostre istituzioni e io ritengo che uno stato moderno non possa mai essere vigoroso se adesso e dalla sua prosperità non partecipi col cuore e non soltanto con la borsa la gran massa della popolazione i contatini rappresentano più del 60% della popolazione e l'Italia non sarà mai forte non sarà mai sicura del proprio avvenire finché il contadino nostro non si sentirà veramente italiano Vivarelli rilevava come dalla riflessione di coloro che più specialmente si erano in quegli anni fermati sul problema agrario con l'intento di trovarvi di medio emergevano sostanzialmente due indicazioni le quali possono a prima vista apparire contraddittori la prima risalente a Cattaneo assegnava al dato economico una posizione chiave esaltava la potenzialità del lavoro e soprattutto il ruolo dell'imprenditore come creatore di ricchezza la seconda indicazione poneva invece in primo piano il dato sociale e preoccupandosi in primo luogo della latente conflittualità che si celava nel profondo distacco tra proprietari e contadini riteneva di importanza prioritaria che a tale malanno si ponesse in qualche modo fine continuava Vivarelli ora quanto più si riconosca che una delle condizioni del progresso economico è la capacità del sistema politico di controllare la conflittualità sociale tanto più si dovrà ammettere che oltre ogni riserva dettata da una logica troppo astrattimenti economicistica le stanze favolevoli a ridurre nelle campagne italiane la distanza tra proprietari e contadini corrispondevano in ultima analisi anche ad una chiara esigenza economica sicché lungi dal presentarsi come alternative le due pur diverse indicazioni potevano ben concorrere allo stesso fine di un progresso agario svolgendo fra di loro un ruolo complementare al di là del fatto che come sottolinea Vivarelli l'azione pubblica non tiene in alcun conto né l'una né l'altra di queste due indicazioni a mio avviso il punto è che la complementarietà prospettata da Vivarelli non venne mai presa in considerazione dai due massimi protagonisti massimi non solo per le loro opere ma anche per il loro ruolo politico del dibattito sulla questione agraria e contadina e cioè Stefano Iocini e Sidney Sonnino le cui linee di riflessione e di azione proseguirono negli anni parallele senza mai incontrarsi anzi come ho cercato di ricostruire più partitamente altrove non mancarono gli scontri entrambi va detto sostanzialmente isolate per ragioni molto diverse nel panorama politico italiano Iocini svolse la sua analisi e propose i suoi rimedi alla luce della convinzione che cito dalla sua conclusione del 1884 all'inchiesta agraria proprietari rurali e coltivatori sono compagni di sventura e della medesima sventura la scarsezza cioè della produzione agraria in confronto del numero soverchio dei coltivatori e dei possidenti quindi si trattava di un problema di produzione opposta invece la posizione di Sonnino per il quale solo una migliore distribuzione della ricchezza delle campagne poteva portare ad una magnifica reale della situazione dei contadini per Sonnino infatti pur riconoscendone la straordinaria importanza il progresso agricolo e i conseguenti aumenti di ricchezza e di benessere possono nello stato attuale dei rapporti economici che passano tra i proprietari del suolo e i coltivatori non giovare affatto a quest'ultimi e che anzi la condizione loro può nello stesso tempo peggiorare una volta stabilita l'importanza della distribuzione al fine di affrontare la questione agraria per Sonnino la questione agraria diventa necessariamente e soprattutto questione contadina da qui la non equivalenza tra questione agraria e questione contadina perfettamente chiara anche i contemporanei questione contadina che anche e soprattutto questione sociale l'impostazione sostanzialmente diversa di Acini e Sonnino si riflette in una reciproca e costante polemica a tratti feroce in occasione dell'inchiesta agraria Sonnino e con lui Franchetti e Villari attaccarono senza mezzi termini sulla rassegna settimanale l'andamento dell'inchiesta agraria le sue conclusioni e la stessa sua impostazione iniziale gli Acini dal canto suo nelle sue conclusioni all'inchiesta non mancò di polemizzare con il gruppo sonniniano rilevato che in Italia relativamente ai lavoratori del suoro la storia loro non potrebbe essere più triste gli Acini tuttavia affermava che questa constatazione indusse Taluni a passare da un estremo all'altro a riguardare i contadini come un ente astratto il quale possa essere studiato indipendentemente dalle tiranniche esigenze dell'agricoltura una tirannia di cui non si avverte nemmeno l'esistenza e a considerare i contadini come tutti miserabili affermazione quest'ultima del tutto inaccettabile concludendo che in Italia esiste una questione sociale nelle campagne affermazione quest'ultima del tutto inaccettabile per gli Acini dalle differenze di impostazione generale derivavano molte specifiche differenze non mi posso ovviamente trattenere su questo ma menzionerò solo la diversa concezione di diritti reali e collettivi e anche di antiche forme contrattuali per gli Acini tutto questo tipo di tutto questo tipo di diritti dovevano essere completamente cancellati e liberare la proprietà rurale dei vincoli gravami che la inceppano in più modi per Sonnino era l'opposto abolire tutto questo patrimonio chiamiamolo anche medievale voleva dire la cancellazione di diritti voleva dire un aumento delle cause di depoperamento per la classe dei contadini infatti egli guardava con favore alla persistenza anche di antiche forme contrattuali in particolare del censo si badi bene non si tratta di astratti tecnicismi tecnicismi che peraltro volutamente utilizzato in omaggio a Vivarelli che si era umilmente calato in questo mondo arcano e lo padroneggiava perfettamente tanto da costituire una guida importante in questo campo si trattava di questioni sostanziali perché dietro questo scontro di opinioni tra Ceno e Sonnino c'era una differente concezione della proprietà la formazione economica di Sonnino è sulla base di autori e testi in cui costante rifiuto o perlomeno la critica all'idea di proprietà individuale così come era stata tramandata dal diritto romano nel corso dei secoli non è quindi strano che gli affermi senza mezzi termini nei contadini sicilia nel 1876 che la proprietà privata territoriale nella sua forma quiritaria è una creazione della legge tra i relatori dell'inchiesta agaria governativa prevalse nettamente l'impostazione di Ascini del tutto fedele alla concezione romanistica della proprietà tuttavia come ha sostenuto Paolo Grossi in uno studio fondamentale del 1977 un altro modo di possedere uno studio ben presente a Vivarelli che me lo ha fatto conoscere proprio l'inchiesta governativa è il tramite naturale per cui si realizza un'emissione piena e chiara della proprietà collettiva e si afferma la rilevanza del fenomeno in Italia in particolare grazie a figure quali quelle di Agostino Bertani e Ghino Valenti non mi posso ovviamente soffermare su questi personaggi ma quello che è importante sottolineare è che questi temi furono fondamentali per Leopoldo Franchetti le cui inchieste e successive interventi sono ovviamente punti di riferimento per Vivarelli come ho già avuto occasione di accennare e soprattutto per Giustino Fortunato i cui studi sulla questione dei Magnali rimangono un classico è ovvio che è Fortunato un ruolo centrale anche rispetto al pur fondamentale Jacini nella speculazione di Vivarelli in quanto punto di riferimento per la sua interpretazione delle origini del fascismo non è ovviamente mio compito soffermarmi su questo piuttosto vorrei offrire alcune ulteriori considerazioni sulle voci di realismo politico un'espressione che Vivarelli riprende in più occasioni e su cui più esplicitamente riflette in un saggio del 1994 l'eredità liberale del risorgimento dopo l'unità che raccoglie il suo intervento al convegno il mito del risorgimento nell'Italia Unita tenutosi a Milano nel novembre del 1993 come è noto l'espressione voci di realismo politico risale al 1937 del titolo del volume di Enzo Tagliacozzo sulla cui figura ritornerò alla fine di questo intervento volume apparso presso la terza ma mi sembra che sia in uno scritto successivo il capitolo la cultura italiana e il fascismo apparso nel volume del 2008 fascismo e storia d'Italia che vi farei da forse la sua migliore definizione di quello che intende per voci di realismo politico voci cioè di un'Italia riportata da cielo in terra fatta di monti e di piani abitate da persone in carne e ossa voci che volevano conoscere le condizioni effettive per impararne i problemi e approntarne i possibili rimedi mettere a nudo le piaghe per poterle sanare non posso evitare di dire che in questa definizione mi sembra riconoscere tutta l'empatia di Vivarelli per questi uomini lui che in un'intensa lettera a Galante Carrone in un momento di difficoltà di quest'ultimo riscriveva per fortuna ed è una delle non poche cose che ci uniscono credo che tu ed io siamo rimasti in gran parte uomini dell'Ottocento cioè fedeli ad un'etica del dovere che nelle circostanze avverse è di non poco aiuto nel saggio del 1994 sull'erodità del risorgimento Vivarelli si augurava che venisse valorizzata la varietà all'interno della classe dirigente liberale ma esprimeva anche un giudizio netto già richiamato prima da Ursina sulla svolta del 1876 Vivarelli lo definiva tornante per cui finiva in quella fase in quella destra pur con tutti i suoi limiti le sue differenze interne aveva ben assolto la funzione primaria di una classe dirigente cioè quella di farsi garante dell'interesse generale mantenendosi comunque con tutti i suoi limiti fedeli agli ideali liberali così non fu dopo il 1876 a parere di Vivarelli con l'avvento della sinistra al potere la successiva svolta nella politica estera ed economica ecco su questa interpretazione forse occorre inserire un quadro più sfumato proprio per quello che Vivarelli invucava in generale per la classe dirigente liberale possono aiutare a tal fine alcune annotazioni relativi a Giustino Fortunato sempre nel saggio del 94 che ho richiamato più volte Vivarelli ricordava le tappe della progressiva opposizione di Fortunato all'indirizzo di governo deciso dalla sinistra come è più che noto dopo aver collaborato alla rassegna settimanale Fortunato entrò in politica nel 1880 lo stesso anno in cui anche Sonnino venne eletto deputato e proprio con Sonnino Fortunato fece inizialmente parte di un minuscolo gruppo parlamentare detto dei rassegnati che ci teneva a distinguersi tanto dalla destra che dalla sinistra un gruppo che predicava la nascita di un nuovo raggruppamento al di fuori appunto delle vecchie sigle politiche da questo gruppo inizialmente critico del trasformismo si avvicinò mano a mano a De Pretis e per un certo periodo fece anche parte della maggioranza parlamentare de Pretisiana prima di entrare nella maggioranza in questo gruppo dalla fronte dei rassegnati Fortunato combattì con Sonnino alcune battaglie comuni perfettamente coerenti con la loro speculazione giovanile in primis la richiesta per l'abolizione della tassa sul macinato e nel contesto del dibattito sull'argamento del diritto a voto l'affermazione della necessità del soffraggio universale e però già a partire dalla quindicesima legislatura quindi subito praticamente che le strade politiche non personali di Sonnino e Fortunato iniziano a divergere non è possibile ripercorrere tutti i motivi di questo distacco però bisogna dire che le ragioni per cui Sonnino si oppose alla fine a De Pretis e cioè la politica estera l'opposizione netta alla politica coloniale così come condotta da Mancini e la politica finanziaria cioè quella così come gestita da Magliani non trovarono consenziente Fortunato che invece rimase fedele a De Pretis in questa fase e questo secondo me è un punto che varrebbe la pena su cui varrebbe ulteriormente la pena di riflettere così come sull'ulteriore cammino di Fortunato di appoggio che fu molto vicino come è noto a Zanardelli e quindi sul suo rapporto anche con la sinistra tutte queste prese di posizione di Fortunato ovviamente non inficiano la sua parabola successiva la sua adesione al liberismo e così via ma tuttavia dovrebbero aiutare a fornire un quadro più mosso delle ragioni di alcune scelte della classe dirigente liberale e è un tema troppo ampio che ovviamente non posso qui affrontare per esempio il rapporto con la destra cioè Fortunato e Sonnino nascono come critici della destra fortemente critici della destra non fortemente però insomma comunque sono vicini a Minghetti e a Sella fanno anche dei progetti comuni con loro per esempio nell'ambito della legislazione sociale però comunque la loro critica non è secondaria infine vorrei ricordare la svolta del 1887 che per Vivarelli è ovviamente molto importante con il voto parlamentare a favore del Dazio sul grano e della tariffa protettiva sulle ragioni che indussero Iacini ad appoggiare il Dazio sul grano ha svolto molte considerazioni Maria Grazia Missaggio nel suo volume su Iacini un libro fortemente voluto da Roberto Vivarelli quindi io non mi soffermo su questo vorrei invece ricordare che nelle opposizioni al Dazio sul grano si ricompattò il vecchio fronte tra Sonnino Franchetti e Fortunato che coerentemente votarono contro questo provvedimento considerato negli ultimi anni da un economista come Stefano Fenaltea come un irreale impedimento allo sviluppo industriale italiano assai più della mal struttura mal concepita dei Dazi industriali infatti la scelta favorevole al Dazio sul grano fu il rifiuto di dimensionare un settore tradizionale il che influì sul fatto che lo sviluppo industriale italiano sia rimasto a lungo parziale e zoppicante Vivarelli nella recensione a Seton Watson prima richiamata aveva espresso un giudizio simile che le voci di realismo politico che si dedicarono all'analisi della situazione agraria e contadina fossero tra loro dissonanti e non prive di contraddizione emerge anche da alcuni appunti contenuti nelle antiche pagine di Enzo Tagliacozzo un personaggio che come più volte è sottolineato a Vivarelli meriterebbe un'attenzione maggiore di quella che gli è stata finora dedicata amico fraterno di Emilio Sereni sin dall'adolescenza per le sue origini ebraiche e le sue posizioni politiche negli anni del fascismo Tagliacozzo fu costretto ad emigrare negli Stati Uniti dove divenne assistente di Salvemin a cui fu vicino fino alla morte e di cui Curoi organizzò molta parte della pubblicazione degli scritti come è noto esistono varie interessanti testimonianze tra l'altro dei rapporti personali tra Tagliacozzo e Vivarelli in questa fase di comune lavoro non posso ovviamente soffermarsi su di esse ma rammentare un episodio che ci conduce ad altri personaggi ad altre storie personaggi e storie che ancora una volta Vivarelli mi aveva avviato a studiare nel 1939 un altro esore del fascismo Nicola Chiaromonte che di lì a poco in terra americana con Salvemini e Tagliacozzo avrebbe condiviso molti pensieri e esperienze scriveva da Parigi alla sorella riguardo ad un progetto sulla Basilicata che aveva intenzione di portare avanti con un amico e quell'amico era Ignazio Silone scriveva dunque Chiaromonte se si trovasse senza difficoltà anche l'inchiesta di Sonnini e Franchetti sulla Basilicata sarebbe preziosa il risultato di tutto ciò dovrebbe essere un libro destinato a far capire qualcosa di una vita molto sconosciuta a quelli che non ne hanno nessuna idea e si lasciano quindi guidare dai soliti luoghi comuni uscire da luoghi comuni andare alla radice delle cose questa mi sembra la lezione viva di quelle voci di realismo politico che Vivarelli aveva così costantemente valorizzato una lezione che insieme ad altre che ci ha lasciato penso che non possa essere dimenticata grazie 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 Paola per ripercorrere l'attenzione di Vivarelli nei confronti della questione agraria ed anche di avere tratto da questo percorso con indicazioni generali sul metodo con cui Vivarelli lavorava adesso il nostro programma prevedeva una discussione se ci sono interventi domande rispetto alle relazioni che abbiamo sentito stamattina penso che coloro che le hanno svolte ben volentieri possono fare le loro osservazioni mi interessa molto mi dicevi questa cosa di Miccoli delle lettere di Miccoli non so se ci puoi dire qualcosa di più in questo di questo scambio tra Miccoli e Vivarelli che mi sembra dunque non è non è una corrispondenza molto corposa ma sono alcune lettere molto ampie come piuttosto diffuse cominciano con una lettera di Miccoli che prende l'iniziativa di commentare alla fine di una stagione osservando appunto che ci sono state delle reazioni di carattere viscerale nei confronti del libro sollevando fondamentalmente una obiezione sul fatto che sulla questione della non conoscenza delle atrocità commesse dai nazi fascisti bisogna essere piuttosto piuttosto cauti proprio perché come ho anche cercato di dire c'è un problema che si pone e cioè sul fatto che ciò che è dato ciò che viene presentato spesso non lo si vuole conoscere ecco quindi sollecitava prendere in considerazione questo aspetto e poi appunto esprimeva la volontà di continuare ad approfondire il dibattito il discorso a questa lettera Vivarelli risponde a sua volta con una missiva abbastanza ampia abbastanza corposa in cui sostanzialmente si scusa per non avergli inviato il libro ma sostanzialmente dicendo che gli sarebbe sembrato indelicato insomma sollecitare una attraverso l'invio del libro una reazione su queste cose ecco e negando questo abbastanza ho accennato negando il fatto che tra gli elementi che lo avevano spinto ad intervenire vi fossero delle spinte di tipo locale in particolare di tipo fiorentino mentre invece appunto a un certo punto Miccoli si chiedeva se non ci fossero state questioni specifiche che lo avevano mosso a scrivere appunto lui nega dedica un lungo paragrafo della lettera a negare che ci fossero stati delle questioni tipicamente fiorentine che l'avevano mosso a scrivere e poi appunto ribadendo le sue questioni soprattutto in relazione al fatto che lui non aveva nessun tipo di conoscenza su quello che effettivamente stava accadendo a proposito della persecuzione ebraica e negando che anche le leggi del razziali del 38 avessero avuto una qualche incidenza nella popolazione e soprattutto nella popolazione che lui frequentava Miccoli a questa seconda a questa lettera a questa risposta di Vivarelli risponde brevemente con una lettera in cui osserva che ha molti impegni e che quindi non può soffermarsi sulle questioni che quella lettera solleva ma annunciando un intervento più ampio che in effetti scrive alcuni mesi dopo ribadendo appunto il carattere in larga misura forzato delle reazioni che ci sono state nei confronti del suo libro in qualche modo anche insomma facendo presente una come dire una decadenza complessiva del costume accademico quello che gli pareva una decadenza complessiva del costume accademico e poi ritornando più puntualmente di nuovo sulla questione della non conoscenza da parte dei giovani o comunque della popolazione dell'epoca delle barbarie nazi nazifascista a questa lettera di Miccoli risponde ulteriormente Vivarelli con una lettera molto ampia questa ancora più ampia nella quale si sofferma a esplicitare il tipo di motivazioni che lo hanno spinto a scrivere e sono anche lì quelle parti che ho citato cioè con la volontà appunto di sottolineare che a suo avviso si trattava di reintrodurre la cultura liberale appunto nella vita civile italiana denunciando che la storiografia non si preoccupava soprattutto la storiografia sul fascismo non si preoccupava minimamente di questo problema e specificando quali erano i presupposti di quella cultura liberale che lui riteneva fondamentale reintrodurre per uno sviluppo della vita civile italiana e indicando appunto le ragioni per cui la storiografia sul fascismo non l'aveva presa in considerazione ecco finisce qui non c'è non c'è un'ulteriore risposta a questa non so se non c'è o non è stata conservata ecco perché chiaramente insomma l'archivio è un archivio che è stato ripassato in funzione della conservazione di alcune cose e non so di altre cose la cosa più clamorosa è certamente che non c'è il diario nell'archivio non c'è diario quel diario che ha più riprese indicato nella fine di una stagione come la fonte a cui si attinge e d'altra parte sarebbe impossibile pensare che tanti anni dopo ci fosse una memoria così puntuale così precisa di vicende ed eventi così puntuale e precisa che risulta dall'archivio il partigiano che aveva guidato l'azione al castello di Masino che è l'unica azione militare fondamentalmente a cui Vivarelli ricorda di avere partecipato il partigiano questo partigiano manda due lettere a Vivarelli dicendo che ha perfettamente ricostruito la cosa si riconosce perfettamente in quella ricostruzione tutti i particolari a tanta distanza di tempo vuole evidentemente dire che c'era un testo di riferimento e quello che ho trovato particolarmente interessante nel lettere del capo partigiano dell'azione di Masino è che si riconosce nella rivendicazione di moralità che Vivarelli fa è una delle testimonianze credo più significative perché come dire appunto da un lato riconosce la correttezza storica dice non ho nulla ad aggiungere le dico solo che ero io ecco che ero io che guidavo che guidavo quella azione e dall'altro lato dice mi ritrovo ecco naturalmente io già allora ho fatto una scelta morale diversa completamente diversa completamente antitetica per cui riconosco che in qualche modo la sua rivendicazione di moralità ha un fondamento ecco allora no questo per dire che appunto non so se ci sono stati ulteriori 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 scambi che non sono conservati ma la corrispondenza è composta solamente di cinque pezzi che sono abbastanza ampie sono diverse pagine però non ci sono altri solamente cinque pezzi questo è abbastanza evidente anche dal resto della corrispondenza che ho visto su altri temi ovviamente non è che ci sia stato conservato tutto insomma questo dovrebbe essere un elemento di ricastanza ma anche del comune anche di attivizzazione di quello che sono le lettere e quello che contano le lettere in questa no no ma era no io penso che per Vivarelli conti soprattutto leggere i testi perché e quelli da quelli da cui si capisce cosa pensava e cosa voleva fare questo mi sembra che sia abbastanza evidente insomma la questione che ho studiato io è palese naturalmente non vale solo per l'archivio Vivarelli mi pare che vale per tutti perché siamo nelle condizioni di dover usare quello che ci hanno lasciato quindi è per l'altro un archivio interessante insomma ci ho detto direi penso anche soprattutto i rapporti con la storiografia angloamericana secondo me viene fuori veramente molto bene questa ampia rete di relazioni sia personali sia intellettuali che Vivarelli aveva ora io ho citato sulla rete di Eugene Webber perché mi interessava direttamente però ce ne sono tante c'è la corrispondenza con David Lanz insomma c'è tanta roba quindi questo secondo me è molto cioè il fortissimo rapporto con Princeton veramente questa è una cosa penso centrale nella biografia di Vivarelli c'è tanto materiale visto su Princeton quindi insomma sto prego Ignazio un breve appunto io ho conosciuto il professor Vivarelli ho seguito il suo ultimo corso qui in normale e ho avuto anche come dire l'avventura di poterle vedere le sue carte nel senso che le ho riordinate ho cominciato a riordinarle almeno una brevissima nota che spero possa essere utile per una ricostruzione diciamo della sua biografia anche rispetto alle prime relazioni di oggi che riguarda quella polemica a cui ha fatto riferimento lei con Carlo Ginzburg e i miei sono ricordi insomma molto vecchi però cerco di io ho l'impressione che lì non fosse tanto a quello che disturbo Vivarelli non fosse tanto l'accusa di una scarsa sensibilità nei confronti del mondo contadino quanto una frase che Ginzburg scrisse e che era veramente un corpo basso se pensiamo a cosa a quella che era la storia personale di Vivarelli cioè è stampato quindi lo ripeto uno storico recentemente convertitosi alle sorti umane e progressive ecco mi sembra interessante non per fare come dire la storia del buco della serratura ma per cercare delle continuità anche nel rapporto di Roberto Vivarelli con il suo passato che poi riaffiorerà con la fine di una stagione cioè secondo me potrebbe ecco una domanda cioè capire se questa polemica avesse toccato altre corde ecco in quel momento secondo me cioè e sicuramente gli ha dato molto fastidio cioè almeno da quel che io ho visto da quel che io ho ricostruito però appunto come dicevo nella relazione è un punto su cui mi riprometto di tornare sono appunto c'è ci sono vari dati uno la sede su cui avvenne l'attacco cioè di Ginzburg ed era l'introduzione appunto a Peter Burke cultura popolare nell'Europa moderna Mondadori 1980 e questo Avivarelli diede fastidio perché le disse io come faccio a rispondere se tu mi attacchi in un'introduzione di un libro se mi attacchi in una rivista io posso risponderti ma in un'introduzione diventa una cosa diciamo Oscar Mondadori eh sì sì Oscar Mondadori sì 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 no ma secondo me questo questo è evidente cioè questa è una cosa che proprio gli diede fastidio gli diede molto fastidio io ripeto il fatto che venisse accusato di non avere sensibilità nei confronti delle classi contadine e rurali perché questo lui era una cosa che sentiva molto molto forte e gli diede anche fastidio il fatto che ehm la questione del progresso ora io su questo non mi sono soffermata però leggo quello che lui ha scritto nella introduzione del 2004 al libro Storia e Storiografia per questo dicevo in precedenza che secondo me la lettera di Weber che diceva tu hai capito esattamente quello che volevo dire e quindi ehm almeno avrebbe dovuto fargli piacere non ho un riscontro però eh avrebbe dovuto fargli piacere nella nella introduzione a Storia e Storiografia del 2004 appunto rispetto a Ginzburg Vivarelli scriveva continuo a ritenere che riconoscere nel corso del cammino umano almeno eh sul piano della vita materiale ma non soltanto la linea di un effettivo progresso che nell'età moderna ha fatto un salto di qualità significhi semplicemente ammettere l'evidenza e non giustifichi che perciò stesso si meriti l'accusa di condividere l'ottimismo di un pangloss cioè si meriti di essere considerati degli idioti questa cosa a lui aveva dato molto fastidio poi uno può cioè può discutere gli aveva dato proprio fastidio ma penso anche cioè diciamo il merito ma anche il modo dell'attacco poi lui dice che sostiene che non c'è stato insomma lo scambio come avrà visto è abbastanza poi dice che non ci sono conseguenze nel loro rapporto personale questo non lo so perché non ho non ho idea cioè non so che tipo di rapporto personale avesse ma quando si è molto interessato in questo evento io non credo di poter leggere fallare quella questione che si è recentemente per dire prima eri fascista e poi ti sei trasformato io non credo che Gisburg come dire alludesse a questo nel senso che di recente aveva scritto un saggio ed era quel saggio lì in cui aveva fatto questo peana del progresso e aveva e aveva e quindi perché il saggio era uscito l'anno prima era lui perché non aveva mai non aveva mai affrontato il problema però non aveva mai affrontato il problema è in quel saggio lì però che affronta che affronta specifica ne parlerò un pochino dunque il problema del progresso specificamente che è un tema centrale infatti è quello e come dicevo che lui fosse interessato non ci aveva mai pensato potarsi io penso che insomma cioè non lo so poi non ci sono ci possono essere anche altre motivazioni ci possono essere anche altre motivazioni non so cioè ecco tra l'altro ho visto solo questo scambio bisognerebbe anche leggere semmai qualche altro qualche altro scambio ecco in questo l'archivio può essere diciamo può essere utile non lo so sinceramente mi sembra che il tema del progresso in senso così forte l'abbia affrontato sono d'accordo con te Roberto l'abbia affrontato cioè la questione contadina e agraria è diversa perché sì sì questa è la recensione da Weber questo è evidente cioè è un po' la questione agraria e contadina l'aveva affrontata anche in precedenza cioè non in maniera articolata però era un tema come cercato di far vedere che comunque per lui era presente ma è lì che è quello il momento il cambio insomma diciamo sì no siccome diciamo quella nota polemica era nata da quello che Roberto Ivarelli aveva scritto nella recensione su Menocchio insomma polemizzava e sarebbe forse interessante cercare di un contesto un po' più ampio cioè come il gruppo della rivista storica alla fine degli anni settanta recepisce insomma credo che vada non è soltanto Weber secondo me per capire insomma ma quello basta leggere basta vedere ecco sì infatti questo qui il problema era è su quello è su quello cioè da lì poi c'è anche una questione accademica di accordo ora una considerazione in fondo a margine Giovanni diceva io me lo sono appuntato che Vivarelli vede l'Italia liberale ex post fino all'ultimo lui ribadisce la sostanziale tenuta della battuta di Gobetti no cioè quella è una sua quindi questo è probabilmente indiscutibile io mi domandavo in margine a questo riprendendo questo spunto quanto nell'intreccio tu hai descritto la contrapposizione di Iacini-Sonnino concludiamolo se Vivarelli doveva scegliere stava con Iacini ah beh questo è evidente cioè la scelta lui la fa chiaramente chiarissimo quanto però nella selezionare l'eredità di quel gruppo perché invece Fortunato sta da un'altra parte non giochi l'ex post cioè non giochi il Fortunato unitario contro il sonnino ministro degli esteri durante la grande guerra cioè quanto non giochino gli anni 10-20 in questa sua scelta retrospettiva dentro quello schieramento con lo schieramento complesso lo schieramento della cultura politica italiana 1872-87 pieno di intrecci che non si tagliano con l'accetta non c'è niente da fare e invece questo gioco come dire l'esito dei percorsi di queste persone legittima una loro ricollocazione retrospettiva che però non risponde esattamente alle loro posizioni negli anni 70-80 questo voglio dire questo mi sembra cioè io condivido pienamente ho cercato di dirlo anche in maniera cioè è anche uno dei motivi appunto ripeto di scontro lui era molto interessato appunto per esempio per quanto riguarda il mio diretto lavoro a che ricostruissi il giovane sonnino quindi questi anni di grande però poi ci siamo scontrati violentemente e quindi su perché secondo me appunto sicuramente lui le sfumature gli intrecci il fatto che non fosse così facile dare delle 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 divisioni nette non era facile mettere ciascuno al suo posto perché con la sinistra questi a un certo punto sonnino lo dice questi però hanno pulito il macinato e hanno allargato il soffraggio sarà pure poco però l'hanno fatto io poi mi litigo con loro cioè mi stacco però queste due cose le hanno fatte e questo insomma cioè erano cose cioè era molto quello che lui dice quello che Vivarelli mi ha insegnato cioè che bisognava guardare le sfumature e qui è proprio un momento in cui bisognava guardarle ecco non era così netta la situazione io ho trovato molto interessante la relazione di Giovanni perché soprattutto sulla questione dell'utilitarismo secondo me ha centrato un punto un punto fondamentale per comprendere la storia del liberalismo italiano cioè queste cose penso fossero anche presenti a Vivarelli però appunto lui sicuramente aveva scelto un'altra parte e questo però secondo me è molto cioè è veramente un punto importante anche lo studio di Biaggini su gli studi di Biaggini insomma su questo punto secondo me sono molto utili per me sono stati utili rispetto per esempio a quello che ho studiato e questo secondo me è veramente una cosa su cui riflettere una delle opportunità che mi darà dovrei scrivere la relazione per gli atti è che finalmente spero di riuscire ad avere il tempo per rileggermi con maggiore attenzione Acton perché poi una delle matrici sicuramente lì cioè il liberalismo come scelta etica che non ha nulla a che vedere con il suo successo mondano che è la libertà e lì secondo me è una matrice fondamentale il punto è che però poi lo stesso Acton capisce il discorso sul tempo che però se è una scelta etica allora il tempo teoricamente non dovrebbe contare insomma dovrebbe essere sì ovviamente serve per scopi educativi però il punto secondo me è quello ma come ho detto io ho citato Foucault insomma io credo lui addirittura colloca la frattura nel diciottesimo secolo cioè il punto in cui prevale la linea utilitaristica se questo discorso regge allora la posizione di Vivarelli diventa una posizione per certi aspetti totalmente condivisibile ma come dire perdente fin dall'inizio il controfattuale andrebbe collocato a questo punto ancora ancora più a monte sì esattamente poi diventa complesso poi se posso aggiungere a proposito di Acton una piccola testimonianza personale io ho conosciuto tardi Vivarelli ma una delle credo prime cose che mi disse poco prima del del mio ingresso alla scuola fu il sottolineare l'importanza di studiare Acton e appunto lui riteneva che si dovesse come dire una delle consegne ecco io l'ho letta in questi termini una delle consegne che lui faceva era appunto quella di insistere su questa figura che gli sembrava una figura storicamente di grande rilievo di grande interesse ecco quindi come dire questa rilevanza del personaggio era in dubbia perlomeno nel 2003 ecco poi immagino che appunto ci sono testimonianze ben precedenti ma in quel momento lui riteneva che fosse assolutamente necessario produrre un lavoro in questa direzione bene se non ci sono altre domande vi ringrazio domani riprendiamo alle 9 e un quarto ecco buongiorno benvenuti riprendiamo stamattina la la sessione prevista per il nostro convegno su Roberto Vivarelli vi comunico che il professore Tagliaferri per una malattia non può intervenire dunque avremo uno slittamento della relazione che era prevista nella seconda parte della mattinata di Roberto Pertici in questa mattinata e poi ecco a questo punto penso che potremmo anche cercare di finire i lavori del convegno nel corso della mattinata magari con un orario un po' più lungo rispetto a quello che inizialmente era previsto ma insomma possiamo cercare di finire in mattinata per evitare di avere al pomeriggio una sola relazione isolata che apparirebbe abbastanza strano quindi do subito la parola a Mauro Moretti in modo da cominciare nel nel tempi previsti e Moretti ci parlerà delle influenze che hanno costruito la personalità storiografica di Roberto Vivarelli la sua relazione infatti ha per titolo Vivarelli tra Salvemini e Shabu grazie molte grazie io sono sicuro che Vivarelli farà un lavoro eccellente così nell'ultimo rigo dell'ultima lettera raccolta in una recente scelta dell'epistolario Shabodiano Shabu scriveva nel marzo del 59 a uno dei responsabili della Rockefeller Foundation a proposito della controversa vicenda della collocazione statunitense di Vivarelli alla fine degli anni 50 su questa attenzione ben documentata tornerò brevemente ma vorrei in effetti muovere da un saggio di Vivarelli breve pubblicato nel 93 e dedicato ad illustrare alcune lettere di Shabu a Salvemini testo rilevante secondo me nel quale Vivarelli prendeva ad oggetto di ricostruzione storica l'esperienza incrociata di quelli che aveva sempre riconosciuto come i suoi maestri sulla questione dei maestri mi fermerò più avanti e lo faceva valendosi di alcuni documenti molto belli in margine ai quali è difficile sottrarsi all'impressione che quel lavoro di editore possa aver avuto per Vivarelli anche qualche implicazione autobiografica cito cito solo per fare un esempio da una lettera di Shabu a Salvemini del 21 luglio 1926 da Berlino Shabu scriveva a Salvemini proprio ho sentito dire molte molte cose belle per lei e mi è parso un momento di essere ancora nei giorni di lezione quando noi ci affollavamo attorno a lei e le chiedevamo non soltanto la parola di scienza ma anche quella che lei solo ci poteva dare e che valeva a farci più forti questo è un aspetto che nel dialogo sia con Salvemini che con Shabu torna di frequenza trovarlo nel rapporto fra Shabu e Salvemini doveva essere particolarmente suggestivo per Vivarelli rapporto breve e denso quello di Shabu con Salvemini concentrato nei mesi del perfezionamento fiorentino di Shabu novembre 24 estate 25 e che queste lettere consentivano ora di documentare come più profondi e duraturo di quanto vari studiosi avessero pensato in precedenza rapporto sottratto all'episodicità del concorso nell'espatrio di Salvemini era qualcosa di più profondo non era un semplice episodio di solidarietà e cito invece stavolta da Vivarelli queste lettere confermano che malgrado la breve durata del soggiorno fiorentino la lezione di Salvemini fece su Shabu un'impressione profonda e i rapporti che gli strinse in quei mesi lasciarono nel suo animo una traccia che non pare facilmente cancellabile ed esse documentano infine in modo esplicito quali fossero in questi anni i sentimenti di Shabu nei confronti del fascismo fermiamoci un attimo sulla breve durata perché anche il rapporto diretto di Shabu con Salvemini fu breve brevissimo in realtà lui arriva a Napoli nell'anno accademico 56-57 aveva conosciuto Salvemini a Firenze ma era stato un incontro episodico è un rapporto molto concentrato nel tempo e anche quello con Shabu dura pochi anni considerando che la parte finale di questo rapporto negli anni finali di questo rapporto Vivarelli si trova negli Stati Uniti si tratta in tutti e due i casi di vicende personali molto concentrate nel tempo anche qui credo che giocasse una suggestione non trascurabile e vengono in mente a questo proposito alcune lettere del giovane Vivarelli a Mario delle Piane almeno un paio credo che valga la pena menzionarle sulla appunto intensità e brevità del rapporto rapporto l'anno sono qui ma nulla come sempre quando uno cerca ricerca una citazione non la trovo ma è concentrata sull'anno di durata del rapporto diretto eccolo qua è forse superfluo 29 marzo 60 le dica che l'anno passato a Napoli rimane per me sotto molti aspetti un anno decisivo e che accanto a Salvemini e a Shabot che io sono maggiormente debitori di una lezione morale e intellettuale di valore generale oltre che dell'avviamento concreto che essi hanno dato al mio lavoro attuale cose per cui serberò sempre una profonda gratitudine ora le confesso che il pensiero di fare ritorno in Italia e non ritrovare Shabot mi dà un vero dolore e quasi un senso di smarrimento ma è l'anno e appunto è l'intensità del rapporto concentrato in un breve periodo che lascia tracce profonde le esperienze di vita scriveva Viorelli nel saggio su Salvemini e Shabot contano per gli storici aveva cercato anche di delineare qualche traccia di rapporto storiografico centrandosi soprattutto sull'elemento di critica del nazionalismo che dagli scritti del Salvemini analista della politica interna ed estera italiana post unitare sarebbero trasferiti in Shabot è complesso il nodo dei rapporti che vengono ricostruiti Vivarelli accredita in questo breve saggio anche una certa componente gobettiana nella formazione di Shabot che poi è stata ripresa forse con un eccesso di attenzione dagli editori del carteggio ma che è presente anche in queste pagine i maestri dicevo questione ripresa molte volte da Vivarelli anche nei suoi ultimi scritti così in un saggio apparso originariamente su ricerche di storia politica nel 2003 e poi ripubblicato nel volume Fascismo e storia d'Italia nella speranza di sciogliere questo interrogativo quello sulle origini e sui caratteri del fascismo che significava anche fare i conti con l'esempio di mio padre scelsi come argomento della mia testa di laurea le origini del fascismo il che mi aprì subito molti orizzonti citava l'amicizia di Jaillet ricordava il viaggio negli Stati Uniti dopo la laurea nel marzo 54 e proseguiva due anni dopo tuttavia qualcosa mi indusse a fare domande di ammissione all'istituto Croce di Napoli arrivai a Napoli nel novembre 56 e qui si decise il corso della mia vita e fu non tanto la mia volontà ancora incerta quanto da un lato la fermezza imperiosa di Chabot dall'altro l'incontro con Gaetano Salveni Chabot mi impose è il caso di dirlo che riprendessi l'argomento della tesi e lo sviluppassi in un'opera d'insieme solidamente documentata Salveni incoraggiò questo impegno e lo rese indissolubile facendomi un credito che non sono certo fosse meritato occorre dire che il ricordo è ampiamente confermato dalla documentazione coeva cioè qui non c'è nessuna manipolazione postuma della memoria i documenti degli anni 50 sono assolutamente coerenti con con questa narzione è un compendio fedele di quello che le carte illustrano più largamente nella biografia di Vivarelli il piano della genealogia accademica è poco rilevante non mi pare posso sbagliarmi ma non mi pare di aver trovato mai valorizzata la sua esperienza di studi fiorentina piuttosto rimossa ma comunque mai ecco rimessa nella serie della sua formazione ed egli stesso ha più volte sottolineato i tratti non convenzionali del suo percorso formativo in una lettera non priva di asprezza bisogna dire la verità a Claudio Cesa del marzo 2009 Vivarelli ricordava quando sono tornato agli studi dopo tre anni di ospedale militare che sono stati la mia scuola normale e Cesa era stato allievo della normale invece ho avvertito un fortissimo bisogno di trovare dei veri maestri ne avevo tanta più urgenza perché la malattia mi aveva imposto la scelta di un imprevisto indirizzo di vita verso studi in senso lato umanistici per i quali io avevo un'assai scarsa preparazione li trovai questi maestri prima e poi per strada sempre più nei libri più tardi in alcuni fortunati incontri nei libri il mio primo maestro lo incontrai in croce quando ripresi su altri binari l'interrotta università al mio primo esame storia moderna uno dei testi era la sua storia d'Europa da allora la mia ammirazione per croce non filosofo ahimè è rimasta costante ancora sui libri incontrai assai presto Contini editore delle rime di Dante e da lui Auerbach e Spitzer in quegli anni i miei interessi erano prevalentemente letterari in seguito ho avuto la fortuna di incontrare Salvemini Chabot Gino Luzzatto altra indicazione piuttosto interessante poi ancora Felix Gilbert Venturi Momigliano e tanti altri dai quali molto ho imparato e verso i quali anche se in grado diverso mantengo sentimenti di riconoscenza e di affetto specificando pochi giorni dopo e anche qui è una lettera a Claudio Cesa piuttosto interessante perché il dialogo è serrato sul problema dei maestri più in generale nel corso del nostro cammino e dei nostri studi non credo di essere il solo ad aver trovato aiuto in alcuni punti di riferimento sono sempre stato come tu sai una persona molto indipendente ma ciò non toglie che io abbia tenuto via via presenti alcuni particolari esempi ecco io definirei maestri di argolettato coloro che ci aiutano con il loro esempio esempio per la qualità della vita esempio per la qualità dell'opera si potrà notare in margine che deliberatamente fra i maestri in questo senso Vivarelli scriveva di non ritenere Delio Cantimori che è oggetto appunto di questa di questa particolare contesa in termini non molto diversi ma nel contesto di una riflessione di portata più generale e questo va considerato Vivarelli aveva già affrontato la questione scrivendo ad Arnaldo Momigliano nel 1986 io appartengo a una generazione la questione della generazione è piuttosto rilevante nell'ultimo Vivarelli è un criterio analitico che emerge spesso a partire da una certa data io appartengo a una generazione avevo 15 anni alla fine della guerra ma ero stato ugualmente coinvolto in modo molto diretto per la quale forti esperienze di vita hanno preceduto qualsiasi esperienza di studio in buona parte condizionandola sottolinei di nuovo questo aspetto è una formazione come dire che deve prioritariamente elementi che non sono riconducibili alla professionalità degli studi storici una dimensione appunto tecnico-accademica intendo dire che nello studio in qualche modo abbiamo cercato risposte ad interrogativi molto inquietanti che derivavano appunto da quanto avevamo vissuto abbiamo creduto anche di trovare nello studio condotto criticamente un antidoto contro la irruzione di quelle forze demoniache che avevano sconvolto l'Europa ed il mondo lo studio della storia insomma ci sembrava strumento di educazione civile i miei maestri Salvemini e Chabot erano in quegli anni assai più che semplici professori di storia è facile vedere oggi di quanta ingenuità noi allora peccassimo nell'archivio di Roberto Vivarelli si trova una busta intitolata da lui stesso Napoli Salvemini Chabot eccetera esordi del mio lavoro è una raccolta dei documenti che riguardano questa esperienza napoletana degli anni cinquanta e come dicevo i documenti non solo non contraddicono la sua presentazione postuma dell'esperienza ma la confermano in pieno arricchendola ovviamente di particolari e i particolari sono molto rilevanti per quello che riguarda Salvemini perché il rapporto per quanto di breve durata con Salvemini è stato veramente intenso quello con Chabot anche e Vivarelli lo dirà in più luoghi ma maggiormente frenato sul punto di vista dei rapporti personali da un atteggiamento personale di Chabot meno come dire forse meno aperto caratterialmente Salvemini scrive a Vivarelli il 27 febbraio del 57 caro Vivarelli ho letto il tuo lavoro sulla genesi del movimento fascista ne sono entusiasta sono convinto che con un paio d'anni di lavoro ne caverai un'opera di prim'ordine non hai nulla da mutare o da togliere vi sono molti elementi da tenere presente che credo ti siano indebitamente sfuggiti quindi aggiungere casomai non togliere vieni a trovarmi e parleremo ma il documento forse più interessante per quello che riguarda Salvemini è il tipo di lascito che Vivarelli ha sentito di dover onorare questo è fuori discussione secondo me fino in fondo è una lettera di Salvemini a Giorgio Lapiana di pochi giorni successiva del primo marzo 57 in cui chiede a Lapiana che è negli Stati Uniti di appoggiare in tutti i modi la candidatura di Vivarelli prima c'era un'ipotesi Harvard che poi va male e emergerà la borsa al Rockefeller Foundation insomma c'è un forte impegno per aiutarlo in America scrive Salvemini di Vivarelli alla stoffa di un grande storico e sono sicuro che in un paio d'anni di lavoro può arrivare a dei risultati definitivi io non sapevo nulla di lui in questo momento studia all'istituto Croce mi ha mandato la sua tesi e ne sono entusiasta bisogna aiutare quel ragazzo a finire bene quello che ha già cominciato ottimamente ma è la conclusione della lettera che è rilevante credi caro Giorgio che l'avvenire di questo giovane mi sta molto a cuore non solo per sé ma anche per me ho raccolto una massa enorme di materiale sul tema da lui studiato oramai mi rendo conto che non ce la faccio più a digerire quella roba penso di cedere a Vivarelli tutti gli appunti che ho messo insieme su quel tema sono persuaso così di non avere perduto il mio tempo non omnis moriar non aggiungo altro perché conosco la tua generosità ora questa lettera si trova fra le carte di Vivarelli questo è un lascito a lui nuoto ed è un impegno fortissimo chiaramente che è assunto con il maestro si potrebbero citare ma ci siamo impegnati ad essere un pochino più rapidi molti altri documenti interessanti di questo periodo anche di terzi letteri di Giuliana Benzoni che era chiaramente poi uno dei tramini amica di Vivarelli uno dei tramini tramiti del rapporto con Salvemini di Ernesto Sestan di Raffaele Mattioli che Salvemini mette in contatto con Vivarelli di Roberto Poggioli che è quello che cerca di curare la causa ad Harvard e che fallisce facendo notare che dopo la morte di Salvemini purtroppo la sponsorship di Chabot non è così forte come sarebbe stata quella di Vivarelli cioè Chabot ad Harvard non conta tanto quanto poteva contare scusate Salvemini è molto meno presente viene largamente documentato l'impegno di Chabot a rendere possibile la consultazione Chabot fa parte del Consiglio degli Archivi e rende possibile a Vivarelli la consultazione di carte d'archivio che sarebbero state normalmente escluse con i criteri di riservatezza del tempo dalla consultazione c'è un impegno forte preciso per ottenere questo scopo e Vivarelli farà notare in una lettera farà notare in una lettera delle piane che i direttori degli archivi che lui frequentava con questa autorizzazione non erano affatto contenti di dovergli mostrare le carte così consultabili soltanto in un paio di casi Chabot scrive a Vivarelli del lavoro notando la fruttuosità dell'impegno di Vivarelli e notando l'interesse di alcune delle tesi che sembravano emergere da questo primo spoglio archivistico sono naturalmente documentati i rapporti personali molto bella la lettera di Chabot in risposta all'annuncio di fidanzamento di Vivarelli e lettere da dove traspare anche il peggioramento poi delle condizioni di salute di Chabot che riesce comunque a ottenere una prosecuzione per due anni oltre la borsa annuale della borsa al croce un'ulteriore prosecuzione sarà assicurata dopo la morte di Chabot da Pugliese Caratelli per un ultimo anno nuovo presidente dell'istituto dell'istituto croce e Chabot si interessa naturalmente della sua posizione presso l'istituto rimanendo in stretti contatti finché può con con l'istituto la busta chiuderebbe quindi un percorso di qualche anno e documenta rapporti molto stretti bisogna però stare un po' attenti alla logica di produzione dell'archivio stesso perché le carte raccontano una storia molto più articolata secondo me è ad esempio evidente in quegli anni formativi è molto evidente il peso di altri interlocutori in particolare dicevo l'ho già ricordato di Mario delle Piane docente senese con il quale Vivarelli collaborò più a lungo anche con momenti di tensione assai aspra alla fine degli anni 50 però ecco queste lettere sono notevolmente interessanti anche perché in almeno un caso confermano e articolano accenni che Chabot che Vivarelli ha già proposto nei suoi testi una in particolare del 28 novembre 56 Vivarelli è appena arrivato a Napoli e rende conto a delle piane di quello che sta succedendo appunto all'istituto Croce carissimo professore due righe per dar le mie notizie dunque pare che per il mio lavoro si aprano buone prospettive ho trovato in Chabot un interessamento veramente isperato e una grande cordialità mi ha proposto di continuare la mia ricerca sulla storia del movimento fascista portandola sino alla marcia su Roma e approfondendola attraverso un esame particolare di quei centri dove il movimento fascista sia maggiormente distinto per particolari situazioni locali o per la figura di alcuni capi ora sto appunto lavorando alla impostazione precisa del lavoro e a riorganizzare le mie idee la notizia non è del tutto ignota Vivarelli l'ha raccontato questo aspetto nel primo volume della storia dell'origine fascismo però è molto più preciso e circostanziato qui l'indirizzo dato da Chabot alla ripresa del lavoro di Vivarelli appare in maniera veramente netta lo sviluppo del lavoro sarà fatto così va esteso cronologicamente va organizzato per centri con un'indagine localizzata a seconda appunto del rilievo del movimento in quelle città o del rilievo dei capi in quelle località e quindi il marchio chabotiano sull'impostazione del lavoro è molto evidente sono molto belle una l'abbiamo già citata le lettere relative alla malattia di Chabot e allo sconforto che Vivarelli estende a molti altri giovani cioè generalizza questa sua dolore per per la malattia e poi per la morte di Chabot racconta e sono notazioni molto interessanti una vicenda che in questa prima che nella prima fase dell'attività scientifica di Vivarelli lo condiziona molto che è il lavoro editoriale intorno alle opere di Salvemini la seconda metà degli anni 50 e i primi anni 60 passano attraverso questo grosso sforzo e documentato di sistemazione di un materiale che a quello che si capisce era in condizioni anche molto complesse molto disordinate scrive a delle piane nessuno saprà mai quante fatiche questo volume mi è costato il primo volume degli scritti sul fascismo mandato a Feltrinelli e proprio sino all'ultimo giorno è un lavoro che per la memoria di Salvemini ho fatto più che volentieri ma non so proprio se i risultati saranno proporzionati allo sforzo emergono alcuni aspetti caratterialmente interessanti dove il dialogo con il professore Senese si fa difficile sul problema dell'atteggiamento da tenere nei confronti del mondo accademico io non mi sento affatto mi creda la vocazione del professore universitario 8 dicembre 1959 quindi di una certa sprezza dei rapporti con il mondo universitario e di nuovo di impostazione del lavoro mi convinco sempre più che il lavoro di storico è il più difficile che si possa immaginare e che letteralmente non si finisce mai è mia convinzione che gli avvenimenti del dopoguerra per essere esattamente capiti e valutati vadano legati alla precedente storia d'Italia anche perché mi pare che nella sostanza il fascismo sia stato assai meno novità di quanto si creda 9 gennaio 60 accenno alla data perché nell'intreccio fra documenti e trama dei testi se analizzata attentamente si vede che certe tematiche che vengono esplicitamente condensate in lavori che vengono riprese apertamente più tardi da Vivarelli sono in gestazione da molto tempo e quindi la cronologia delle opere pubblicate non rende pienamente conto di questa elaborazione stratificata di temi che però cominciano a presentarsi molto prima di quando appaiano nella bibliografia e questo è proprio chiarissimo ed è appunto questo collegamento che nel libro penserei di svolgere in un'ampia premessa che mi dà non poche preoccupazioni e da fare nella stessa lettera gennaio 60 scrive di leggere Toynbee e mi piace aggiunge a differenza di quello che dicono tanti crociani e anche questo è un indizio da non trascurare a quell'altezza cronologica così come sono interessanti ma non le citerò estesamente le considerazioni sempre di poche settimane successive del febbraio 60 sulla figura di Romeo e sul ruolo che Rosario Romeo sta assumendo nel dibattito storiografico fondamentale secondo lui anche se commenta Romeo mi sta antipatico e non mi piace la direzione verso la quale muove come intellettuale però dal punto di vista storiografico ne rileva la funzione fondamentale in quel contesto in quel momento degli studi così come sempre a delle piane e anche questo è un elemento che poi è stato ampiamente confermato lo sappiamo anche dalle lezioni Chabot ancora vivo fa notare quanto la direzione di Venturi stia rinnovando e migliorando la rivista storica italiana anche perché commenta Vivarelli Chabot se ne occupava troppo poco negli ultimi anni e quindi come accetti positivamente quella che è stata poi considerata in tempi recenti come una frattura e una svolta diciamo nella storia della storiografia italiana nella storia di astrografia italiana di quegli anni mamma mia la necessità e poi devo dire la verità il gusto di fermarmi su alcuni dettagli biografici e documentari mi impedisce di seguire nell'esposizione l'impianto di un saggio di Vivarelli che mi ero proposto di tenere ben presente il saggio cioè dedicato a Sestan fra Salvemini e Volpe era un gioco analogico poi sostanzialmente che mi promettevo di seguire o meglio di quell'impianto tengo presente la fase istruttoria cercare di illustrare i rapporti diretti fra i personaggi le dirette prese di posizione dell'allievo rispetto ai maestri l'uso e le ricorrenze delle opere più complesso mi sembra qui risalire come Vivarelli faceva alla situazione generale degli studi storici per inquadrare quelle relazioni personali e soprattutto provare a definire quello che Vivarelli indicava come l'ideale storiografico per lui disse Sestan e ammetto che deve provare a individuare l'ideale storiografico di Vivarelli stesso compito che affido alla competenza tanto maggiore di Roberto io magari mi limiterò da questo punto di vista a qualche accenno per tornare a dati più estrinseci bisognerà dire che nell'opera di Vivarelli la posizione le posizioni rispettive di Salvemini e Chabot sono fortemente asimmetriche ma molto delle pagine salveminiane di Vivarelli si potrebbe comporre un volume non esile e di sicuro interesse lo stesso non si può dire per Chabot assolutamente molto spesso evocato e molto utilizzato nell'impianto analitico nella tessitura ricostruttiva delle opere ma salvo il saggio che ho citato in apertura e l'importante contributo pubblicato nell'81 sul 1870 nella storia d'Europa più forse la recensione del 97 la traduzione in inglese delle premesse che è uscita nel 96 ecco ma sono pochi testi salvo questi pochi testi Chabot non diventa oggetto di studio per Vivarelli è un riferimento morale storiografico Salvemini è al centro delle ricerche di Vivarelli cosa che ne determina appunto un peso specifico completamente completamente diverso non trascurerei riguardo a Chabot alcune implicazioni legate all'inquadramento generazionale la generazione del 1900 Chabot e dell'uno proposta da Vivarelli in pagine meritevoli secondo me di considerazione attenta quelle dedicate a Mario Bracci perché lì si invece di traverso ma si capisce che riflette su Chabot lo cita in un paio di occasioni ma la riflessione è più generale ma dicevo il ruolo di Salvemini nell'opera storica di Vivarelli è molto complesso è tale da determinare in qualche caso interferenze qualche cortocircuito anche il maestro infatti la sua opera e le sue posizioni sono oggetto di ricostruzione diretta gli esempi potrebbero essere molti e mi limiterò a ricordare qui dal secondo volume della storia dell'origine del fascismo l'analisi critica dedicata da Vivarelli critica severamente critica dedicata da Vivarelli alle posizioni dell'unità nel primo dopoguerra oppure quella riservata allo scontro con Turati all'interno del partito socialista prima della fuoriuscita di Salvemini e della fondazione della stessa unità lì Salvemini è semplicemente oggetto di ricerca oggetto di considerazione storica non è come dire solo in quest'ambito che lo diviene per Vivarelli è molto importante anche il Salvemini e metodologo poi se forse c'è un po' di tempo magari nella discussione un passo lo volevo riprendere questo per non dire del Salvemini storico del fascismo in particolare ma non solo delle origini del fascismo dove i piani si intrecciano l'edizione dei testi abbiamo detto impegno di rilievo nella prima stagione storiografica di Vivarelli l'edizione dei testi è funzionale tanto alla considerazione storica della vicenda del militante antifascista io pubblico le fonti per ricostruire la biografia di Salvemini antifascista quanto alla valorizzazione e alla messa in opera del contributo storiografico io faccio circolare libri di storia sul fascismo che entrano nella circolazione e nel dibattito sono due piani che però si intersecano del contributo storiografico offerto da Salvemini per primo cosa che Vivarelli sottolinea in molti luoghi all'interpretazione del fascismo accostamento che in qualche pagina si trova con Angelo Tasca ma insomma sono i due che hanno in qualche modo inaugurato la stagione degli studi sulle origini del fascismo il contributo che come è noto Vivarelli legava almeno quanto alle origini a tre punti fondamentali il tema della violenza fascista la figura di Mussolini cinico opportunista e demagogo la responsabilità delle classi dirigenti nell'avvento del fascismo e non c'è chiaramente da affermarsi troppo sulle dirette implicazioni cioè su quello che queste posizioni hanno contato nella scrittura storica di Vivarelli nella concreta storiografia di Vivarelli e c'è poi vorrei tornarci a breve in conclusione la questione dell'eredità etico-politica di Salvemini che invece è venuta molto spesso in discussione negli ultimi scritti di Vivarelli quelli successivi al 2000 e soprattutto del 2006-2008 insomma lì c'è un momento in cui queste tematiche riemergono e del suo posto nella storia d'Italia che in pagine note e discusse quelle che accompagnavano l'edizione italiana della cultura dei vinti di Schivelbusch del 2006 Vivarelli collocava appunto fra i vinti i vinti sono Salvemini ed Ernesto Rossi nella pagina finale di quel saggio come è evidente si impone su questo terreno un'inchiesta piuttosto estesa basata oltre che sull'esame dei testi direttamente concernenti Salvemini e Schabot sulla ricostruzione rigidamente cronologica perché temi e spunti temi, toni e spunti cambiano e si coglie l'emergere come dicevo prima di questioni tematizzate esplicitamente solo più tardi quindi qui veramente bisogna seguire in maniera rigorosa la cronologia dei testi un taglio tematico è fuorviante rispetto rispetto a questa indagine quindi ricostruzione delle ricorrenze l'individuazione dei testi di riferimento le lezioni di Harvard contano moltissimo nel primo Vivarelli poi il discorso un pochino si sposta le premesse di Schabot ma per Schabot è fondamentale il ricorso delle lezioni parigine sull'Italia contemporanea non sempre positivo anche con elementi di discussione di critica ma è uno dei testi presenti ripercorrendo così percorsi piuttosto articolati con la messa in discussione analitica di singole posizioni e valutazioni faccio un esempio fra i molti che si potrebbero fare già nella storia dell'origine del fascismo nel primo volume in una nota e in un punto delicato perché si sta parlando dei caratteri dell'interventismo democratico quindi in un punto molto delicato della ricostruzione Vivarelli scrive nota la distanza fra Salvemini e Mazzini quindi il saggio sviluppato molti anni dopo è a come dire un primissimo spunto molto più risalente invece nel tempo e ripeto posto in un contesto particolarmente delicato Vivarelli non era certo uno studioso che giurasse in verba magistri questo proprio no e ad esempio le notazioni di Chabot sulla crisi di consenso al fascismo già visibili secondo Chabot alla fine degli anni 30 di certo non le condivideva e di fatti le mette espressamente in discussione su più punti Chabot accennava al peso delle leggi razziali Vivarelli su questo è decisissimo e in più luoghi non hanno affatto determinato una rottura dell'opinione pubblica nei confronti del fascismo vanno sottolineate alcune pratiche analitiche singolari molto spesso la posizione di Salvemini è definita con un procedimento positivo cosa lo differenzia da Carlo Rosselli un saggio notevolissimo cosa non è Mazzini con un procedimento di contrapposizione per far emergere meglio i caratteri del personaggio ricorre in più pagine questa dinamica positiva Scarti il wilsonismo nel saggio del 2008 pubblicato nel 2008 sulla cultura italiana e il fascismo con l'anti-wilsonismo addebitato a croce come una colpa non menziona non viene ripreso in quel luogo quanto è scritto nel primo volume della storia dell'origine del fascismo sulla dissociazione precoce di Salvemini da certi estremismi wilsoniani c'è chiaramente uno scarto visibile continuità sempre in questo saggio del 2008 Vivarelli sottolinea come dire il dramma provocato nella politica estera italiana dall'assunto sonniniano della possibilità di condurre combattere una nostra guerra e ritrattare su questa base beh quello è un giudizio salveminiano del 25 preso direttamente da un testo importante l'introduzione alla raccolta a una raccolta dei saggi salveminiani aspetti genealogici qui davvero non mi ci fermo ma l'arredo di casa spaventa e di casa cattaneo alla fine del saggio di un saggio famoso di Vivarelli e questo forse andrà citato su Salvemini e Mazzini lascia come dire nella sua rigidezza qualche qualche perplessità quindi questa ricerca di genealogia ma no non citiamo che è molto ricorrente di questa trama di riferimenti che è complessa proverò a rendere conto almeno in parte nel testo scritto invece molto rapidamente in conclusione volevo tornare su alcune questioni generali attorno alle quali i nomi dei maestri ricorrono esplicitamente seguendo alcuni interlocutori privilegiati il primo per alcuni aspetti da seguire in questo contesto è Giuseppe Gerrizio e il dialogo è un dialogo salveminiano tutto impostato sulla individuazione di Salvemini vinto appunto nel saggio del 2008 che però ha un precedente in una discussione del 2006 siamo proprio al momento in cui diventa particolarmente intensa una certa riflessione di Vivarelli Gerrizio nel marzo del 2006 oltre a formulare riserve ricorrenti in queste lettere sul magistero di Chabot molto ricorrenti che turbano Vivarelli nota che lui non è incline al crucifige tende a scegliere la pietas rispetto alla damnazio discute l'atteggiamento di Vivarelli che fa del conformismo il carattere perenne dell'italiano diffidando di questo approccio ideologico alla storia italiana e di un atteggiamento appunto incline a fare l'indice degli errori l'Italia come dire quello che non c'è il paese senza Vivarelli risponde ed è una risposta importante da questa sì da citare tu affermi che nel giudicare i protagonisti di vicende passate e tanto più di vicende specialmente tormentate la pietas deve sempre prevalere sulla credine che induce al crucifige in verità io stesso ho rimproverato ripetutamente coloro i quali mi sembrava appunto che mancassero proprio di pietas a ciò del resto non solo mi dispongono i miei sentimenti ma mi indirizzano perentoriamente le mie particolari vicende biografiche e che cos'altro intendo quando insisto sul dovere tanto più per chi pratichi il nostro mestiere di adoperarsi sempre per capire le ragioni degli altri non credo tuttavia che questa doverosa comprensione debba corrispondere alla rinuncia di una valutazione in merito a ciò che sul piano dei fatti certe posizioni hanno significato indipendentemente dalle intenzioni di coloro che quelle posizioni abbiano assunto e questo problema dell'indipendentemente dalle intenzioni si incrocia con quanto tu dicevi ieri e crea una tensione con quanto tu dicevi ieri perché lì invece si valorizzava l'intenzione della scelta e qui siamo su un terreno diverso e ripeto non poco problematico secondo me da conciliare Giarrizzo replicava di nuovo mandando a Viverelli un dattilo scritto intitolato Dialogo con Salvemini un capitolo della mia storia intellettuale che è compreso nella concludendo questa riflessione fu un vinto ho sempre rimosso e poi di recente rigettato quel giudizio non è facile come per ogni maestro misurare i modi con cui vita e pensiero si fanno parte del nostro genoma e commentava e chi sarebbero i vincitori Croce Giolitti Viverelli risponde no no né Croce né Giolitti io sarei tentato di risponderti vincitore è stato Togliatti forse per il fatto di aver trovato un terreno già fertile la sua consumata lezione di cinismo mi pare quella che è più profondamente penetrata nella nostra vita civile sino ai giorni nostri con i risultati che sono sotto gli occhi di tutti sviluppo piuttosto coerente devo dire delle pagine su Schivelbush perché è implicito in quel testo naturalmente la lezione di Salvemini emarginata e rimossa materialmente è sempre viva continua a far parte del patrimonio morale della nostra tradizione civile al quale potranno sempre attingere se lo vorranno le generazioni future ma storicamente politicamente storicamente in quel contesto nel contesto dato è stato un vinto Gianrizio insiste tu Vivorelli scrivi l'antistoria d'Italia e Vivorelli qui si inquieta non sto affatto scrivendo una una antistoria una antistoria d'Italia Gianrizio è piuttosto duro trovo poco convincente tutto questo perché quel liberalismo cui fai costante riferimento nei fatti non è mai esistito se non come progetto e non basta Alevi a farcene persuasi su questo stesso terreno anticipo la volevo tenere per la conclusione in una lettra apertamente provocatoria perché una cosa del genere era una studiata provocazione Claudio Cesa gli scrive ma in fondo il delibero arbitrio di Erasmo non è mica un libro così importante ecco se pensiamo alla relazione di Giovanni Orsina possiamo immaginare facilmente la la reazione di Vivorelli quello che è interessante qui è la presa di distanza esplicita di Vivorelli dalla lezione dello storicismo cito è un termine questo che io non ho mai amato perché l'ho sempre trovato ambiguo e anche questo nel rapporto con Salvemini e Chabot soprattutto con Chabot fa problema e non stupisce poi tutto sommato un altro aspetto che volevo menzionare rapidamente ma solo menzionare che sarebbe stato probabilmente toccato dalla relazione di Tagliaferri è l'apertura progressiva da questo punto di vista il volume sui caratteri è l'esito di un percorso non è una rottura drastica però l'apertura progressiva a un questionario e a pratiche storiografiche che a me sembrano distanti da quelle dei maestri non riconducibili né all'uno né all'altro almeno come tipologia di lavoro storico qui siamo su un altro piano ispirato da altri punti di riferimento David Landess e le sue letture di quell'ambito ma ci si distanzia molto da una tradizione dalla tradizione richiamata come tradizione dei maestri eppure Vivarelli rivendica polemicamente l'importanza del lavoro proprio con Claudio Cesa i caratteri dell'età contemporanea cito a memoria per non ricercare la citazione sono il mio contributo più importante più della storia delle origini del fascismo ripeto qui c'è una polemica in corso quindi anche la rivendicazione è polemica però sotto ci sono dei problemi uno dei quali secondo me di carattere più generale non riguarda solamente Vivarelli ma lui ha scritto un manuale di storia ed è quanto le necessità legate ad una sintesi finalizzata all'insegnamento e quanto le necessità legate a una esposizione del corso non siano come dire una specie di rifugio o di luogo ultimo di sopravvivenza di letture generali della storia di filosofie della storia come le vogliamo chiamare cioè quanto quel tipo di scrittura non imponga di fare i conti poi con un disegno generale del percorso storico c'è però in conclusione davvero un altro Salvemini che volevo richiamare a proposito di Vivarelli e che è il Salvemini che nel 51 recensisce sul mondo Falco Marin la traccia sul mare perché questo è un testo che per Vivarelli ha contato moltissimo secondo me è una recensione molto bella Falco Marin è un giovane militare fascista pieno di dubbi che scrive un diario che muore il 25 luglio del 43 cioè uno che non ha potuto scegliere e la domanda di Vivarelli e di Salvemini è cosa avrebbe fatto cosa avresti scelto sulla base di queste tue inquietudini sulla base di questi tormenti sono pagine bellissime c'è fra essi fra i partigiani molta gente equivoca è peggio che equivoca è vero ce n'è fra partigiani non comunisti e fra partigiani comunisti ma ce n'è anche da leccarsi le dita nelle truppe nere gente traviata come eri tu da una falsa educazione quello che è strano è che di gente si fatta non ve ne sia di più vorresti che la guerra civile fosse fatta solamente da donzellette di 16 anni e donzellette di 16 anni che farai dunque ti associerai nel battaglione Garibaldi o nel battaglione Matteotti con i partigiani slavi e non solamente per imparare lo sdoveno te ne andrà in Italia con i partigiani non comunisti è arbitrario può essere disonesto almanaccare su quel che un giovane avrebbe fatto se non gli fosse stata troncata la vita un niente avrebbe potuto spingerlo su una via imprevedibile ed è questo il punto forte del ragionamento delle tarde posizioni di Roberto Vivarelli vi ringrazio grazie molto e Mauro grazie per le tante osservazioni puntuali così come l'osservazione generale che per Vivarelli i maestri vengono da esempi di vita prima che da esempi di studio ma che poi gli studi ricadono sulla vita e questo mi pare uno degli aspetti fondamentali della personalità che stiamo cercando di ricostruire do ora la parola a Roberto Pertici che naturalmente ringrazio di aver accettato questo impegno a parlarci di un tema rilevante cioè della filosofia della storia tra virgolette di Vivarelli chiaramente sono io che ringrazio l'amico e collega Daniele Menotti che mi ha invitato in questa scuola dove ho lavorato dieci anni e ho tanto discusso con Vivarelli e questa relazione sarà un pochino il proseguimento di queste discussioni nel gennaio del 68 Vivarelli presentava sul ponte alcune pagine di Gaetano Salvemini in buona parte inedite che volle intitolare il testamento di uno storico empirico si trattava di uno scritto degli ultimi di Salvemini scritto col consueto semplicismo provocatorio in cui si conduceva una polemica su più fronti in particolare contro gli storici teologi come li chiamava lui che credono che la storia si svolga con ritmi preordinati e abbia uno sbocco necessario se la prendeva soprattutto con la storiografia idealistica e con quella marxista esse scriveva considerano il passato e il presente come viaggi verso un futuro predestinato non è il passato che spiega il presente e questo spiegherà il futuro quale che debba riuscire ma è il futuro che spiega il presente e il passato e voi non potete comprendere né il passato né il presente se non conoscete il futuro Salvemini ovviamente si collocava fra gli storici empirici io non sono uno storico teologo sono uno storico empirico non sono un'aquila sono un passerotto do quel che posso dare e quel poco cerco di darlo meglio che posso anche Vivarelli si collocava fra gli storici empirici e istintivamente si tirava indietro di fronte a ogni riflessione non dico filosofica ma anche categoriale sulla storia e la ricerca storica non avrebbe mai ammesso di avere una filosofia della storia per cui il titolo di questo mio contributo ne sono certo lo avrebbe irritato lo cambierò probabilmente ma qui lo dico subito non voglio neanche farne uno storico teologo mi propongo soltanto di mostrare come da un certo momento in poi vedremo quale egli sentì progressivamente il bisogno di allargare la prospettiva della sua ricerca fino ad allora concentrata esclusivamente sul fascismo e sulla storia d'Italia e di collocarla nei tempi lunghi della storia mondiale degli ultimi secoli inseguendo inseguendo questa prospettiva di lunga durata finì per elaborare con la consueta perentorietà una serie di visioni d'insieme di cui si valse per inquadrare problemi e vicende particolari vorrei anche mostrare come a un certo punto in questo quadro qualcosa si incrina si problematizza senza mai giungere tuttavia a un radicale ripensamento fino alla fine degli anni 60 la produzione e la riflessione di Vivarelli sono tutte interne ai problemi guerra dopo guerra fascismo poi affrontati sistematicamente nel volume del 67 il primo volume delle origini preparato da decine di recensioni interventi critici contributi documentari fin dai suoi inizi Vivarelli ha sostanzialmente aderito a una interpretazione radicale dei rapporti fra il fascismo e la storia d'Italia nel primo dopoguerra esasperati dal conflitto sarebbero riemersi una serie di problemi già presenti nei decenni precedenti problemi che la classe dirigente liberale non aveva potuto e o voluto affrontare adeguatamente e avviare a soluzione abbiamo sentito ieri Paola Carlucci la questione contadina era una di questi questi problemi dopo il 18 avrebbero provocato una crisi del sistema politico in cui si sarebbe vittoriosamente inserito il movimento fascista non è il fascismo la causa della crisi dello stato liberale sono altre il fascismo si inserisce nella crisi dello stato liberale questo è un leitmotiv diciamo così della riflessione di Vivarelli ora questa impostazione aveva illustri precedenti fino in fondo Vivarelli lo ricordava ieri anche Mauro fece propria la famosa definizione del fascismo come autobiografia della nazione elaborata da Gobetti che io non sono ancora riuscito a capire cosa significa e presupponeva un giudizio critico e limitativo del cinquantennio liberale dello stesso carattere liberale del regime prefascista per Vivarelli il regime prefascista non era un regime liberale ne scaturiva fra molte altre cose un giudizio critico della storia d'Italia di Benedetto Croce il testo di riferimento per coloro che si opponevano a una tale svalutazione l'approccio radicale era stato duramente criticato e messo in crisi alla metà degli anni cinquanta dai celebri interventi di Rosario Romeo sullo sviluppo capitalistico in Italia è vero che essi avevano come bersaglio principale la storiografia gramsciana ma Romeo inseriva il pensiero storico di Gramsci in una più ampia categoria quella di revisionismo risorgimentale in cui erano presenti molti degli autori di riferimento del giovane Vivarelli lo stesso Romeo avrebbe poi esplicitato le conseguenze storiografiche della sua posizione se lo Stato liberale aveva svolto in definitiva con successo il suo compito fondamentale che era quello di avviare il processo di industrializzazione e di modernizzazione del paese si doveva ammettere che coloro che per decenni ne avevano criticato il fiscalismo e la politica protezionista ed erano i liberisti erano i meridionalisti eccetera eccetera non avevano capito nulla non avevano capito nulla di quelle che erano come dire le esigenze dello sviluppo industriale e quindi il loro giudizio sul cinquantennio liberale non poteva essere preso come metodo di giudizio di quei decenni la discussione con le tesi di Romeo che chiaramente Vivarelli non la pensava così la discussione con le tesi di Romeo impegna Vivarelli per tutti gli anni settanta è questo confronto che per oltre un decennio lo trattiene dal mettere mano al secondo volume delle origini che anzi lo costringe è qui che comincia ad allargare la sua riflessione ai problemi di fondo della storia moderna e contemporanea bisogna aggiungere che si tratta di una discussione a distanza quasi per interposta persona non affronta mai di petto Romeo prima con Christopher Stephen Watson e la sua ottimistica storia del cinquantennio liberale siamo nel 1970 poi con Giuseppe Are in risposta al quale scrive il gran saggio su Einaudi di cui si parlava anche ieri uscito nell'81 ma è Romeo il vero interlocutore Vivarelli aveva ascoltato al croce le lezioni di Romeo che poi scaturirono nel secondo saggio quindi lo aveva conosciuto lì oggetto di una stima che rasenta quasi la soggezione ma anche di pungenti critiche ne abbiamo sentite anche stamani ad alcuni tratti della sua cultura e della sua sensibilità storiografica d'accordo scrive Vivarelli nel 70 nella recensione a Seton Watson nel mondo moderno e nell'ambito di quella civiltà occidentale a cui l'Italia appartiene il rimedio che si offre alla questione sociale è quello dell'industrializzazione ma ciò non significa che essa sia un obiettivo da conseguire a qualunque costo anche con politiche che abbiano poi ricadute negative sugli assetti politici e sulla mentalità collettiva cito l'impostare un problema quale quello della nostra rivoluzione industriale in termini puramente economici trascurando di considerare il costo politico della soluzione offerta sembra ricalcare il modulo di quel vacuo ottimismo clinico che si rispecchia nella battuta l'operazione è riuscita il paziente è morto in verità a me non pare affatto concludeva che possa stabilirsi questo è un assioma importante una generale equazione fra massimo risultato economico e massimo vantaggio politico insomma la rivoluzione industriale non deve essere considerata soltanto sotto un profilo economico e quantitativo è un valore se e solo se si accompagna a un processo a un processo di liberalizzazione politica e di modernizzazione culturale come nell'Italia liberale secondo Vivarelli non è accaduto lo avrebbe ribadito trent'anni dopo nel 2003 a dimostrazione che questo è uno dei nuclei del suo pensiero storico lo sviluppo economico non è il fine prioritario del progresso ma un mezzo la via per l'acquisto di un diffuso benessere che è desiderabile in quanto condizione stessa per l'esercizio di una vita più libera e questa vita più libera dovrà allora considerarsi il fine prioritario del progresso quanto più la rivoluzione industriale viene inserita nel contesto di quel più generale processo di trasformazione della società che conduce alla moderna democrazia tanto più il progresso economico dovrà considerarsi come subordinato al progresso civile come si vede per questa via il problema della rivoluzione industriale diventava centrale nella sua riflessione da qui l'esigenza sempre più nettamente avvertita negli anni 70 da un lato di superare una storiografia meramente politica come era stata la sua fino ad allora dall'altro di avviare una qualche forma di comparativismo storico scrive un importante intervento su quaderni storici nel 73 per copire anche avvenimenti storici svoltisi in tempi brevi dobbiamo avere davanti un quadro è quello che diceva anche ieri sera Paola Carlucci un quadro molto più vasto se no non capiamo nulla di questi avvenimenti e al tempo stesso dobbiamo avere presenti ciò che hanno fatto gli altri le esperienze che sono state si sono realizzate in altri contesti tutte queste esigenze trovarono un punto di coagulo nell'incontro con un'opera e con un autore che hanno giocato un ruolo decisivo nella maturazione del pensiero storico di Vivarelli mi riferisco a David Landers e al suo The Unbound Prometheus uscito nel 1969 salutato già nel 73 in questo intervento che ho già citato come una delle opere più serie e veramente importanti di questi ultimi anni nel campo della storia contemporanea soprattutto fu la parte iniziale dell'opera introduzione a colpirlo in essa Landers cercava come è noto di rispondere alla domanda sul perché la rivoluzione industriale si fosse sviluppata in Europa Occidentale e perché si fosse sviluppata proprio nella seconda metà del Settecento la risposta faceva riferimento non a presupposti di carattere economico soltanto ma soprattutto a presupposti di carattere istituzionale e culturale la rivoluzione industriale presupponeva insomma faccio un po' di sintesi la scoperta dell'individuo quindi un fatto culturale la formazione di istituzioni che ne garantissero la libera attività la razionalizzazione della vita umana e la rivoluzione scientifica quella che Weber Max Weber aveva chiamato di Enzauberung der Welt essa andava inserita all'interno di un processo di liberazione che molti anni dopo lo storico senese avrebbe chiamato la rivoluzione liberale dell'età moderna anzi ne era forse il momento fondamentale facciamo un po' di comparazione anche noi per capire questa posizione che è una posizione importante anche in una prospettiva marxista la rivoluzione industriale gioca un ruolo decisivo nella storia contemporanea ma essa inaugura una nuova divisione in classi e un regime di sfruttamento del lavoro salariato le cui contraddizioni emergeranno in modo sempre più stridente così si pensava fino alla crisi finale anche per Romeo e per Are l'industrializzazione era il presupposto di ogni modernizzazione perciò andava promossa forzatamente col protezionismo attraverso una politica protezionistica anche in un ambiente che non presentava gli indispensabili prerequisiti culturali e politici come l'Italia col rischio sostiene Vivarelli di consolidarne i tratti illiberali autoritari e conformisti nella cultura italiana di quegli anni dobbiamo cercare di pensare che questo pensava a queste cose negli anni 70 nella cultura italiana di quegli anni Vivarelli fu fra i pochissimi si potrebbe citare con lui l'economista Sergio Ricossa a proporre una lettura ottimistica ed emancipatoria della rivoluzione industriale senza la quale l'uomo sarebbe rimasto schiavo della fatica della paura di concezioni animistiche e magiche l'approccio storico di Vivarelli scaturiva e questo è un punto problematico da un equilibrio inevitabilmente sempre precario fra un momento realistico e un momento moralistico rifacendosi a Salvemini ma anche a Isaiah Berlin egli era ostile a ogni idea di inevitabilità e di necessità storica e condannava fermamente lo storicismo giustificatorio l'abbiamo sentito anche di cui gli sembrava da cui gli sembrava inficiata proprio la proposta di Romeo sull'industrializzazione Romeo dice a Vivarelli che fa prende ha in testa un ipotetico modello di sviluppo sulla base di quelle che sono le necessità le inevitabili necessità del paese dice che quello che è successo è quello che doveva succedere che quello che è successo è la migliore soluzione possibile si trattava dice scrive Vivarelli di un vero e proprio determinismo storico venendo a negare troppo radicalmente le possibilità inventive e creative dell'azione politica e le responsabilità che nel suo indirizzo assumono le singole volontarie scelte degli uomini le singole volontarie scelte degli uomini cioè la libertà della storia che l'azione anche quella politica sia determinata in primo luogo dalle volontarie scelte degli uomini il libero arbitrio come lo chiamava lui non so se filosoficamente si tratti di una definizione appropriata piuttosto che dai condizionamenti ambientali e culturali che quindi lo storico debba chiamare questi uomini di cui parla a render conto delle loro scelte e anche ad apostrofarli e questo è uno delle delle cifre lui si confronta e litiga con Claudio Treves con 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 continuamente come dire stabilisce questo rapporto di è come ognun sa una delle cifre più tipiche della storiografia di Vivarelli e questo il crucifice di cui parlava Cianrizio che aveva ragione chiaramente e condanna che diventa ancora più radicale quando costora femmino di aver agito nel nome di una superiore necessità storica questo è il tratto manzoniano si potrebbe dire moralistico di Vivarelli eppure nel ventennio che intercorre fra il primo e il secondo volume delle origini quindi dal 67 al 91 il cammino della rivoluzione industriale anche per i valori morali di cui come si è visto si carica assume nelle sue argomentazioni quasi un andamento teleologico è un futuro per dirla con l'empirico salvemini alla luce del quale si spiegano il presente e il passato il mondo moderno espressione che Vivarelli preferiva a quella oggi inflazionata di modernità costituisce un tale salto di qualità materiale e morale che coloro che a vario titolo sono rimasti legati alle società tradizionali non possono che rassegnarsi a sparire a essere superati dal corso storico e questo è il suo momento realistico non sarà storicistico ma questo è un momento realistico non piange su queste situazioni anche lo storico che condivida questo realismo deve però essere capace di sentire e far sentire la drammaticità della posizione e magari anche le ragioni di questi vinti nelle pagine di Vivarelli invece ogni disagio rispetto al mondo moderno qualsiasi estraneità rispetto alle sue esigenze trovano poca comprensione tipiche ma non mi ci fermo ora sono quelle sulla cultura toscana otto novecentesca lui dice tutto questo mondo della cultura toscana fascisti e antifascisti perché ci mette insieme il selvaggio ma anche Calamandrei e Pancrazzi sono hanno un comune denominatore costituito da una vena profonda e assai diffusa di opposizione al mondo moderno quale almeno nell'Europa occidentale si è andato sviluppando a partire dalla seconda metà del settecento e dice che questa estraneità corrisponde a una nostalgia per gerarchie sociali del passato e a ogni e alla mancanza insomma alla capacità di accettare quella autonomia morale e intellettuale del popolo questa è anche un'espressione curiosa vivarelli questo parola popolo che andrebbe bandita penso di quella capacità di giudizio di ogni singolo individuo il cui riconoscimento invece assai prima che quello dei diritti politici è un tratto a mio parere dice vivarelli dei più caratteristici della borghesia moderna della borghesia moderna dunque per vivarelli per il vivarelli di questi anni il mondo moderno andava accettato in blocco come la rivoluzione francese per Clamansot la sua realizzazione era il presupposto della effettiva emancipazione dell'uomo che soltanto nella modernità vedeva riconosciute la propria autonomia morale e intellettuale ogni estraneità nei suoi confronti era sintomo ad accettare era sintomo della difficoltà ad accettare una tale emancipazione vivarelli non si è mai soffermato molto sul problema dei cosiddetti costi umani della rivoluzione industriale è il momento realistico la sua risposta era quella tipica dei suoi autori di riferimento nel corso di una o due generazioni diceva il livello e le opportunità di vita del contadino inurbato sarebbero diventate decisamente superiori a quelle dei suoi avi nella società rurale il disciplinamento operato dalla fabbrica era il presupposto di una razionalizzazione della vita di cui avrebbe finito per avvantaggiarsi il cash nexus come lo chiamava sulla base di toimbi del toimbi dell'ottocentesco pur con tutta la sua durezza era per lui più dignitoso e quindi preferibile a ogni rapporto paternalistico e di patronage la bezzadria da questo punto di vista era la sua bet noire era la situazione il rapporto diciamo così assolutamente più negativo ma più che al mondo operaio la sua attenzione si rivolse principalmente al mondo contadino e al problema della trasformazione delle campagne operata dalla rivoluzione industriale e si capisce perché perché l'esperienza del primo dopoguerra in Italia che lui studiava gli rivelava il ruolo politicamente decisivo di quel mondo e gli effetti negativi di una sua mancata modernizzazione ciò che ha detto ieri Paola a brevio anche perché l'ha detto già lei anche in questa riflessione sul mondo contadino trovò alcuni testi di riferimento quello di Berrington Moore già ricordato ieri uscito nel 66 che diceva state attenti che le istituzioni di un paese corrispondono al modo con cui si è regolata la situazione nelle campagne quindi a paesi che mantengono situazioni arcaiche nelle campagne corrispondono strutture politiche autoritarie a coloro che hanno risolto il problema delle campagne semplicemente finendo col mondo rurale come in Gran Bretagna cioè facendolo sparire in qualche modo corrispondono istituzioni democratiche poi quello di Keith Thomas anche questo l'ha ricordato già Religion and the Decline of Magic del 1971 che analizzava appunto la profonda trasformazione culturale che si era avuto in Inghilterra fra 6-700 e infine quella di Eugene Weber di cui appunto abbiamo già parlato ieri uscito nel 76 ora nell'impegnativo io non mi dilungo su questo saggio nel testo mi dilungo ma è stato già fatto oggetto di una analisi da parte di Paolo Carlucci quindi insomma un po' stringo però si deve dire questo il problema di fondo era quello delle trasformazioni culturali delle campagne francesi e Vivarelli aderiva totalmente al modello di Weber nessun rimpianto per il tradizionale mondo contadino positività dell'abbandono di ogni visione magica e dell'accettazione in sua vece della moderna razionalità preliminare indispensabile a ogni miglioramento materiale importanza dell'opera di modernizzazione culturale svolta dallo Stato repubblicano francese il mondo contadino tradizionale ribadiva Vivarelli era una realtà di miseria servilismo e disperazione e non è seriamente sostenibile che sul piano della vita materiale le società preindustriali e in particolare il mondo contadino possano considerarsi in una situazione migliore di quella della società industriale per la cultura contadina ripeteva la definizione del sociologo George Foster essa era a culture of repression una cultura di repressione che si basava su una statica visione della realtà incapace di realizzare ogni effettiva via di progresso e qui siamo a un'altra parola centrale nell'universo concettuale di Vivarelli il problema del progresso siamo di fronte a un'idea quella di progresso che Vivarelli considera a ragione come la vera religione della prima età moderna ma di cui egli continua a farsi intrepido sostenitore in un momento storico gli anni settanta del secolo scorso in cui l'idea di progresso era ormai oggetto di una completa decostruzione è inutile lo dico in questa scuola è inutile che lo dico cioè l'idea di progresso comincia ad entrare in crisi nella cultura europea alla fine dell'ottocento ma dopo la prima guerra mondiale direi una crisi generalizzata c'è un importante testo di Gennaro Sasso che Vivarelli apprezzava molto questo testo e che lo dimostra abbastanza chiaramente lui continua a farsene sostenitore negli anni settanta ora larghe zone della cultura europea si dicevano convinte ieri è stato fatto il nome di Foucault che non ricorre mai nei testi di Vivarelli si dicevano convinte che l'affermarsi della razionalità borghese fosse in realtà il trionfo di un nuovo e più pervasivo controllo sociale e di emarginazione del diverso o dei diversi di questa cultura fu coltiana diciamo così e gli contestava il giudizio fortemente critico nei confronti dell'avanzante civiltà industriale e quasi la sfidava ribadendo appunto la sua fede nel progresso è significativo che rilanciasse in questi anni nel saggio su Mazzini e Salvemini è evidente una valutazione fortemente positiva proprio di Bentham e dell'utilitarismo inglese che invece allora la cultura fu coltiana è come dire cominciava a considerare come il principale centro di elaborazione di quei meccanismi disciplinari il cui sviluppo si sarebbe svolto parallelamente a quello del sistema rappresentativo parlamentare di Varelli nel testo ancora del 2005 dice che una delle dimostrazioni dell'idea di progresso è il fatto che basta fare il paragone fra lo squartamento del famoso mancato regiscita francese contro il vigi quindicesimo Damien squartato vivo nel 1757 e il fatto che sette anni dopo usciva l'opera di Beccaria dei dice che c'è un progresso morale io non sono un fucoltiano lo dico subito però ho avuto fra le mani anch'io sorvegliare e punire è lo stesso esempio da cui parte Foucault lo squartamento di Damien ma il passaggio al panopticon lo giudica in maniera molto diversa non è un progresso morale quindi ecco per far avvertire un po' le differenze se no le differenze culturali Vivarelli si rifaceva alla celebre opera di Elia Levy sul radicalismo filosofico ma ne forzava alcune conclusioni io parlo del saggio su Mazzini e Salvemini dell'83 mi sembra perché lo storico francese non aveva mancato di sottolineare anche le potenzialità organizzativistiche e i liberali presenti nel Bentamismo e invece Vivarelli le trascurava e lo vedeva tucur come cito l'esperienza politica che più compiutamente seppe riassumere e dare ragioni alle istanze del nuovo Stato liberale ma come valutare la scomparsa del tradizionale mondo contadino e della sua cultura di nuovo Paola ieri ha ricordato la polemica epistolare con Carlo Gisburg ma non solo epistolare cioè Gisburg era rappresentava comunque insomma era un autore di riferimento di quella vasta insieme di analisi che vedeva proprio nella cultura popolare contadina un'alternativa diciamo alla una serie di fermenti vitali capaci di prefigurare un'alternativa al corso effettivo delle cose e al processo di sviluppo industriale per Vivarelli non era così negava che questo trapasso fosse dovuto a un'azione puramente repressiva e che comunque scriveva tale repressione avesse un significato sempre negativo bisogna distinguere scrive attraverso quali mezzi e nel nome di quali valori essa la repressione viene attuata e anche la qualità di ciò che viene represso e di ciò che adesso si sostituisce l'esempio francese mostrava il ruolo che in questo processo poteva assumere il moderno stato democratico sia con una riforma agraria che ponesse fine alla tradizionale miseria contadina sia proponendosi di la prospettiva la la complessiva trasformazione culturale delle campagne il sistema democratico questa è un'altra convinzione fissa di Vivarelli presuppone che ogni uomo sono parole sue sia giudice del proprio interesse esso quindi deve sviluppare esso il regime democratico deve sviluppare nella maggioranza dei cittadini spirito di indipendenza e una capacità critica nei confronti dell'autorità fino ai suoi ultimi scritti Vivarelli sostenne che senza questa educazione alla libertà le istituzioni democratiche non possono reggere ma se si invoca un'opera di educazione inevitabilmente si presuppone l'esistenza di educati e di educatori di qui la centralità ci ritornerò che nella sua riflessione assumono le elite culturali gli utilitaristi inglesi dell'ottocento i liberisti italiani il gruppo della rassegna settimanale di sonnino e franchetti l'unità di salvemini il mondo di pannunzio e in seconda istanza il sistema educativo contrario come abbiamo visto ad ogni nostalgia per le gerarchie sociali del mondo di ieri Vivarelli avverte comunque l'esigenza di nuove elite nella società moderna e da questo punto di vista il suo pensiero si inserisce in una tradizione italiana di elitismo liberale che da Mosca giunge a Gobetti e in Audi e Salvemini che erano i suoi maestri quindi anche di pensiero politico e su questo interesse per l'elitismo liberale che nasce il suo colloquio con Bobbio che come sapete tutti nel famoso libro del 69 è il primo che tematizza e con saggi mirabili l'esistenza di questo filone di pensiero italiano un atteggiamento in qualche modo analogo Vivarelli assume rispetto al problema del rapporto fra l'Europa occidentale dove si è sviluppata la rivoluzione industriale e il resto del mondo ma sostanzialmente fa lo stesso discorso che ha fatto per il mondo contadino cioè come dire sostanzialmente giustifica per molti aspetti un certo tipo di presenza europea nel mondo non si rassegna che i lunghi secoli in cui l'Europa occidentale aveva dominato il mondo fossero oggetto di una condanna indiscriminata la conquista conobbe pagine tragiche e sanguinose ma esse non ne determinano interamente il carattere soprattutto riteneva necessario articolare il discorso e operare delle distinzioni cronologiche e concettuali scrive quando si parla di una egemonia dell'Occidente con ciò intendendo la sua forza di espansione verso determinati territori occorre chiedersi chi occupasse queste terre e senza riguardo per le stolide regole di una political correctness vedere se esse erano la sede di antiche civiltà o piuttosto di popoli primitivi e occorre anche chiedersi quali tra i popoli europei fossero i protagonisti dell'espansione e a qual fine già all'interno del continente americano dove la conquista è stata in presa duratura le differenze regionali legate alle vicende dell'occupazione e alla qualità degli occupanti tornerò su questo problema della qualità degli occupanti sono sotto gli occhi di tutti ora l'esempio del continente americano era eloquente perché metteva in luce la divaricazione tra il destino dell'America settentrionale e quello del continente latinoamericano divaricazione che era frutto appunto della qualità degli occupanti una cosa era l'espansione commerciale e anche coloniale del paese dove si erano pienamente affermati i valori i moderni valori liberali vale a dire la Gran Bretagna l'altra l'occupazione militare e la politica di rapina compiuta da altri stati in cui la svolta culturale e politica dell'Inghilterra del 5600 non era accaduta come la Spagna e il Portogallo e in Africa il Belgio non si può ammettere sullo stesso piano scrive Vivarelli il dominio inglese in India e quello belga in Congo l'impero britannico si era formato dopo la grande trasformazione industriale dell'Inghilterra ed esso ne aveva esportato anche i valori il proprio sistema economico il liberismo e politico il parlamentarismo oltre alla propria religione la regione anglicana e la propria lingua l'inglese e quasi ovunque era riuscito a predisporne la ricezione da parte dei popoli colonizzati per dirla in termini gramsciani quella inglese era stata una vera e propria egemonia non semplice dominio e un'egemonia che Vivarelli non poteva che giudicare positivamente seppur accompagnato da non episodica violenza e da non rari esempi di barbarie perché il cammino umano è sempre un intreccio di bene e di male l'espansione dell'Occidente ha corrisposto ad una diffusione di civiltà quanto meno di civiltà materiale ma non soltanto avendo portato ovunque i risultati della scienza moderna e un modello di comportamento sociale conforme a principi di libertà e di rispetto alla dignità della persona come si vede l'esperienza inglese era centrale nella prospettiva storica di Vivarelli la prospettiva alternativa era quella tedesca ne abbiamo parlato ieri ne ha parlato Borsina io non mi ci fermo voglio invece su un altro punto insistere tutto questo tipo di analisi collocata in quegli anni in quale come dire situazione si inseriva perché se non capiamo questo sembra che quest'uomo vivesse come dire allora Vivarelli dialoga consapevolmente con quel settore delle scienze sociali economia sociologia e anche storiografia che dopo la seconda guerra mondiale si era impegnato in una riflessione a tutto campo sul problema della modernizzazione la sociologia l'economia e anche Romeo aveva fatto questo il colpo di genio di Romeo alla metà degli anni cinquanta è di avere preso le analisi di questo mondo che si impegnava nel vedere come si andavano industrializzando i paesi del terzo mondo come si diceva a quel tempo e quali erano le differenze tra i loro processi di industrializzazione e quelli che erano avvenuti in Europa di aver preso il modello concettuale di queste analisi e aver applicato alla realtà italiana dell'ottocento perché nella fine dell'ottocento l'Italia era come ai tempi suoi una realtà asiatica questo fu il colpo di genio diciamo così di Rosario di Rosario Romeo Iverelli fa in qualche modo la stessa cosa soltanto che ha punti e riferimenti diversi perché mentre per Romeo il punto di riferimento era in Italia mancano i prediquisiti di una rivoluzione industriale bisogna ricorrere a un a un fattore sostitutivo questo è il concetto di Gerschenkron che è lo Stato e quindi è lo Stato che deve promuovere l'industrializzazione Vivarelli si rifà a un'altra corrente di questo mondo che invece punta alla trasformazione culturale cioè è la creazione sul livello di massa di una personalità moderna quella che avvia un paese alla modernizzazione e questa personalità moderna si forma con l'abbiamo detto mille volte con due modi il sistema scolastico e l'opinione pubblica cioè la presenza di elite culturali modernizzanti che guardano al primo mondo al suo esempio e traducono questa esperienza nel mondo che deve essere modernizzato questo è lo schema concettuale e questa è l'operazione che fa lui e che lo distingue dal pensiero appunto di di Romeo ora come capite all'interno di questo mondo di cui parlavo c'erano due come dire approcci un approccio di carattere descrittivo e un approccio di carattere prescrittivo cioè da una parte si descriveva come avvenivano queste modernizzazioni e industrializzazioni da quell'altra si diceva come si doveva fare un po' questi due momenti sono presenti anche nella stereografia di Vivarelli perché il modello inglese diventa per lui da una parte un paragone ellittico in base alla quale giudicare cioè come dire illuminare i processi che avvengono in Italia e in altri paesi da quell'altra diventa un metro di giudizio quando diventa un metro di giudizio le differenze diventano in lui resistenze al cambiamento diventano in lui persistenze del passato ritardi arretratezza limite allo sviluppo ora questo riguarda in primo luogo l'Italia Vivarelli tende a giudicare anche l'esperienza italiana in base spesso alla distanza più o meno grande rispetto al modello inglese piuttosto che al cammino effettivo che attraverso anche passaggi tragici il paese Italia ha compiuto a tali all'esperienza italiana manca sempre qualcosa il cammino del paese Italia verso la modernità appare nelle sue pagine come una specie di supplizio di sisifo si arriva in cima e si ricasca in fondo l'Italia sembra appartenere a quella che un grande storico politico francese di metà ottocento Charles de Remusat chiamava discutendo con un altro sostenitore dell'eccezionalismo inglese cioè con Edmund Burke le nazioni desesperées le nazioni senza speranza diceva Remusat se per essere liberi occorre esserlo già stati se per darsi un buon governo bisogna averlo già avuto se quantomeno occorre credere di avere avuto queste due cose la situazione dei popoli sarebbe immobile a causa dei rispettivi precedenti il loro avvenire sarebbe fatale e vi sarebbero delle nazioni senza speranza se un paese ha un'esile tradizione liberale è economicamente sottosviluppato ha raggiunto tardivamente l'unità politica possiede una classe dirigente non adeguata nel secolo e mezzo di storia italiana Vivarelli salva soltanto la destra storica i primi 15 anni che deve fare per promuovere una modernizzazione che sia anche uno sviluppo democratico e civile abbiamo visto i due modelli quello di Romeo era lo Stato quello di Vivarelli l'abbiamo visto era l'elite modernizzanti ma in un paese come l'Italia queste elite modernizzanti avevano difficoltà a trovare interlocutori nelle forze politiche e nel contesto sociale rischiano l'isolamento le loro prediche sono sempre inutili le loro battaglie sono sempre destinate alla sconfitta sono sempre dei vinti Vivarelli aveva gobettianamente il gusto di queste minoranze eroiche nel proposito dell'eroismo ne parlava anche Chiari Giovanni che per lui erano l'Italia civile e di cui probabilmente si sentiva l'ultimo epigono uno sguardo spassionato sulla realtà delle cose credo giustifichi un malinconico pessimismo e renda scettici sulla possibilità che oggi la forza della ragione possa aprire la strada al cambiamento difficile dire se vi siano e quali alternative questo era il messaggio conclusivo dell'ultimo del volumetto sull'Italia nel 2013 61 ora siccome mi sembra che sia insomma cerco di stringere sì sì cerco di stringere la mia la qual è il cambiamento una riflessione andrebbe fatta anche questa è una riflessione centrale ho già sottolineato l'importanza che la tesi Weberiana sull'etica protestante riveste all'interno della prospettiva di Vivarelli fra i predequisiti del mondo moderno non c'è per lui l'ateismo o un atteggiamento da esprit fort ma un fondamento religioso certo si tratta di un certo tipo di religione il cristianesimo riformato come lo chiama lui ma c'è Vivarelli la posizione la posizione spirituale di Vivarelli si può di questi anni si può definire come lui stesso la definisce quella di Salvemini un questo cristianesimo riformato cioè estraneo alla chiesa cattolica romana forte senso della laicità estraneità a ogni forma di ateismo ora il è evidente che in questa prospettiva il cattolicesimo e la chiesa cattolica viene considerato come uno dei principali ostacoli al processo di modernizzazione come lui lo segna fra il 5 e il 700 e l'800 è una dei come dire è nella genesi del mondo moderno sta la riforma la chiesa cattolica è la principale forma di opposizione e di resistenza all'affermazione della modernità e il suo ruolo viene giudicato con grande severità vi ricordate la qualità diversa degli occupanti è evidente che l'arriere panse era anche questo che gli spano portoghesi erano cattolici gli inglesi erano dei riformati questo vale anche per l'Italia lui accetta in toto fino in fondo la prospettiva risorgimentale diciamo così da Sismondi a De Santis per cui come dire l'antispagnolismo il giurizzo sulla controriforma la decadenza seicentesca il carattere corruttore del cattolicesimo controriformistico ora in una recensione del 32 alla storia d'Europa di Croce recensione che io considero uno dei più importanti scritti politici della prima metà del novecento in Italia Alcide De Gasperi invitava il filosofo a scendere dalla pura opposizione di principio al terreno dei fatti per vedere a parte a parte come essi cioè i cattolici si comportassero nell'epoca moderna di fronte alle libertà essenziali della vita quali sono le libertà della persona dei beni della famiglia del comune delle associazioni e di quella libertà politica che nel mondo moderno può venire considerata come indispensabile garanzia di tutte le altre se avesse proceduto su questa linea dice De Gasperi Croce si sarebbe accorto che il sillabo non era stata l'ultima parola dei cattolici ottocenteschi in tema di libertà politiche lo dimostravano alcune esperienze che Croce puntualmente accantona nella sua opera cioè quella del Belgio piccolo territorio è vero ma paese grande come campo sperimentale e vivaio d'Europa e quella anche del centrum tedesco sia nell'epoca di Bismarck sia nell'epoca di Weimar le cui linee programmatiche serviranno di esempio ai politici cattolici di tutti gli altri paesi restando all'interno dell'opposizione di principio fra cattolicesimo e mondo moderno anche Vivarelli ha difficoltà a entrare a fondo nella realtà del cattolicesimo politico che è poi il terreno su cui fra mille contraddizioni ripiegamenti e difficoltà il mondo cattolico si è venuto acclimatando nelle libertà politiche riflettendo sulla fondazione del partito popolare il suo maestro Chabot nel 50 l'aveva definita come l'avvenimento più notevole della storia italiana del ventesimo secolo specie in rapporto al secolo precedente con il nuovo partito emergeva alla vita politica una serie di ambienti che erano stati per i decenni precedenti si erano tenuti da parte e entravano con tutte le difficoltà che conosciamo sul terreno e accettando la logica delle istituzioni rappresentative per Vivarelli il partito popolare restava sostanzialmente un'altra cosa all'interno di un tipo di cultura scrive nel secondo volume che è agli antipodi della cultura laica e in base alla quale si difende un concetto tradizionale di chiesa che è quello nato dalla riforma tridentina in cui prevalendo un antico pessimismo e una ugualmente antica presunzione lungi dall'intendersi gli uomini di buona volontà come coscienze da avvicinare nel rispetto della loro libertà essi sono invece visti come pesci da pescare sicché compito primario in difesa della religione appare proprio quello di poter disporre delle più solide reti e il partito di Sturzo era una di queste più solide reti ho avuto sempre l'impressione poi i colleghi che ne parleranno mi diranno se ho ragione o no che le pagine dedicate al popolarismo nel secondo volume il secondo volume secondo me è il migliore dei tre è un capolavoro storiografico almeno a mio modesto parere sono le meno approfondite di tutto il volume e lo sono per una sostanziale mancanza di interesse del suo autore per tutto quel mondo eppure un uomo come Sturzo per il suo interventismo nel 15 il suo anticiolittismo il suo uilzionismo nel 19 il partito popolare è quello che con più forza cerca di portare avanti una pace democratica nel dopoguerra ma lui parla santanto di Salvemini nel primo volume non c'è il partito popolare a questo proposito avrebbe potuto essere in qualche modo congeniale lo stesso si deve dire di tutta l'esperienza della democrazia cristiana dopo la seconda guerra mondiale scorrendo la sua bibliografia è facile accorgersi come soltanto in un'occasione Vivarelli abbia superato le colonne d'Ercole del 1945 come storico in un breve saggio del 77 sul mondo di Pannunzio per il resto l'esperienza dell'Italia repubblicana non ha mai attirato la sua attenzione di studioso credo che questo silenzio nasca da una estraneazione di fondo radicata in complesse ragioni esistenziali l'Italia finiva nel 1945 ma certo anche la centralità in tutta l'esperienza della prima repubblica di un partito cattolico di un partito di cui non si sforzò mai più di tanto anche da avversario di comprendere le realtà e le dinamiche interne fece di lui uno spettatore ma non un analista della storia della prima repubblica finisco qui a breve l'ultima parte della relazione cercava di prendere ad esame il libro del 2005 secondo me ci sono sensibili cambiamenti di prospettiva in questo libro rispetto all'ottimismo progressista che connota la posizione di Vivarelli dal 67 al 91 emerge la constatazione che quella identità tra sviluppo economico e progresso morale in nome della quale lui e soltanto in nome di questa identità poteva accettare la rivoluzione industriale non è accaduta e che quindi come dire tutto quel processo di modernizzazione ha avuto un altro esito ha avuto un altro esito questo lo spinge a una riconsiderazione anche di alcuni momenti della storia del pensiero liberale nel senso che prima vedeva soltanto una marcia trionfale diciamo così ecco ora intravede in ogni momento di questo di questo sviluppo la possibilità di una modernità deviata sia diciamo all'interno sia per quanto riguarda la riforma sia per quanto riguarda l'utilitarismo sia per quanto riguarda il pensiero di Smith sia per quanto riguarda anche il laicismo ottocentesco e secondo la prospettiva di Rivarelli questa modernità deviata è quella che ha vinto e ha vinto perché perché secondo la sua prospettiva la Chiesa Cattolica non è stata in grado di accompagnare la società moderna nel suo sviluppo e quindi in qualche modo di rendere i valori della società moderna in qualche modo fruibili e gestibili a livello di massa questo crea un problema questo discorso è un problema di due tipi nel senso allora come dire questo pensiero liberale non è autonomo se ha bisogno di un'agenzia etica esterna che lo sorregga questo è un primo è un primo momento è un primo punto problematico croce aveva come dire intravisto la modernità deviata lui la chiamava attivismo però lui era convinto che il liberalismo fosse una religione della libertà cioè che avesse fosse avesse la capacità autonoma di dar vita a una visione del mondo e a un'etica conforme come diceva lui Vivarelli dice sostiene che ora che il liberalismo non ha radici religiose ma si fonda sulla tradizione cristiana quindi ogni lo dice lui ogni arretramento della tradizione cristiana è un arretramento del liberalismo finisco le ultime parole di Vivarelli non sono certo a mettere anche in discussione il mito di Prometeo recenziando il libro di Lendes nel 2003 non le piace più tanto questo mito che ha troppo di prometeico appunto di prometeico dietro il volto del sapiente benefico non si cancellano in Prometeo i tratti dell'astrologo arrogante sicché il significato della sua liberazione intesa figurativamente come l'avvio della modernizzazione rimane incerto e non ci viene detto se essa debba intendersi nel segno di un progresso civile che si mantiene nell'alveo di una tradizione cristiana o se invece esso corrisponde all'abbandono di quella tradizione e cioè una sfida verso il cielo il 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 Vivarelli ultimo non era certo ottimista eh e i suoi ultimi scritti testimoniano di un pessimismo diffuso però su questo io lo posso testimoniare anche a livello di così dei contatti personali che già avevo non era disperato eh da questo punto di vista cercava di di come dire di uscire da un'analisi che era oggettivamente pessimistica con un colpo di reni di carattere volontaristico come spesso appunto gli capitava di fare si chiedeva proprio anche nell'introduzione che ieri ha citato Paola Carlucci al volume storia e storiografia il progresso indubbiamente è esistito lui continuava ad avere questa ad avere questa convinzione non soltanto un progresso materiale ma anche un progresso morale perché si deve improvvisamente bloccare questo progresso come è esistito può riprendere in qualche modo la sua la sua via non era possibile prevedere come e quando ma gli uomini magari davanti alle sfide gigantesche che il nuovo secolo lascia intravedere avrebbero forse ritrovato quell'entusiasmo morale sono parole sue che in tutti i tempi è stato l'ingrediente base dei rinascimenti grazie 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 molle Roberto di un intervento che ci ha credo riportato ai la ricostruzione dei fondamenti dell'impostazione di vivarelli che mi pare appunto ce lo abbiano anche storicizzato in qualche modo e anche questo è importante cioè vedere il suo movimento nel tempo Direi che ora possiamo fare una pausa, una pausa che sarà più breve di quella che c'eravamo proposti, ma se riusciamo a riprendere alle 11.20, credo che riusciamo a terminare i lavori in mattinata. Per alcuni che forse ieri non erano presenti c'è la possibilità di vedere nella sala del ballatoio una piccola esposizione di documenti relativi all'archivio che Vivarelli ha depositato al nostro centro archivistico. Per gli altri 10 minuti per un caffè. Grazie molte. Bene, ecco se ne prendete posto, riprendiamo, visto che cerchiamo di concludere in mattinata, riprendiamo subito e riprendiamo con l'intervento di Ilaria Pavana che ci parla sulla riflessione di Vivarelli a proposito dei temi dell'antisemitismo e più in generale dell'abrialismo. Grazie. Rispetto agli interventi che mi hanno preceduta, per i tempi e i contenuti, il mio intervento avrà di fatto più la forma di quello che solitamente nei convegni si usa chiamare una comunicazione. Il tema infatti di questa mia comunicazione, la riflessione che Roberto Vivarelli ha dedicato alla questione dell'antisemitismo fascista in particolare, costituisce senza dubbio una pagina infatti estremamente marginale e quantitativamente anche assai esigua della sua produzione. Si tratta anche di un interesse maturato tardivamente verso una questione che di fatto sino agli anni 2000 Vivarelli non aveva mai avvicinato. A questo proposito permettetemi veramente una velocissima digressione personale. Quando nel 2001 mi presentai al professore, ero entrata l'anno precedente al corso di riflessionamento, per avere un primo incontro con lui e illustrargli gli ambiti della mia ricerca dottorale che riguardavano il 1938, l'applicazione delle leggi razziali e in particolare le conseguenze di lungo periodo da un punto di vista socio-economico, il professore mi disse con grande sincerità, molto candidamente, che avrei dovuto fare tutto da sola perché lui di quegli argomenti non sapeva nulla. Evidentemente da quell'anno in avanti le cose, anche per il contesto storiografico e personale direi, sono poi cambiate. Per cui è evidente anche da alcuni velocissimi passaggi che riguardano il tema della persecuzione antisemita, a cui ha già fatto accenno Daniele Benozzi ieri nella sua relazione, che si possono trovare nella fine di una stagione, che motivazioni poi anche di carattere biografico, oltre che storiografico, relative alla costante riflessione di Vivarelli sulla natura e la storia del fascismo, lo abbiano alla fine, nel corso appunto degli anni 2000, portato ad avvicinare anche il problema dell'antisemitismo fascista. I momenti fondamentalmente sono due in cui ha trattato questo argomento. Un primo, più cursorio episodio, è rappresentato da un passo, decisamente breve, poco più di un paio di paragrafi, dell'articolo Fascismo e storia d'Italia, tra autobiografia, per l'appunto, e riflessione storiografica, comparso una prima volta su ricerche di storia politica nel 2003, e poi riconfluito nel volume del 2008. Il secondo momento, questa volta un intervento autonomo dedicato al tema, in cui peraltro alcuni accenni presenti nel testo del 2003 vengono di fatto ripresi e articolati in maniera molto argomentata, è poi del 2009, ed è su questo testo del 2009 che mi concentrerò. Si tratta di una lunga e densa recensione di oltre 30 pagine, quindi definire la recensione è probabilmente riduttivo, direi che si tratta quasi di un saggio storiografico, per molti aspetti, per molti tratti, comparso sulla rivista storica italiana nell'estate del 2009, e intitolato Le leggi razziali nella storia del fascismo italiano. L'occasione che aveva stimolato la scrittura di questo intervento era la traduzione, l'anno prima, nel 2008, in italiano, del testo del volume di Marianne Matar Monucci, L'Italia fascista e la persecuzione degli ebrei. Una ricerca, quella della Matar, che attirò le critiche, anche molto puntute e taglienti, di Vivarelli in vari passaggi di quelle pagine. Il testo di Matar affrontava in modo particolare la dimensione politica e ideologica della scelta della politica antisemita da parte del regime fascista. Secondo la studiosa francese, in Italia, cito, l'antisemitismo di Stato fu pensato come un mezzo per rilanciare la macchina totalitaria e derivò da un'esigenza di politica interna. L'esclusione degli ebrei fu quindi pensata, secondo la studiosa francese, come un motore che avrebbe rivitalizzato un regime ormai al potere da oltre 15 anni e che necessitava, per la sua stessa dinamica interna, di nuove forme di consenso, insomma, di ricerca di mobilitazione interna. E quindi, appunto, la politica antisemita rispondeva alle necessità congiunturali di questo tipo di dinamica. Il giudizio, peraltro, complessivo, che la studiosa francese dava sulla stagione dell'antisemitismo fascista era comunque netto e in realtà molto vicino a quello che lo stesso Vivarelli alla fine ne dava. Perché diceva, Matard, vera e propria involuzione rispetto alla storia dell'Italia liberale, l'adozione delle leggi razziali costituiva una svolta nella storia del fascismo, poiché, fino ad allora, l'antisemitismo era rimasto marginale, tanto nella teoria quanto nella pratica. Giudizio che, come vedremo, in fondo, non divergevano molto da quelli dello stesso Vivarelli, nonostante, appunto, tutta la recensione fosse improntata a una forte critica, almeno esteriore, nei confronti del testo di Matard Bonucci. Nel suo complesso, il volume della studiosa francese riproponeva, quindi, ipotesi interpretative già da anni, già da tempo avanzate da larghi settori della storiografia su questi temi, ma respinti, invece, con determinazione nella fase più recente degli studi, ovvero, appunto, il primato della politica, la compresenza di fattori di politica estera e interna nella genesi della svolta razzista e antisemita, l'ampiezza e i limiti della fascistizzazione della città italiana, la debolezza dell'antisemitismo nell'Italia liberale e nell'ideologia fascista delle origini. Mi sono soffermata sugli intenti, appunto, del libro della Matard, che, come accennato, appunto, fu criticato aspramente da Vivarelli, perché a una lettura più attenta della recensione vivarelliana, a me, appunto, appare che gli elementi di comunanza nelle tesi di Matard e Vivarelli, a parte alcuni punti, siano, alla fine, più numerosi degli elementi di dissenso, ma tornerò su questo a breve. Andiamo, dunque, alla recensione vivarelliana. Come si capisce dal testo, dal titolo stesso dell'intervento del 2009, Le leggi razziali nella storia del fascismo italiano, la discussione del volume di Matard Bonucci offriva a Vivarelli lo spunto per una riflessione decisamente più ampia, che, in realtà, utilizzava le osservazioni rivolte al lavoro di Matard solo come uno spunto, un filo rosso, direi, attraverso cui svolgere una discussione di portata più generale, in cui finivano per entrare molti temi vivarelliani per eccellenza, tradizionali, insomma, della sua produzione. Ovvero, cito dalla prima pagina della recensione del 2009, il carattere stesso del fascismo italiano, la sua natura e la sua storia. Si trattava, quindi, di questioni che finivano per toccare anche il tema della natura totalitaria o meno, del fascismo, del confronto nazismo-fascismo e della validità o meno dell'uso di un concetto generale di fascismo come categoria ermeneutica. Per l'ampiezza dei temi, quindi, che confluivano nella discussione di Vivarelli, anche Vivarelli sposava implicitamente la lettura sostenuta esplicitamente, invece, da Enzo Collotti nella sua presentazione, nella sua prefazione al volume del 1999, Razze e fascismo, secondo la quale, cito da quella introduzione, la politica fascista contro gli ebrei apparteneva, Tukur, alla storia del fascismo e alla storia d'Italia. Ripeto, pur senza citare in nota il volume di Collotti, e su questo dettaglio dei rapporti con la produzione proprio collottiana tornerò in seguito, anche per Vivarelli, quindi, il problema dell'antisemitismo fascista andava certamente letto e considerato come parte integrante della storia del fascismo e dunque della storia d'Italia. Su questo direi che non c'erano dubbi dell'importanza, comunque, che veniva attribuita a questo capitolo, anche da Vivarelli. Partiamo dal momento in cui compare il contributo di Vivarelli, cioè il 2009. Quello che, infatti, molto velocemente vorrei proporre, è più che altro un tentativo di contestualizzazione dello scritto di Vivarelli all'interno del dibattito storiografico su questa questione, in quella precisa fase. L'intervento si collocava, a mio avviso, all'apice di una stagione di studi e all'inizio, in un certo senso, anche del loro declino. Voglio dire che la ricorrenza del 2008, cioè il settantesimo anniversario della promulgazione delle leggi razziali, aveva dato la stura a una nuova e piuttosto nutrita serie di pubblicazioni ed iniziative editoriali, lo stesso volume della Matard, ma anche il testo di Francesco Cassata sulla difesa della razza, i due volumi Utted sulla storia della Shoah in Italia. Quasi un profluvio, oserei dire, tra pubblicazioni maggiori o minori su questo tema, originatesi appunto intorno al settantesimo anniversario, che in qualche modo aveva contribuito, a mio avviso, anche a portare una certa saturazione su questi temi. per cui tra il 2009 e il 2010 credo si possa anche collocare la fine di una stagione storiografica, o perlomeno l'inizio di un suo declino, ovvero di quella intensa e per tanti aspetti innovativa stagione di studi dedicata alle leggi razziali e all'antisemitismo fascista iniziata agli inizi degli anni 90. Una stagione che appunto nel 2009 direi che si avviava a una sua lenta fase di discesa, da quel biegno in avanti, direi che al di là di integrazioni abbastanza circoscritte sulla questione delle leggi razziali e dell'antisemitismo fascista, al di là di tutto il coté relativo agli studi sull'antisemitismo cattolico che invece hanno continuato a produrre importanti opere, non si è poi prodotto un numero di studi rilevanti o realmente innovativi dal punto di vista contenutistico e interpretativo. La riflessione di Vivarelli dunque aveva in un certo senso anche l'obiettivo di riassumere e di prendere posizione, una posizione netta, come spesso accadeva a Roberto Vivarelli, rispetto a una delle due parti storiograficamente in lotta, se così si può dire, rispetto a quella che era allora e in buona parte ancora rimane, una delle questioni maggiormente controverse e dalla quale lo stesso scritto di Vivarelli partiva. Qual era questa questione? cito dalla recensione del 2009. Nella storia del ventennio fascista le leggi razziali furono una svolta, cioè rappresentarono un salto di qualità, o si trattò invece dell'esito, se non necessario, quantomeno logico, di quel percorso politico che ebbe inizio nel marzo del 1919? È intorno a questo nodo problematico, quindi il 1938, come svolta o meno, che si sono di fatto, a partire dagli anni 2000, soprattutto nella produzione un pochino più tarda dedicata al tema, che si sono concentrate e polarizzate, a mio modesto avviso, anche eccessivamente, molte delle posizioni espresse dalla storiografia. Da una parte abbiamo coloro che leggono il 1938 come sbocco di una sorta di progressione antisemita che matura per accumulazioni e approssimazioni successive dal 1919 in avanti o forse anche da prima, in cui entrano in campo, pur compesi e articolazioni differenti, tanto la politico-demografica, igienista, pronatalista, la svolta razziale e coloniale, ma soprattutto quel vasto sostrato culturale, quella mentalità diffusa dai toni razzisti antisemiti che ha attraversato a vari livelli e con differenti articolazioni la società e le élite culturali e politiche del Paese, fasciste, ma anche prefasciste e che si è molto spesso nutrita di una babele di linguaggi politici nonché del contributo della cultura scientifica e penso agli studi di Maiocchi, Nastasi, Israel, dello stesso Cassata in parte. La frangia più ortodossa per così dire di questa corrente, tra cui lo stesso Cassata ma Giorgio Fabre, intravedono poi una sorta di antisemitismo immanente non tanto nella storia d'Italia quanto sicuramente nelle posizioni e nel pensiero dello stesso Mussolini. Dall'altra parte è invece coloro che negano una lettura per così dire continuista o evolutiva e vedono nel 1938 un momento di cesura netta rispetto a quello che era stato l'atteggiamento tutto sommato benevolente del fascismo rispetto agli ebrei. Una rottura, quella del 1938 dettata da ragioni che anche tra i fautori di questa stessa interpretazione restano in discussione. Da una parte più recentemente autori appunto come la stessa Matardi e Germinario che individuano nel 1938 la volontà del fascismo di imprimere la decisiva svolta totalitaria al regime e tentare la famigerata promozione della nascita dell'uomo nuovo fascista. Dall'altra parte chi come Giade Felice, Mermica Elis ma anche recentemente Belardelli e vedremo lo stesso Vivarelli giudicano invece la svolta del 1938 come il risultato di un calcolo sostanzialmente politico. Nello scritto del 2009 appunto la presa di posizione di Vivarelli rispetto a queste due parti in lotta era assolutamente chiara. Come ho detto il 1938 rappresentava per lui una svolta nel senso di un cambio di passo netto radicale del fascismo rispetto alle precedenti posizioni tenute nei confronti degli ebrei. Riprendendo quindi le interpretazioni già espresse da De Felice nel 1961 nel famigerato studio dedicato alla storia degli ebrei italiani sotto il fascismo Vivarelli riteneva la decisione mussoluniana del 1938 legata esclusivamente al calcolo politico alla ragione di Stato citando un documento relativo all'incontro di Bottai in particolare con uno dei leader della comunità ebraica subito dopo il varo della legislazione ebraica anti-ebraica scusate Vivarelli riconduceva quindi le cause della svolta del 1938 al nuovo quadro internazionale creatosi con la guerra di Etiopia a sua volta motivata da ragioni legate fondamentalmente al consenso interno secondo Vivarelli guerra che aveva alla fine reso l'Italia isolata e subalterna di fronte all'ascesa della Germania nazista era dunque dentro questa cornice nazionale internazionale soprattutto che andavano ricercate cito le ragioni vere che spinsero il duce del fascismo alle leggi razziali un prezzo politico per sgombrare la strada da possibili ostacoli verso un'alleanza con la Germania che si riteneva conforme alla ragione di Stato senza poi negare che la maggioranza della popolazione italiana accolse con indifferenza la legislazione razziale senza mostrare forme particolari di empatia o solidarietà nei confronti dei perseguitati Vivarelli sosteneva tuttavia che neppure la rumorosa propaganda razzista tra il 38 e il 39 soprattutto riuscì a cambiare le cose ovvero cito ancora a promuovere nella generalità dei cittadini un razzismo di cui mancavano le radici quindi un'affermazione estremamente netta e forse anche troppo tranciante direi e alla luce di categorie come il conformismo e il cinismo e non dell'antisemitismo e di sue radici all'interno della società italiana che quindi andava letta per Vivarelli la reazione della società italiana all'antisemitismo di Stato quindi una categoria più morale che storica come spesso abbiamo evocato in questi interventi di queste due giornate e questo valeva questo conformismo questo cinismo questo opportunismo nel leggere le reazioni della società italiana andava adottato non solo dal periodo 38-43 ma anche nel periodo 43-45 ed era parlando del bienio 43-45 che nella recensione del 2009 sono percepibili alcuni pochi echi biografici che anche nell'intervento emergono sulla scorta di alcuni come ho detto in realtà assai fugaci passaggi a questo riguardo che a questo riguardo appunto Vivarelli aveva già scritto nella fine di una stagione anche nel 2009 Vivarelli cito sosteneva che anche a Salò i campioni dell'antisemitismo furono pochi ed emarginati tra i sentimenti che animarono la grande maggioranza di quei militanti l'antisemitismo non ebbe una parte attiva in qualche modo sono parole quasi identiche ai passaggi che si possono ritrovare nel volume la fine di una stagione quindi primato della politica assenza di un sentimento antisemita diffuso se non a livello di un frastagliato e assistematico pregiudizio di difficile però definizione in altro modo se questo è sommariamente ciò che emerge dalla recensione una più attenta lettura di quel testo mi ha alla fine portato a considerare che il reale confronto il reale bersaglio delle osservazioni di Vivarelli non era tanto il volume di Mattar Bonucci con il quale come accennato in apertura in realtà le linee di convergenza in realtà esistevano e anche in maniera consistente le critiche infatti al lavoro di Mattar Bonucci rappresentano il livello più esteriore di più immediata lettura quelle che emergono leggendo subito il testo più velocemente ma a mio avviso il vero confronto anche più profondo in quel testo Vivarelli lo svolge nei confronti di un altro storico italiano e cioè di Angelo Ventura e più precisamente lo ingaggia nei confronti di un importante dalla mia lettura uno dei più importanti e significativi scritti sulla questione che Angelo Ventura pubblicò sempre sulla rivista storica italiana nel 2001 intitolato La svolta anti-ebraica nella storia del fascismo italiano in quel testo peraltro paradossalmente intitolato La svolta si sosteneva esattamente il contrario Ventura infatti sosteneva che la spiegazione del 1938 andasse in realtà cercata nelle profonde più lontane origini culturali del razzismo e dell'antisemitismo italiano analizzando come questi atteggiamenti questi grumi ideologici alla fine erano andati definendosi e consolidandosi dal 19 in avanti sino a tradursi poi in concrete scelte politiche il razzismo e l'antisemitismo erano dunque per ventura in nuce nel codice genetico del fascismo e rappresentavano se non un suo necessario e deterministico sbocco su questo Ventura era molto chiaro al negare qualsiasi andamento teleologico rappresentavano però uno sbocco logico un logico sviluppo cioè di quell'ideologia nazionalista autoritaria gerarchica e imperialista e quindi che affondava le sue radici in quel radicalismo di destra che Ventura vedeva come humus dal quale tutto questo movimento era sorto Ventura analizzava poi in che modo questi principi si erano meglio definiti ed erano stati propagandati attraverso soprattutto una certa idea di stato e di nazione portata esplicitamente avanti dal fascismo e citava in questo senso una serie di testi ufficiali fascisti di riferimento molto chiari e molto espliciti e metteva soprattutto in evidenza come la concezione idealistica e spiritualistica gentiliana di stato e di nazione non fosse stata né la sola né quella alla fine prevalente poiché in realtà secondo Ventura era stata la concezione di Alfredo Rocco con la sua evidente componente etnica e organicistica che si può desumere sin dagli scritti precedenti alla prima guerra mondiale di Rocco a prevalere a prevalere perlomeno dalla fine degli anni venti in avanti per cui già dalla seconda metà degli anni venti era possibile rintracciare una definizione su basi protoraziali sicuramente etniche e aggiungo io anche religiose della comunità nazionale che era stata posta anche in testi ufficiali e positivi del fascismo come ad esempio il nuovo codice penale la cui paternità appunto ricade fondamentalmente su Rocco quindi lungi da rappresentare un discrimine tra fascismo e nazionalsocialismo per ventura il razzismo e l'antisemitismo costituivano un denominatore comune tra fascismo e nazismo e confermavano di conseguenza la validità scientifica dell'uso del concetto generale di fascismo era dunque dalla confutazione di queste posizioni dalla posizione di ventura e non della matar secondo me che Vivarelli in realtà partiva per argomentare la sua lettura del 38 in maniera antitetica a ventura cioè come svolta in particolare Vivarelli rigettava ma direi senza sufficienti pezze d'appoggio documentarie l'idea che con il fascismo fosse intervenuto un cambio di paradigma nella definizione e nel ruolo dello Stato e della nazione rispetto al periodo liberale il fascismo per Vivarelli cito dal testo del 2009 si presentava come antagonista dello Stato liberale ma sempre nel nome dello Stato nazionale cioè dello Stato nato con il risorgimento senza quindi evidenti mutamenti nei principi di base della definizione di Stato e di nazione e in questo senso quindi Vivarelli concludeva che se non vi era stato posto almeno a livello politico per l'antisemitismo nel periodo liberale così poiché lo Stato più o meno era rimasto lo stesso non poteva trovarvi posto neanche durante il periodo fascista Vivarelli citava poi nel testo del 2009 la sola celebre gentiliano mussoliniana voce dottrina del fascismo del 1932 sostenendo giustamente che non contenesse nessun riferimento al razzismo o agli ebrei vero peraltro contiene prima del passo che solitamente tutti citano per avvalorare appunto l'idea di una concezione spiritualistica della nazione in realtà quella voce dice anche al passaggio precedente la nazione è formata da tutti coloro che dalla natura e dalla storia etnicamente traggono ragione di formare una nazione quindi ci sono anche in quella voce alcuni elementi che contraddicono una visione puramente spirituale della nazione ma dicevo Vivarelli citava questa voce dell'enciclobide italiana ma non citava assolutamente Rocco Rocco non è mai menzionato l'importanza quindi dell'ideologia sostenuta da Ventura soprattutto relativamente a questa idea di nazione veicolata dal fascismo a partire dagli anni 20 veniva da Vivarelli nettamente ridimensionata e Vivarelli non sposava neanche il fatto che il fascismo avesse una sua identità ideologica definita essendo nato e quindi però il suo punto d'osservazione era sempre la nascita delle origini del fascismo più che l'evoluzione poi nei due decenni successivi cito come strumento di lotta politica più che come frutto di un'idea politica precisa occorreva quindi per Vivarelli molta cautela nell'attribuire a un fatto compiuto nel nostro caso il varo della persecuzione antisemita una qualche definita e precisa paternità ideologica e altrettanta cautela invocava Vivarelli nel valutare il ruolo delle idee nella realtà fattuale del processo storico e questo lo abbiamo anche visto in molti degli interventi che mi hanno preceduto era dunque rispetto alla lettura di Ventura che si delineavano a mio avviso le maggiori e più profonde divergenze interpretative in quel testo un'osservazione riguarda poi le note bibliografiche apposte alla recensione che come lo stesso Vivarelli scriveva nella prefazione alla raccolta di saggi confluita nel 2008 nel volume Fascismo e Storia d'Italia hanno cito appunto dalla premessa un carattere per così dire autobiografico e documentano il percorso particolare seguito dall'autore per pervenire in quel dato momento ai risultati che presenta proviamo quindi a leggere sotto questa chiave sotto questa lente anche autobiografica le note alla recensione del 2009 che erano molte molto ricche complete testimonianza di letture attente ampie di testi vecchi nuovi e nuovissimi anche sul tema delle leggi razziali fasciste una mancanza tuttavia balza agli occhi o almeno è balzata ai miei occhi ed è appunto quella dei lavori di Enzo Collotti mai nominato in tutte le numerose e ricche note della recensione manca sia il volume il fascismo e gli ebrei del 2003 ma soprattutto mancano i quattro volumi comparsi tra 1999 e 2007 dedicati a illustrare in modo analitico e sistematico la genesi e l'applicazione della legislazione razziale in Toscana tra il 38 e il 45 uno studio che per capillarità e sistematicità risulta a mio avviso tutt'oggi ineguagliato in cui Collotti e il suo gruppo di lavoro dimostravano l'intreccio complesso la sovrapposizione nelle misure del 38 e delle loro applicazioni di tanti e diversi piani di come occorresse tenerne debitamente conto ideologia propaganda importanza e funzionamento delle strutture amministrative poliziesche rapporto centro-periferia consenso diffuso ruolo dell'antisemitismo cattolico era un quadro veramente ricco che peraltro esulava dal porsi la domanda se il 38 rappresentasse o meno una svolta in qualche modo non era il problema posto principalmente da quel testo è certo possibile che quei volumi Vivarelli non li conoscesse ma la mia impressione che ovviamente rimarrà mai non sarà mai suffragata da prove è che quell'omissione in realtà sia stata volontaria anche sulla scorta di quello che lo stesso Vivarelli sosteneva che le note a piedi pagine dovessero rappresentare cioè il proprio personale percorso e che questa omissione quindi in qualche modo sia legata sia al fatto che sin dal 1989 in quel testo che è fascismo-fascismi Collotti sia sempre stato un sostenitore per così dire della validità ermeneutica della categoria generale di fascismo che come abbiamo visto invece Vivarelli rigettava e la rigettava anche nel testo del 2009 ritenendo le teorie generali del fascismo cito delle costruzioni retoriche ma forse anche e ancora qui un elemento biografico può emergere quel test di quei quattro volumi di Collotti riguardavano proprio la sua Toscana riguardavano anche Siena riguardavano tra l'altro anche Alberto Chiurco il ruolo di Chiurco nel regime e anche nelle fasi appunto più drammatiche della persecuzione e Chiurco è citato anche nel testo alla fine di una stagione c'è un incontro tra Vivarelli e la madre e Chiurco Chiurco che era a podestà era capo della provincia scusatemi dal 43 al 45 autore di un testo razzista fondamentale nel 40 che è la sanità delle razze e l'impero quindi in qualche modo credo che sia stata una omissione non del tutto involontaria quella che riguarda appunto i testi collottiani che ripeto pur esulando dalla domanda se il 38 sia stata una svolta o meno davano un'articolazione e una ricchezza di dettagli su quello che era la fotografia della città italiana fascista di quegli anni che contraddiceva la lettura un po' schematica che forse Vivarelli ne dava mi avvio la conclusione sono passati oltre sette anni dalla recensione di Vivarelli e come dicevo in precedenza dal 2009 al 2009 e 2010 in avanti non si sono registrati interventi che hanno spostato l'asse interpretativo in maniera decisiva verso uno dei due poli interpretativi che ho presentato e molto poche sono state anche le ricerche che hanno portato elementi anche puramente conoscitivi nuovi lo stato quindi della discussione rimane nelle sue linee essenziali al punto in cui era fondamentalmente nel 2009 anche le due ultime puntuali recensioni in quelle rassegne storiografiche scusatemi firmate da Valeria Galimi da Mario Toscano nel 2014 e nel 2015 attestano in qualche modo lo stallo e per certi aspetti come accennavo in precedenza la saturazione di questo filone di studi tuttavia questo non significa che non rimangano aperti ancora diversi interrogativi mancano per esempio tuttora delle ricerche sistematiche sull'antisemitismo non cattolico direi serpeggiante sotto il regime fascista prima delle leggi razziali manca un'indagine sulla diffusione sul campo semantico di termini come razza o stirpe nella retorica nella propaganda del regime dagli anni 20 in avanti la questione del consenso poi evocata peraltro ripeto anche dallo stesso Vivarelli come miccia attraverso la guerra di Etiopia degli avvenimenti successivi merita inoltre certamente ulteriori approfondimenti se poche leggi furono infatti applicate con tanto zelo come quelle che perseguitarono gli ebrei e questo direi che una messa di studio ormai lo rivela come un dato acclarato raramente direi che è stata sottolineata la grave incongruenza tra una persecuzione tutt'altro che blanda e un paese dove effettivamente l'integrazione degli ebrei nella società era stata per decenni successivamente all'emancipazione più agevole che nel resto d'Europa quindi di questo paradosso più che di un 38 come svolta o meno si è assai poco discusso e tantomeno se ne sono cercate le concrete ragioni nella storia del paese la questione del consenso porta poi con sé anche quello del rapporto tra società italiana e persecuzioni antiebraiche un campo di studi che ancora questo attende di essere dissodato più in profondità e lo studio sulle responsabilità personali e qui richiudo riportandoci a uno appunto dei fili rossi di tutta la produzione vivarelliana sulle loro motivazioni di queste responsabilità personali rimane ancora in buona parte da illuminare e così direi che l'invito metodologico che lo stesso Vivarelli in controluce di fatto formulava lungo tutte le pagine della recensione del 2009 ma probabilmente in controluce della sua intera produzione ovvero considerare non tanto gli schieramenti ideologici ma i comportamenti concreti e personali rimane ancora parzialmente disatteso in questo senso è un invito a continuare gli studi su questo tema grazie bene grazie grazie Ilaria ci ha illustrato mi pare molto bene il contesto in cui si inserisce l'intervento questo ampio intervento di Vivarelli e anche le ragioni per cui solamente tardi emerge il tema benissimo grazie ora do la parola a Giovanni Sabatucci ringrazio anche lui di essere intervenuto a questo nostro incontro e la sua relazione ritorna in qualche modo sul problema del nesso liberalismo fascismo che come abbiamo visto costituisce uno dei tratti fondamentali dell'indagine di Vivarelli gli do la parola ringraziandolo di nuovo intervento grazie sono io che ringrazio chi ha organizzato questo questo convegno in particolare Daniele Menozzi e mi ha anche assegnato il tema lavorandoci un po' su mi sono convinto che il tema è centrale da vari punti di vista centrale nell'opera di Vivarelli nella riflessione di Vivarelli dal punto di vista cronologico occupa un bel pezzo della sua riflessione della sua attività di ricerca e anche dal punto di vista proprio tematico dei nodi che attraverso la questione dello Stato liberale poi vengono alla luce in realtà mi capiterà di parlare di cose che sono state già in parte trattate questo da una parte mi dovrebbe indurre alla brevità dall'altra mi fa venire invece voglia di ritornare su alcuni temi magari di dire anche la mia ma cercherò di essere sintetico ecco dicevo questo del del giudizio sullo Stato liberale italiano è un tema forse il tema centrale ma non lo è da subito non lo è dall'inizio lui stesso che spiegava sempre i suoi come era arrivato non solo a delle conclusioni ma anche a intraprendere un certo filone di studi lo dice più volte lo dice nell'introduzione per esempio al primo volume della storia delle origini del fascismo quello uscito nel 67 per Ricciardi col titolo il dopoguerra in Italia e l'avvento del fascismo allora cosa dice dice che il suo scopo era quello di ricostruire il quadro di insieme di quegli anni dalla guerra mondiale alla marcia su Roma in cui credo debbano propriamente collocarsi le origini dell'Italia contemporanea quindi lo sguardo è rivolto al dopo più che al prima la stessa chiamata in causa dell'Italia contemporanea fa pensare a Chabot naturalmente ma a una periodizzazione che parte dal 18 per spingersi semmai più in avanti piuttosto che indietro questo comunque era il programma originario da svolgere nel solco di quelli che abbiamo detto tante volte di Varelli indica come i suoi maestri che sono dedicatari della sua storia Gretano Salvemini e Federico Chabot in realtà per quanto riguarda poi questo problema del giudizio dello Stato liberale è molto più Salvemini che Chabot non solo perché Salvemini se ne era occupato un po' di più ma anche perché il giudizio di Vivarelli ovviamente si rifà più che a quel poco che si può poco o molto che si può ricavare dai libri di Chabot alla lezione di Salvemini inutile ripetere per l'ennesima volta quanto sia stata centrale prima di entrare nel tema mi permetto un breve inciso una breve digressione nel giro di tre anni fra il 65 e il 67 sono usciti i primi volumi di tre opere che si annunciavano di grande impegno e di grande respiro e anche di lunga durata e di grande sviluppo i primi due tomi che avevano poi a che fare con la questione della crisi dello Stato liberale in qualche modo allora i primi due tomi del Mussolini di De Felice 65 e 66 l'Italia neutrale presentata come primo volume di una grande opera sull'Italia di fronte alla prima guerra mondiale 1966 di Brunello Vigezzi e appunto il primo volume di quella che poi sarebbe stata la storia delle origini del fascismo di Vivarelli 67 attenzione tutti e tre questi storici che ho nominato erano nati nel giro di pochi mesi fra il 29 e il 30 tutti e tre erano passati attraverso l'istituto Croce l'istituto italiano per gli studi storici dove allora il direttore era Federico Chabot da caso altra cosa che avevano in comune erano tutti e tre erano dei pionieri diciamo così della ricerca archivistica sull'Italia contemporanea che fino allora non c'era stata ci hanno arrivati per vie diverse De Felice attraverso la comunità ebraica per scrivere la storia degli ebrei italiani Vivarelli l'abbiamo appena detto per una forte segnalazione di Chabot e Vigiezi non lo so ma comunque erano accomunati anche da questa novità proprio sul piano delle fonti inutile ricordare che dei tre il solo Vivarelli ha completato la sua grande opera anche se ci ha messo più di mezzo secolo se partiamo dal 56 arriviamo a quasi 60 anni mi sono chiesto spesso da che cosa derivasse questa tendenza come dire al gigantismo storiografico no? possiamo farci rientrare anche il più volte citato Romeo col suo Cavour dal 69 all'84 mi sembra sia al ritmo delle sue uscite anche se lui ha qualche anno di più pochi anni di più ma contano in questo caso nel senso che lui è il segretario dell'Istituto degli Studi Storici quando Vivarelli De Felice o Melograni o Vigiezi sono ancora allievi e poi parliamo di altre cose quindi poi di Romeo magari mi capiterà forse anzi direi sicuramente di riparlare dicevo da che cosa deriva questa e da chi soprattutto beh il responsabile nel senso del modello di tutto questo è ha un nome e un cognome Federico Chabot è ovvio direi che autore di un giustamente celebrato volume di premesse di 700 pagine ha una storia della politica estera dal 70 al 96 che poi non è mai uscita ora quelle 700 pagine che lasciavano intuire uno sviluppo in proporzione se le premesse sono di 700 pagine l'opera sarà di 7000 grossomodo ecco queste rimangono diventano un classico tanto per cominciare un classico della storiografia e diventano anche un modello e anche un po' una sfida per gli allievi per la generazione degli allievi bene torniamo a Vivarelli e all'incontro con le tematiche dello stato prefascista quando e perché avviene questo incontro ancora una volta lo spiega lui lo spiega nell'introduzione al volume sul fallimento del liberalismo io ho scritto l'82 voi mi dite l'81 chi sbaglia di noi verificheremo il volume tra l'altro il titolo del volume il fallimento del liberalismo appunto studi sulle origini del fascismo già si vede come dire si entra già nel titolo nel tema e lui spiega qui nel fallimento del liberalismo e poi anche nell'introduzione alla raccolta fascismo e storia d'Italia dà questa spiegazione che serve anche a giustificare questo lungo intervallo fra il primo e il secondo volume quasi un quarto di secolo cioè 24 anni in sintesi cosa ci dice Vivarelli lui una volta licenziato il primo volume si dedica con grande impegno alle ricerche allo studio per fare il secondo volume quello sull'immediato dopoguerra legge tutto quello che c'è da leggere ricerca tutto quel che c'è da ricercare c'è da crederli conoscendolo guarda le carte d'archivio e si accinge a scrivere a stendere ma a questo punto però qualcosa si inceppa i conti che nel volume precedente tornavano questo lui stesso lo dice perché parlava ancora di stato di guerra parlava di premesse no e quando poi si entra nel merito del periodo non tornano più non bastano queste premesse a capire il collasso dello stato liberale il problema dice Vivarelli se l'era già posto salvemini nell'elezione di Harvard anche in alcuni scritti del primo dopoguerra e poi più articolatamente nel famoso saggio introduttivo al libro di Salomone su Giolitti dal titolo fu l'Italia prefascista una democrazia punto interrogativo questa introduzione si riprendeva poi un tema che era già stato oggetto di un altro dibattito breve ma famoso quello fra Croce e Parri alla consulta dove Parri sosteneva che quella era la prima volta che l'Italia si dava una democrazia Croce sdegnato rispondeva ma come noi eravamo già una democrazia ovviamente avevano due idee diverse della democrazia non è che uno dei due mentisse semplicemente si tratta di capire che cosa si intende per democrazia comunque dicevo Salvemini il problema se l'era posto ma dice Vivarelli non aveva dato una risposta neanche lui aveva dato una risposta così come non l'aveva data Croce nel 28 naturalmente e così aggiungo io come non l'avrebbe data Romeo nei suoi scritti sull'Italia unita brevi scritti per lo più però insomma non l'ha data lui e direi in questo si può essere d'accordo con Vivarelli non l'avevano data non dico gli apologeti ma coloro a cui fra cui quali io tenderei ad annoverarmi che davano un giudizio non così negativo della storia liberale per dire un saggio bellissimo e forse dimenticato di Alberto Quarone alla ricerca dell'Italia liberale dava tutta un'altra interpretazione però la risposta non c'era perché Salvemmio non aveva dato la risposta secondo Vivarelli l'aveva fatto per motivazioni politiche nel senso nobile del termine parlare troppo male dello stato liberale equivaleva a parlare un po' meno male del fascismo e quindi lui si era si era fermato ma nell'Italia degli anni sessanta queste remore posto che mai fossero state giustificate non erano più giustificate e quindi qui e a questo punto fine anni settanta inizio settanta che la questione dello stato liberale diventa centrale nella riflessione di Vivarelli il primo scritto in cui lui affronta direttamente il tema è questa impropriamente chiamata recensione del libro di Sidon Watson della storia d'Italia dal settanta al venticinque dico impropriamente perché intanto per la la mole tutte le recensioni di Vivarelli erano così si partiva da fare una recensione poi si spaziava infatti poi si chiamava Italia liberale del fascismo considerazioni su una recente storia d'Italia che tanto recente non era perché era uscita tre anni prima appunto una riflessione che parte da questo libro a cui sono riservati elogi parecchi elogi generici e molti appunti piuttosto critici e fortemente critici anche questo era nello stile di Vivarelli la critica principale che lui muove a questo libro è la stessa che rivolge a Croce e allo stesso Salvemini eccetera lui dice un'opera che racconta la storia dell'Italia liberale e sceglie come termine adquem il 1925 lo stavo leggendo con l'intonazione di chi legge una citazione no lo scrivo io per per parafrasare quello che dice che dice Vivarelli un'opera che sceglie come termine adquem il 1925 non può non dare risposta alla domanda delle domande cioè non spiega a sufficienza e qui cito Seaton Watson come mai un popolo libero e intelligente come l'italiano si fosse cacciato nella situazione del 1925 qui c'è un po' anche uno stile della storiografia anglosassone così a volte banalizzante diciamo come mai si era cacciato in questa situazione insomma una volta che si sia scartato e Vivarelli la scarta poi vediamo perché l'idea di un esito finale scontato predeterminato della crisi post bellica non la può accettare lui questa tesi perché la pensa come sappiamo sul libero arbitrio sulla possibilità che c'è sempre di intervenire nell'andamento delle cose politiche non lo può accettare perché lui è contro una concezione teleologica della storia l'abbiamo visto poco fa se ne parlava poco fa una volta scartata questa questa idea che tutto fosse predeterminato e forse non è un caso che negli scritti di Vivarelli Dennis Max Smith non si è praticamente mai citato se non per cose così incidentali una volta scartato tutto questo resta da capire che cosa non aveva funzionato nella macchina dello Stato unitario e qui cito Vivarelli quei nodi di problemi vecchi e nuovi lasciati irrisolti dallo Stato liberale ebbero poi effettivamente fra guerra dopo guerra e sia pur in forza di circostanze in gran parte nuove un peso determinante nel provocare la crisi delle nostre istituzioni e la vittoria del fascismo ecco l'approccio secondo me è corretto meno convincente secondo me è il quadro dello Stato liberale che poi Vivarelli fa un quadro a tinte fosche decisamente una critica molto dura e una critica dico semplificando banalizzando tutta da sinistra da una posizione che potremmo definire radical azionista azionista di sinistra come volete definirla sappiamo a che cosa ci riferiamo tant'è che poi in questi anni Vivarelli si muove spesso in accordo e quasi di conserva con uno storico per altri aspetti da lui lontanissimo come Nicola Tranfalli per dire la impostazione di questo saggio saggio recensione sul sito Watson è quella attenzione il punto di vista da cui parte è secondo me cioè lui parte da un assunto incontestabile uno Stato liberale può dirsi tale se e nella misura in cui riesce a garantire ai suoi cittadini libertà e ordine questa è una cosa che ripete molto spesso nel primo dopoguerra lo Stato italiano ha sacrificato all'esigenza dell'ordine quella della libertà e si è consegnato al fascismo ma già prima aveva fallito aveva fallito perché la classe dirigente aveva concesso poco in termini di libertà e soprattutto perché dopo la caduta della destra storica e anche questo è un passaggio abbastanza discutibile secondo me non so chi lo diceva prima la sinistra poi aveva allargato il suffragio e abolito la legge sul macinato no il giudizio sulla sinistra è drasticamente negativo soprattutto dopo l'avvento della sinistra la classe dirigente liberale o sedicente liberale aveva confuso il mantenimento dell'ordine con la difesa dei propri privilegi quello uscito dal processo di unificazione era uno stato accentrato autoritario in cui il godimento delle libertà personali era gravemente limitato da dispositivi di polizia quasi ne parla come di uno stato di polizia in cui il cittadino non aveva possibilità di farsi valere di fronte ai soprusi di una pubblica amministrazione onnipotente fino a che era rimasto al potere alla destra questi tratti autoritari si erano in qualche modo giustificati con la difficoltà e con la grandezza del compito cioè la costruzione dello stato dopo la falsa rivoluzione parlamentare del 76 venute meno queste giustificazioni la struttura istituzionale era rimasta la stessa aggravandosi invece la commistione fra interesse pubblico interessi privati fra politica e pubblica amministrazione fra centralismo e localismo senza autonomia la classe dirigente non aveva saputo non aveva voluto porre mano poi soprattutto alla questione sociale che per Vivarelli ancora parla di questione sociale poi parlerebbe più specificamente di questione contadina e qui identifica in qualche modo la questione sociale con la questione meridionale accostamento abbastanza discutibile se riferito poi al primo novecento invece più che giustificato si è riferito agli anni sessanta dell'ottocento di cui però Vivarelli non parla la repressione del brigantaggio che pure secondo me è un passaggio essenziale di questa deriva autoritaria o come la vogliamo chiamare non viene in genere menzionata Vivarelli è stato già detto e qui posso tranquillamente saltare non crede alle tesi di Romeo non crede a questa ipotesi giustificazionista diciamo così non c'è nessuna certezza che una via diversa avrebbe ostacolato reso impossibile la costruzione dell'infrastruttura e lo sviluppo industriale né c'è certezza che quello sviluppo industriale fosse l'unica via ma anche questo è stato già detto stamattina anche e anche ieri insomma nulla può giustificare la condizione miserrima delle classi rurali delle masse rurali non si insisterà mai abbastanza scrive Vivarelli sulle condizioni di miseria delle nostre plebie è un tema che ritorna spesso e all'incapacità della classe dirigente di affrontare la questione sociale Vivarelli fa risalire interamente anche quei caratteri di ribellismo ricorrente quelle pulsioni anarchiche anarchoidi come si diceva che caratterizzano appunto le masse popolari e quelle rurali in particolare si ribellavano perché erano in condizioni disperate e la colpa non poteva che essere delle classi dirigenti proprietarie e politiche e anche questo è un punto che come si è già visto ritorna spesso ecco però prima di affrontare questo punto solo due parole per spiegare perché ho detto prima che questo quadro secondo me non è del tutto convincente il primo è che la ricostruzione di Vivarelli e il suo giudizio sulla classe dirigente hanno come termine di riferimento esplicito non solo implicito le liberal democrazie anglosassoni in particolare la Gran Bretagna che a fine ottocento non era una democrazia nel senso pieno tra l'altro ecco quando si fanno questi bilanci secondo me il discorso non vale solo per Vivarelli si dovrebbe tenere presente come termine di paragone non la Gran Bretagna che era essa stessa un'eccezione ma la Spagna il Portogallo la Grecia di cui noi poco sappiamo io stesso anzi non so quasi nulla però forse quella era il termine di riferimento rispetto a cui anche tracciare un bilancio insomma ecco in quelle condizioni come si poteva e quanto si poteva crescere secondo motivo di dissenso da parte mia Vivarelli muove alla classe dirigente liberale una critica di carattere essenzialmente etico e politico parla di responsabilità personali o collettive di venire meno di uno slancio ideale e lascia invece un po' in secondo piano anche se non manca del tutto l'analisi a livello istituzionale e come ho detto un momento fa non dà secondo me peso adeguato alle circostanze eccezionali in cui si era attuata l'unificazione quelle circostanze che nell'ottobre 60 1860 avevano fatto dire a Cavour che il problema in una lettera dell'ottobre 60 che è stata citata recentemente da Sabino Cassese il problema era fare l'Italia per costituirla dopo cioè l'importante è farla bisogna farla e subito poi vedremo poi sì e allora tutto questo solo questo senso di urgenza di occasione irripetibile spiega molte cose come l'assenza di un processo costituente le misure repressive a cominciare dal brigantaggio che è un passaggio essenziale in questo senso e la stessa tendenza della classe dirigente a identificarsi con le istituzioni e la tendenza della cultura giuridica ma questo sarebbe un altro discorso a privilegiare sempre le ragioni dello Stato rispetto alle espressioni della società è un tema anche questo che Viverelli poi tratta in altri momenti e in altra forma ma adesso torno sulla questione contadina più in generale appunto sulla questione sociale come nodo mai sciolto dell'Italia liberale e questo è argomento di un altro lungo saggio che pure è stato citato che in realtà è la relazione a convegno su rivoluzione e reazione in Europa 1978 Perugia c'ero e mi ricordo che mi fece una notevole impressione ascoltare tu Loreto mi sa che eri troppo piccolo però dovevi andarci lo stesso comunque gli altri sono stati pubblicati attenzione non a cura di Rapone non mi ricordo a cura di chi ma non credo a cura di anzi lo escluderei nel 78 dalle edizioni avanti il saggio poi è stato inserito nella raccolta il fallimento del liberalismo dell'81 dell'82 ecco sono passati otto anni dal saggio sul sito Watson e la prospettiva in parte è cambiata in parte perché Vivarelli parte da un discorso sul problema della guerra sulla critica a quelli storici soprattutto di estrema sinistra di allora che pensavano che l'Italia durante la guerra la grande guerra e soprattutto dopo Caporetto avesse vissuto una grande occasione rivoluzionaria neanche per sogno dice Vivarelli e ha perfettamente ragione e confuta anche la tesi soprattutto della storiografia diciamo marxista così in senso lato di un saggio piuttosto famoso di Giuliano Procacci secondo cui sarebbe stata la guerra a stravolgere in senso autoritario i tratti dello Stato liberale sarebbe stata un punto di svolta cosa poco accettabile per chi come Vivarelli si è sempre rifatto e non ha mai abbandonato per un momento la tradizione dell'interventismo democratico quindi lui direa che la guerra fosse stata l'origine di tutti i mali chiaramente non li poteva non li poteva andar bene la accentuazione dei caratteri autoritari dello Stato risaliva secondo lui almeno al 1887 il fatidico 1887 l'anno della tariffa doganale e del primo governo Crispi quanto alla questione dell'occasione rivoluzionaria Vivarelli d'accordo in questo con il melograni della storia politica della grande guerra altro libro importante di questa fase di questo periodo e per una volta d'accordo una delle rare volte anche col De Felice dei primi volumi della biografia di Mussolini lui negava che ci fossero state mai queste condizioni rivoluzionarie ma chiamava in causa la responsabilità del socialismo massimalista nel mancato esito riformista e democratico della crisi post bellica e lo faceva in termini molto netti ora per carità questa critica era già negli scritti classici cioè quelli che sono ancora secondo me i classici salveni delle elezioni di Harvard e anzi prima ancora tasca di nascita del fascismo questo c'era cosa c'è di nuovo c'è un'analisi originale penetrante del fenomeno del massimalismo collegato non tanto e non solo come era ovvio agli echi della rivoluzione russa ma anche soprattutto a una cultura a una tradizione di ribellismo di sovversivismo di intransigenza rivoluzionaria le cui radici secondo Viverelli andavano rintracciate addirittura nel risorgimento in particolare anzi nella predicazione mazziniana del dopo unità nel rifiuto assoluto di Mazzini di riconoscere la legittimità dello stato unitario accostamento più che giustificato per il semplice fatto che se noi andiamo a guardare le biografie dei pionieri dei fondatori del socialismo italiano erano tutti passati attraverso il mazzinianismo da turati e bissolati anche i massimalisti lazzari serrati avevano tutti fatto l'esperienza del garibaldinismo o del mazzinianesimo ma giustificato l'accostamento anche per quella che era la base rurale predominante del movimento socialista cioè i caratteri oggettivamente massimalisti delle lotte agrarie nelle campagne padane questo è il punto fondamentale al di là delle distensioni di correnti io dico appunto oggettivamente massimalisti perché molti fra i capi delle leghe rosse della fedelterra in realtà derivano dalla corrente riformista molto minoritaria allora ma massimalista era il loro modo di condurre le lotte massimalista era la loro intransigenza nel rivendicare come obiettivo la socializzazione della terra e in questo non c'era gran differenza con le posizioni della maggioranza massimalista del partito socialista è qui che la questione del massimalismo socialista si collega alla questione contadine erano la stessa cosa secondo Vivarelli che già era stata individuata come principale nodo irrisolto dell'Italia prefascista ma anche ora è qui la novità come precedente come concausa del fascismo è verosimile che a queste conclusioni Vivarelli sia arrivato non tanto attraverso un travaglio teorico che pure ci fu in questi anni probabilmente ma attraverso lo sviluppo delle sue ricerche attraverso lo studio della crisi post bellica che lo porta a analizzare a riconsiderare il peso delle lotte agrarie come fattore risolutivo centrale nella crisi post bellica anche questo l'abbiamo detto la battaglia decisiva insomma si combatte nelle campagne padane più che nei centri industriali e l'evento di svolta non è l'occupazione delle fabbriche anche se sembra tale ma è lo sciopero del bolognese è lo sciopero del bolognese che dura mesi e mesi ed ha dei momenti di durezza terribile diciamo per colpa si può ben dire da questo punto di vista per colpa per scelta ecco della dirigenza del movimento contadino del movimento contadino di ispirazione socialista ecco e qui e qui qui mi fermo per non invadere il campo di Loreto di Nucci ecco però voglio dire che questo nuovo approccio alla questione contadina e al fenomeno del massimalismo non è e non vuole essere in alcun modo giustificazionista rispetto al fascismo non vuole essere di giustificazione perché è stato accusato Viverelli nel momento in cui dice guardate che quelli facevano questo questo e quest'altro le violenze esistevano già all'inizio del bienio rosso e non non solo dopo ma insomma non è stato il solo fascismo a portare la violenza nella lotta politica ecco lui invece rifacendosi in parte a tasca mantenendo il suo giudizio negativo sullo stato liberale sulle sue propensioni repressive però redistribuisce i pesi della responsabilità nel saggio del 70 abbiamo detto un momento fa Viverelli faceva riferimento alle pulsioni sovversive delle plebi rurali ma addostando nella responsabilità alle sole classi dirigenti qui parla invece di un fenomeno che non è solo reattivo ma è un fenomeno politico dotato di sue proprie caratteristiche e quindi portatore di sue responsabilità discorso che poi riprenderà e svilupperà nel secondo volume della storia delle origini intanto però mentre l'arrivo di questo secondo volume tarda e Viverelli continua a riflettere sul tema dello Stato liberale e anche qui accennerò a cose che sono già state dette stamattina allarga il campo allarga il campo delle sue ricerche che era già ampio e concentra la sua attenzione anche sui modelli di Stato sul confronto con le esperienze degli altri paesi abbiamo detto il riferimento principale sempre ai paesi anglosassoni sulle possibili occasioni mancate dall'Italia e il frutto di questa riflessione e un passaggio centrale dell'opera intera di Viverelli è quest'altro saggio lunghissimo questo più lungo di tutti quasi 200 pagine che si intitola fascismo come è Italia liberale fascismo liberalismo liberismo fascismo protezionismo un trascurato giudizio di Luigi Enaudi sulle origini del fascismo anche il titolo è lunghissimo ecco anche qua possiamo dire che Viverelli espone sempre con chiarezza non solo i suoi debiti storiografici ma anche i suoi riferimenti etico-politici diciamo e i suoi orientamenti anche in materia di teoria economica che lui si mette a studiare praticamente legge legge un sacco di cose appunto sullo sviluppo economico in genere sul pensiero economico di fra 8 e 900 il giudizio sull'Italia liberale non cambia rispetto al saggio del 70 ci sono però accenti diversi decisamente diversi se prima il riferimento di gran lunga più importante era Salvemini e tale resta per carità ora è Enaudi cioè lui trova il suo riferimento trova appunto una una ipotesi esplicativa sulla crisi dello Stato liberale che per quanto contenuta in poche pagine tratte dal libro di Enaudi sulla condotta economica della guerra del 33 guardate bene 33 ecco Enaudi diventa appunto il riferimento principale più importante e con lui la cultura radicale liberista radico liberista di fine 800 inizio 900 quella appunto la seconda serie del giornale degli economisti tante volte citata De Viti De Marco i giovani pareto i giovani non erano neanche tanto giovani insomma i pareto e pantaleoni prima maniera e i vari mazzole poi i più giovani come Giretti Papa Fava eccetera eccetera questo gruppo di cui in questo saggio Vivarelli ricostruisce molto dettagliatamente la storia le fratture interne le scissioni eccetera eccetera ecco questo diventa il riferimento perché perché in quelle poche pagine e in Audi da un punto di vista non solo economico affrontava il problema della crisi dello Stato liberale delle insufficienze delle inadempienze dello Stato liberale e offriva al problema anche se per tratti essenziali quella risposta che Salvemini non aveva voluto o potuto dare che gli altri non erano in grado di dare ecco lui la risposta la trova leggendo la condotta economica della guerra di in Audi e quello diventa un po' il suo il suo faro allora per in Audi la crisi del primo dopo guerra era il punto d'arrivo di un processo di degenerazione che era cominciato anche per in Audi nel 1876 poi si era aggravato nell'87 l'incapacità della classe dirigente di operare nell'interesse generale la tendenza a fare dello Stato uno strumento di parte attraverso il quale perseguire interessi particolari a spese delle finanze pubbliche questo poi era in sostanza la degenerazione e a questa degenerazione si erano adattati sicuramente una buona parte degli imprenditori italiani quelli dell'industria protetta naturalmente che anziché impegnarsi come è nella missione dell'imprenditore sul piano del rischio e dell'innovazione avevano preferito adagiarsi nelle nicchie ottenere favori dallo Stato sotto forma di aiuti e di tariffe protettive la grande guerra aveva ovviamente ma su questo è inutile insistere accentuato questo processo imposto questa dilatazione mostruosa delle mostruose per i naudi degli apparati pubblici i famosi lacce e lacciuoli eccetera eccetera ma già prima questa degenerazione era abbastanza avanzata e aveva coinvolto anche le classi lavoratrici e il moto diciamo così di lotta di emancipazione che fra fine ottocento inizio novecento aveva interessato soprattutto le campagne italiane a cui Einaudi aveva guardato in un primo tempo con simpatia ma poi invece e qui la coincidenza con le tesi salveminiane è ovvia cioè aveva alla fine poi abbandonato per accettare il compromesso il compromesso fra le elite operaie del nord e i grandi proprietari del mezzogiorno compromesso nel nome del protezionismo quello che appunto aveva reso irreversibile il processo di degenerazione era l'adozione della tariffa dell'87 simbolo effetto e causa anche al tempo stesso di una pratica appunto di favori ed espressione di un'idea di stato che non si conciliava con lo spirito autentico del liberalismo allora qui evidentemente vengono alla luce altri problemi non mi manca molto no non molto allora primo facendo proprio questa impostazione e ponendo l'accento sulla coppia di opposti liberismo protezionismo e individuando nel protezionismo un potente fattore di degenerazione e un necessario precedente del fascismo perché questo suggerisce il titolo Vivarelli si trova a polemizzare ancora una volta con Romeo l'altro grande storico liberale anche se di un liberalismo molto diverso da quello vivarelliano e appunto scende sul terreno dell'analisi economica riprendendo le critiche a Romeo cioè le critiche che i primi critici di Romeo rivolto ai famosi saggi e alla storia della grande industria anche cioè Gerschen Cronzereni eccetera eccetera e appunto lo fa con grande scrupolo sulla base di ampie letture ma attenzione il suo interesse è sempre rivolto alla dimensione politica del problema lui dice molto chiaramente attenzione le tesi di Einaudi e dei radicoliberisti che peraltro noi non possiamo giudicare in termini di efficacia perché hanno perso e non sono mai state applicate hanno dei significati delle implicazioni che vanno molto al di là della loro maggiore o minore validità tecnica sono delle proposte politiche rappresentano fanno riferimento a un'idea precisa dello Stato dei suoi compiti e della sua organizzazione e qui arriva appunto l'altro allargamento tematico che ha i modelli di Stato e anche di questo abbiamo già in qualche modo parlato insomma per dirla in breve fra 8 e 900 sono due i modelli uno protezionista autoritario militarista e un altro liberista democratico orientato al progresso civile più che alla guerra è una contrapposizione è stato detto risale a Spencer e non solo perché c'è poi tutto un filone quello delle talassocrazie insomma ci sono varie diverse varianti di questo schema che Vivarelli ripropone e argomenta come al solito in grande nettezza io confesso di trovarla discutibile questa classificazione questa tipizzazione diciamo così ora a parte la difficoltà ma questo è un discorso direi non fondamentale di collocare la Gran Bretagna di Cobden e di Gladstone che è sempre il faro come abbiamo già detto il riferimento positivo eccetera eccetera fra le potenze pacifiche le pacifiche non erano affatto erano potenze liberali commerciali ma pacifiche no e soprattutto erano imperiali ma ciò che soprattutto trovo poco convincente è questa identificazione fra Stato liberista e Stato democratico non perché io pensi come oggi molti pensano che lo Stato che il liberismo sia una parolaccia che sia una cosa in sé cattiva ma perché credo che liberismo e Stato democratico sono due realtà non omogenee sono due cose diverse due entità non comparabili in quanto eterogene tra l'altro così erano sentite dai liberisti e dai democratici dell'epoca i liberisti se avessi detto a Cobden che lui era un democratico avrebbe detto che non sapeva neanche forse di che cosa si stesse parlando così come non si poteva negare la qualifica di democratico a che ne so a Napoleone con la Ianni per dire per dire un bardo della democrazia che però era ostinatamente e ferocemente protezionista per fare solo qualche esempio ma voglio dire sono due cose due cose diverse possono stare assieme possono non stare assieme ma ripeto sono termini non omogenei anch'io penso che il modello delle liberal democrazia anglosassoni fosse sia preferibile a quello degli stati autoritari del centro Europa che forse erano un po' meno autoritari comparativamente di quanto non si pensi oggi in fondo avevano i loro parlamenti avevano i loro partiti di massa avevano il loro dibattito politico ma insomma diciamo che io preferisco le democrazie anglosassoni però resta che questi modelli non si presentavano allo stato puro ecco e che il caso italiano fosse difficilmente inquadrabile nell'una o nell'altra idea al tipo a questo punto dovrei saltare gli anni 80 e passare all'analisi del secondo e del terzo volume dell'opera maggiore dei Vivarelli non vi spaventate perché non lo farò non lo farò perché lo farà fra poco Loreto e poi il mio il mio compito è quello di parlare delle origini lontane del fascismo non dell'avvento del fascismo e quindi per concludere vorrei solo porre un problema più attinente al mio tema e anche al tema del convegno e il tema è quanto è cambiato nel tempo l'approccio di Vivarelli alla questione dell'Italia liberale in parte ho già accennato quanto è cambiata in generale la sua visione in senso lato della della sua visione politica in senso lato che non vuol dire partitica lui ha sempre detto di non avere mai ascrizioni partitiche maliziosamente potrei ricordare che in una recensione del 67 al solito lunga e molto puntuta ai primi due volumi del Mussolini di De Felice lui anche questa poi inserita nel fallimento del liberalismo sì sì in questa specie di nota recensione su Mussolini e il fascismo eccetera eccetera Vivarelli rimproverava De Felice lo dico da allievo di De Felice non senza qualche fondamento una scarsa coerenza di giudizi nell'opera di De Felice che così se eseguiva un ragionamento di quel momento di quel tema e a volte finiva a dare delle risposte anche contraddittorie e questo Vivarelli lo fa notare con al solito condovizia di esempi ecco possiamo rivolgere questa accusa proprio nei confronti di Vivarelli lui avrebbe risposto sicuramente di no anche io dico di no perché erano cose diverse tra l'altro Vivarelli nelle sue introduzioni che ho già citato rivendica senza esitazione la coerenza della sua impostazione e la continuità della sua ispirazione il fatto stesso che ripubblichi senza varianti scritti molti anni prima significa che lui sosteneva che quelle erano cose compatibili e che andava bene ripubblicarle insieme ecco io penso che in alcuni punti invece la posizione di Vivarelli sia cambiata in modo abbastanza visibile in parte ne ho già accennato ma del resto come potrebbe essere altrimenti quando un'opera dura 60 anni vale anche per De Felice questo anche se poi quello che rimproverà Vivarelli era una cosa un po' diversa ma insomma un'opera che si prolunga per un periodo di tempo così lungo non può essere omogenea ci sarebbe qualcosa di patologico se uno continuasse a scrivere 50 anni dopo le stesse cose che scriveva 50 anni prima e questo quindi è assolutamente normale però è un fatto appunto che il Vivarelli di fine anni 60 inizio 70 è come ho detto su posizioni radical azioniste la sua critica è una critica di sinistra allo stato prefascista anche se lui diversamente da altri storici della sua provenienza ideologica della sua generazione resta sempre fedele però alle origini a Salvemini ecco e all'interventismo democratico su questo lui non ha mentre e questo lo vorrei sottolineare altri che all'interventismo democratico si dicevano legati e venivano da quella filone nel momento in cui questa tradizione diventa anatema non dicono una parola magari scrivono le prefazioni ai libri dei denigratori della tradizione interventista democratica comunque dicevo a parte questo poi a un certo punto soprattutto dalla fine degli anni settanta il punto di vista cambia e cambia anche il modo di accostarsi al tema specifico proprio delle origini del fascismo e non per la questione dei trascorsi giovanili che lui aveva affrontato già nel saggio nell'articolo del ponte del 55 mi sembra sì del 55 ma cambia perché i suoi studi lo portano a entrare in quel clima in quella problematica e quindi a valutare criticamente i programmi e le azioni del movimento socialista e ad aggiungere e questo avviene nel terzo volume ai peccati dello Stato liberale quello di non avere il contrastato non solo dopo le violenze del fascismo ma anche prima le violenze rosse per dire così e anche questo è un dato incontestabile voglio dire lui arriva a tutto questo non perché appunto faccia delle delle particolari elaborazioni teoriche ma perché si mette a studiare le carte come aveva sempre fatto e le carte ci dicono che quello che succede fra il 19 e il 20 è qualcosa di molto diverso da quello che spesso le storie ci raccontano a me è successo appunto in sede di presentazione di un libro su questo argomento di sentire appunto ma no ma i socialisti sì magari strillavano un po' ma erano pacifici erano pacifisti e neanche persone non è vero allora è chiaro che è questo che determina una certa torzione diciamo così o comunque un'evoluzione del giudizio di Viverelli quello che invece resta immutato salvo qualche sfumatura e qualche accentuazione diversa è il giudizio sullo Stato liberale su quello ci sono scarsi ripensamenti direi è un giudizio secondo me troppo severo ma certo capace di cogliere debolezze storture tare d'origine che esistevano non è che se le ha inventate Viverelli secondo me le accentua troppo però queste storture queste debolezze esistevano su quali quante quanto gravi fossero queste tare noi possiamo discutere certo però non si può eludere ecco la questione di fondo che Viverelli si pone già a fine anni 60 se lo Stato liberale era un organismo fondamentalmente sano come si spiega poi la sua crisi mortale ecco Viverelli non era tipo da eludere i problemi e le sue risposte si sia d'accordo o meno con lui si fanno sempre apprezzare per la nettezza con cui le argomenta per la chiarezza con cui le espone e anche secondo me per lo scrupolo con cui si impegna a documentarle e a spiegare il percorso di ricerca e di riflessione attraverso cui è giunto a quelle conclusioni e anche questo secondo me è un bel esempio di coerenza e di onestà intellettuale grazie 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 molte mi pare che siamo abbiamo tenuto insieme due aspetti cioè l'indagine sul lavoro di Viverelli e anche la caratterizzazione della personalità della personalità culturale di Viverelli e che mi pare questo proprio il nesso tra queste due cose ci ha aiutato molto a gettare luce sulla questione che abbiamo cominciato ad affrontare cioè il nesso tra la crisi del sistema liberale e le origini del fascismo ed è una questione che ora riproponiamo con l'oretto di Nucci che ci parla non tanto della crisi del sistema liberale e dell'origine del fascismo ma del momento successivo come anticipava Sabatucci la crisi post bellica e la nascita del fascismo dunque grazie molte anche a te per questo intervento allora dunque innanzitutto sono io che ringrazio Daniele e Roberto Pertici per avermi invitato a questo incontro perché serbo un ricordo creato del professore Viviorelli io l'ho conosciuto relativamente tardi nel senso che l'ho incontrato la prima volta a un convegno a Torino nel 2001 però poi c'è stato un confronto costante anche se a distanza necessariamente e devo dire che mi sono avvalso moltissimo dei suoi incoraggiamenti io stavo lavorando a una ricerca che mi ha impegnato diversi anni che poi è il libro che ho scritto sullo Stato Partito del Fascismo e da lui ho avuto incoraggiamenti che mi hanno alla fine aiutato a portare a termine questa ricerca allora raccogliendo idealmente il testimone da Giovanni salto i preamboli e entro subito nel problema storico che è al centro della mia relazione che è affrontato da Di Varelli nel terzo volume della sua opera ma non solo anche in Fascismo e Storia d'Italia e anche in parte nei caratteri della storia contemporanea dell'età contemporanea qual è questo problema storico il problema storico si può formulare così come fu possibile che nell'arco di soli due anni dall'autunno del 1920 all'autunno del 1922 la reazione fascista quello che lui impiega questa espressione acquisì una tale forza dirompente da concludersi infine con la conquista del potere ma io intanto credo che questo problema possa essere seguendo le scansioni dell'autore naturalmente per cogliene quelli che naturalmente sono i passaggi più significativi possa essere articolato in altrettante questioni io ho pensato a una schematizzazione di questo genere perché mi sembra più funzionale per far capire qual è la posizione di Vivarelli e qual è anche la mia posizione prima questione quali sono i caratteri distintivi secondo Vivarelli dei fasci italiani di combattimento qual è il legame con l'interventismo e con la partecipazione alla grande guerra qual è l'estrazione sociale dei primi aderenti seconda questione perché il successo socialista delle elezioni del 1919 finisce paradossalmente per ridare fiato al fascismo che proprio in quelle elezioni aveva ottenuto un pugno di voti e sembrava sul punto di scomparire terza questione vi accennava prima Giovanni per quali ragioni il novembre del 1920 è considerato uso l'espressione che Roberto Vivarelli impiega il momento cruciale nella storia del fascismo e infine perché Vivarelli scrive che la vittoria del fascismo fu soprattutto la vittoria di Mussolini Mussolini sul cui conto come sapete aveva un giudizio molto duro però questo non gli impediva di riconoscere che in quella fase appunto della storia d'Italia Mussolini ebbe un ruolo di primissimo piano allora incominciamo con l'affrontare la prima questione e con il dire che soffermandosi sulla fondazione dei fasci italiani di combattimento che come è noto avviene il 23 marzo del 1919 Vivarelli fa un'osservazione che di primo acchitto sembrerebbe marginale nel senso che si sofferma sulla scelta semantica che considera però assai significativa perché aggiunge prescinde da qualsivoglia pregiudizio ideologico ma io concordo pienamente con questa interpretazione perché i fasci italiani di combattimento nascono come un movimento situazionale libertario e in qualche misura anti ideologico c'è questa espressione che usa il primo segretario dei fasci che è Longoni il quale dice i fatti probabilmente ci precederanno noi non sappiamo ancora dove andremo a sboccare ad ogni modo io accetto questa interpretazione e rilevo il fatto che Vivarelli spiega che la parola fascio richiama un'unione di forze non necessariamente affini che si raccolgono attorno a un obiettivo comune e una scelta si fatta cioè l'impiego della parola fascio sta a indicare una volontà di aggregare che sarebbe secondo Vivarelli costante in tutta la storia del fascismo fino alle leggi razziali bene vi dico subito che su questo punto io ho qualche riserva e ho avuto modo di di discuterne francamente con Vivarelli perché ma perché negli anni del regime in realtà il fascismo si accaparrò il monopolio del patriottismo nel senso che l'ideale della patria degli italiani fu soppiantato dall'ideale della patria dei fascisti e questo che cosa comportò comportò che si riconoscesse una piena italianità soltanto ai fascisti e che gli altri italiani gli antifascisti o gli afascisti fossero trattati come antinazionali e fossero vittime di provvedimenti di esclusione il che avvenne attraverso l'introduzione nel principio di cittadinanza di una discriminazione tra italiani iscritti al partito e italiani non iscritti al partito sabito ciò torniamo a Vivarelli il quale richiama l'attenzione anche sulla seconda parte del nome del movimento perché perché dice il fatto che i fasci fossero fasci di combattimento sta a significare che erano disponibili all'azione violenta non dissimile non dissimile da quella del tempo di guerra e a suo giudizio sono due gli aspetti che emergono come specialmente tipici di quanti furono in prima fila nella fondazione dei fasci la giovanità e la partecipazione alla guerra Roberto Farinacci Renato del 1892 Giuseppe Bottai e Giorgio Alberto Chiurco del 1895 Bernardo Barbiellini Amidei del 1896 Olao Gaggioli nel 1897 e oltretutto non pochi tra i combattenti scrive Vivarelli avevano fatto parte del reparto degli arditi dei vecchi Bottai Gaggioli Dumini ecco nel descrivere questo mi sembra un altro passaggio interessante questa fase che definirei aurorale del movimento Vivarelli impiega giustamente io credo l'espressione rinascita dei fasci non nascita dei fasci italiani di combattimento ma rinascita dei fasci perché ma perché il richiamo immediato era all'esperienza dei fasci interventisti e coglie altresì nel segno quando osserva che i fattori che accomunano i fascisti della prima ora sono oltre quelli che ho appena richiamato il legame forte con l'interventismo l'adesione incondizionata alle ragioni della guerra e l'ostilità aperta nei confronti dei socialisti inoltre ed è questo secondo me un punto davvero di assoluto rilievo è fuorviante a giudizio di Vivarelli definire il fascismo in termini di classe in effetti io credo che le cose siano davvero così perché Mussolini è vero che i fascisti italiani di combattimento nascono come movimento antideologico e come antipartito però fin dalla donata di Piazza Sansepolcro aveva indicato quattro punti che poi appunto nella storia del fascismo ritornano allora il primo era che i fascisti si trovavano in senso storico sul terreno della rivoluzione fin dal maggio del 1915 il secondo era un ammonimento alle classi agiate perché Mussolini diceva noi non saremo mai i fasci di sicurezza per la borghesia italiana il terzo era che i fasci avevano dichiarato guerra al socialismo ma non perché socialista ma perché contrario alla nazione e il quarto infine era che i fasci dovevano portare a termine una missione storica certamente difficile ma chiarissima nei suoi scopi e cito Mussolini questa missione era scindere il partito socialista ufficiale dal proletariato d'altra parte come giustamente Vivarelli rileva se ci si sofferma sull'estrazione sociale dei fasci della prima ora si nota che i ceti popolari non mancavano certo era alto il numero di quanti in guerra avevano avuto il grado di ufficiale e cospicuo anche quello degli studenti universitari il che sta a indicare una prevalenza della piccola e media borghesia ma erano pure presenti elementi delle classi più umili e del resto perché mi sembra questo è un aspetto che viene solitamente tralasciato se i fasci fossero nati davvero come un movimento per cito Mussolini difendere le casse forti della borghesia coloro che inizialmente avevano scelto di farne parte non avrebbero certo accettato di chiamarsi tra loro compagni i fasci all'inizio si chiamano tra loro compagni e del pari avrebbero trovato per lo meno stravagante che nella testata del fascio che era il vero organo ufficiale dei fasci italiani di combattimento e non il popolo d'Italia perché il popolo d'Italia del giornale di Mussolini fosse raffigurato un pugno chiuso che stringeva un fascio di spighe seconda questione Mussolini era a capo di una forza politica modesta però con una mossa assolutamente azzardata decide di presentarsi alle elezioni del 1919 del novembre del 19 che si svolgono con la nuova legge elettorale proporzionale la lista del blocco fascista che fu presentata a Milano che vedeva Mussolini come capolista e insieme a lui Filippo Tommaso Marinetti Arturo Toscanini Agostino Lanzillo raccolse la miseria di 4796 voti su 270.000 votanti lo sottolinea molto Roberto Vivarelli e in quelle elezioni come è noto il Partito Socialista e riportò un grande successo perché ottenne il 32,4% dei voti e 156 deputati che cosa fa Mussolini Mussolini inizialmente cerca di minimizzare il trionfo fascista e ne parla come di una valanga cartacea come di un fenomeno di elefantiasi ebbe addirittura la spudoratezza di scrivere che quella fascista non era né una vittoria né una sconfitta ma un'affermazione politica nella realtà dei fatti invece se si va a guardare come stanno le cose si tartò di una vera e propria catastrofe allora basti considerare che il primo che al primo convegno nazionale dei fasci italiani di combattimento che si tiene a Firenze il 9 ottobre il nuovo segretario Umberto Pasella aveva detto che fasce erano 148 e gli iscritti 42.300 186 ora io credo che i numeri fossero gonfiati però per quanto potessero esserlo resta da considerare che al 31 dicembre i fasci i fascisti potevano considerarsi uno sparuto gruppetto perché perché i fasci rimasti erano soltanto 37 e gli iscritti appena 800 cioè il fascismo insomma in sostanza era considerato un fenomeno politico in via d'esaurimento ma nel corso del 1920 riuscì a superare la crisi a diventare un attore politico nazionale e a condizionare le dinamiche del sistema ma questa è la ragione per cui io ho concentrato le mie attenzioni su questi anni che poi sono gli anni che Vivarelli esamina nel terzo volume come fu possibile ecco io credo che Vivarelli sostenga una tesi che a me pare convincente Vivarelli scrive che per quanto possa apparire paradossale a ridare fiato al movimento fascista furono i risultati elettorali perché perché premiando i socialisti questi risultati rafforzarono il massimalismo che inizialmente non conobbe più freni ma poi determinò quella che lui in un paragrafo definisce la reazione fascista ecco vediamo come sono andate le cose incominciando col dire che la propaganda massimalista l'ha accennato prima Giovanni e quindi naturalmente è inevitabile che queste cose si riprendano alimentava delle forme di estremismo violento e radicalizzava così quella che Vivarelli definisce la passione di classe avete visto che fa questo dualismo passione di classe passione nazionale ma il punto è fermandoci alla passione di classe contro che cosa e contro chi si scatenava la passione di classe allora innanzitutto contro la guerra e contro coloro che in essa si riconoscevano in secondo luogo contro i simboli dello stato nazionale come il tricolore in particolare si è esposto per celebrare la vittoria e lui parla di guerra di simboli riprendendo una cosa peraltro di Emilio Gentile e infine contro i militari e contro le forze dell'ordine Vivarelli non ha nessuna incertezza perché da questo punto di vista bisogna riconoscere che era molto preciso poi quando esprimeva le sue convinzioni nel parlare di vera e propria caccia agli ufficiali e ricorda tanto per fare un esempio l'uccisione a Milano nel giugno del 1920 di un vice brigatiere dei carabinieri Giuseppe Ugolini colpevole di trovarsi da solo di fronte a un gruppo di scioperanti ecco stando così le cose e qui bisogna riconoscere che Vivarelli ha ragione quando scrive che Mussolini intuì che potevano aprirsi degli spazi di manovra politica se gli avesse schierato senza indugi il proprio movimento per contrastare o perlomeno contenere quello che definiva sapete che Mussolini era un straordinario creatore di formule quello che definiva il ballo disanfito dell'incosciente epilessia massimalista ecco secondo me Vivarelli coglie lucidamente questo passaggio chiave perché perché osserva che Mussolini si presenta come l'interprete della passione nazionale cioè dimostrando di avere un fiuto politico notevole Mussolini capisce che la partita che si era aperta nel maggio del 1915 non si era completamente conclusa perché perché l'interventismo poteva ritrovare una sua attualità bisognava raccogliere l'eredità di quell'esperienza ed esaltarne il denominatore comune e qual era il denominatore comune il denominatore comune era rappresentato dalla difesa dei valori nazionali intorno a quei valori occorreva aggregare il più ampio gruppo di forze che dovevano essere unite da un medesimo fine qual era la guerra contro il nemico che però non era più il nemico esterno ma diventava il nemico interno e a questo punto l'ha detto prima Giovanni appunto l'accusa che fa allo Stato liberale è che non era stato capace di combattere gli eccessi del massimalismo sicché toccava al fascismo ricorrere all'azione diretta terzo punto Vivarelli scrive che nell'estate del 1920 con Giolitti che era ritornato al governo il 15 giugno il paese si presentava come una comunità divisa in quanto gli animi degli italiani erano accesi da due passioni politiche che non erano semplicemente inconciliabili ma erano fortemente antagoniste cioè la passione di classe da una parte e la passione nazionale dall'altra tuttavia lui dice che è nell'autunno di quell'anno che bisogna collocare cito il momento cruciale della reazione fascista perché ma perché tra ottobre e novembre vi furono le elezioni amministrative in cui i socialisti conquistarono la maggioranza in 2022 comuni su 8.327 e in 26 consigli provinciali su 69 ecco qui appunto si coglie un passaggio cruciale nella sua interpretazione perché perché le amministrazioni socialiste disponevano di poteri effettivi perché potevano imporre tributi potevano prendere molte iniziative di carattere sociale sia sul piano delle opere assistenziali sia su quello dei servizi pubblici e questo naturalmente consentiva di creare posti di lavoro e di controllare le assunzioni disponendo di questi poteri i comuni socialisti se ne avvalsero per affermare ma io direi per accentuare la propria separatezza rivendicando apertamente la loro volontà di non voler far parte della comunità nazionale e qui ritorna la questione contadina come questione centrale nel senso che appunto le comunità contadine le comunità socialiste avevano sviluppato anche delle forme di cultura alternativa e dei rituali rispetti a quelli dello Stato nazionale quindi i comuni socialisti accentuano la loro separatezza e le spie di questa separatezza sono molteplici Vivarelli ne segnala tre per la loro forte carica simbolica il primo è il rifiuto del tricolore simbolo dello Stato nazionale e la sostituzione con la bandiera rossa il secondo è il drastico cambio della toponomastica con la cancellazione di ogni riferimento allo Stato nazionale e infine la scelta di togliere i crocifissi dalle scuole e naturalmente questa aggressività questa ostentata aggressività accentua l'isolamento dei socialisti e perché anche rispetto a quelle forze come i cattolici che pure rappresentavano ecco questo mi sembra diciamo un momento in cui ne parla che pure rappresentavano gli interessi dei cittadini popolari e favorì prima dapprima delle forme di resistenza spontanee e poi quella che Vivarelli appunto definisce la reazione fascista i fasci manifestano da subito una volontà di affrontare il massimalismo socialista che nel bolognese come diceva prima Giovanni trova la sua epitome sul terreno della piazza e qui ci sono appunto i ben noti fatti di Palazzo d'Accursio e del Castello Estense che in qualche modo segnano l'irruzione sulla scena nazionale dei fascisti ed ebbe inizio una vera e propria guerra civile ma il punto è domanda centrale che Vivarelli si pone quali erano i fini di questa guerra civile la risposta che si dà è che tali fini possono riassumire nella formula rinascita nazionale la guerra civile condotta nel nome dei valori nazionali si indirizza innanzitutto contro i socialisti ma la qualifica di antinazionali poteva essere attribuita anche ad altre forze politiche ecco fatta questa precisazione vivarelli vivarelli perviene al cuore della sua tesi quello che io considero il cuore della sua tesi quando osserva che il contrasto tra socialisti e fascisti non era circoscritto ai pur presenti interessi economici che sarebbe sciocco negare che non ci fossero a rendere irriducibilmente conflittuali le due posizioni erano i due diversi modi di concepire la comunità politica per gli uni cioè per i socialisti era la classe e la classe consentiva di stabilire un vincolo di solidarietà al di là dei confini nazionali con tutti i proletari ed escludeva tutti quelli che erano definibili come borghesi per gli altri per i fascisti la comunità politica era la nazione se non si tiene conto di questo non si capisce osserva Vivarelli il consenso di tutti coloro che non avevano alcun interesse economico da difendere e non si comprendono neanche le ragioni della vasta simpatia di cui i fascisti godettero tra le forze dell'ordine e tra i militari perché ma perché per questi ultimi i socialisti non erano percepiti come nemici di classe ma come nemici della patria i fascisti viceversa erano considerati i difensori dei sentimenti nazionali ma il punto è mentre nel paese si assisteva a quella che Roberto Farinacci con una immagine molto cruda ma molto forte definisce una nera corsa di morte il governo si chiede a Vivarelli che cosa faceva allora è noto che Giolitti in più occasioni impartì precise disposizioni affinché non ci fosse alcuna tolleranza verso l'illegalità commesse dai fascisti ma come scriveva il sottosegretario all'interno Corradini al ministro della guerra il guaio era che le autorità militari guardavano i fasci con grande comprensione ovvero cito come a un ideale movimento per la restaurazione della forza nazionale e questo che conseguenze aveva e questo faceva apparire ai loro occhi lecito ogni eccesso in un simile contesto si arriva alle elezioni politiche fissate per il 15 maggio del 1921 in cui Giolitti promosse la costituzione dei blocchi all'interno dei quali entrarono i rappresentanti dei fasci di cui egli stesso sollecitò la partecipazione e quindi nel momento in cui infuriava la guerra civile tra socialisti e fascisti non priva di efferatezze da una parte e dall'altra Giolitti continuò a invocare la neutralità della pubblica autorità ma io credo che abbia perfettamente ragione Roberto Iorelli quando scrive cito ci si schierava dalla parte della reazione al tempo stesso sconfessandola e la prova elettorale rappresentò un successo per il fascismo ma quando si costituirono i gruppi parlamentari i deputati del blocco si divisero in dieci gruppi e questo che cosa indicava indicava che non si erano delle condizioni di superare la paralisi parlamentare e oltretutto Giolitti disponeva di una maggioranza assai ridotta infatti si dimise e fu sostituito da Bonomi nel luglio e Bonomi e qui c'è di nuovo il problema della responsabilità dello Stato liberale Bonomi non capì che era in corso una guerra civile né fu in grado di reprimerla Mussolini invece era era legittimamente compiaciuto del successo elettorale ottenuto i fascisti eletti furono 38 non erano tantissimi ma venivano ora messe alla prova le sue qualità di leader cioè si trattava di dimostrare ora se era capace di trasformarsi da capo di partito a duce della nazione sicché bisogna chiedersi affrontando la quarta e ultima questione della mia relazione quali sono le ragioni per cui Viverelli scrive che la vittoria del fascismo fu soprattutto la vittoria di un uomo cioè di Mussolini allora il primo passo che lo avrebbe condotto a diventare presidente del consiglio di Mussolini fu un passo falso perché scelse di sottoscrivere con la benizione del governo come è noto il patto di pacificazione tra fascisti e socialisti che venne firmato il 3 agosto del 1921 presso il gabinetto del presidente della camera di Nicola ma il punto qual è il punto è che Viorelli usa questa espressione molto popolare dice Mussolini aveva fatto i conti senza l'oste perché perché si trovò di fronte l'opposizione dello squadrismo e qui c'è un altro elemento centrale su cui richiamo la vostra attenzione se i fascisti dovevano riconoscere nei socialisti dei semplici avversari con i quali convivere e anzi stringersi la mano venivano sconfessate le ragioni stesse della reazione antisocialista perché perché privandola di ogni motivazione ideale la si riduceva a una semplice e brutale reazione di classe ma in questo modo si finiva di perdere il consenso delle pubbliche autorità e delle forze dell'ordine un consenso che nasceva come appunto Viorelli non si stanca mai di ripetere dalla convinzione che i socialisti fossero nemici della nazione e si proponessero fini versivi mentre i fascisti difendevano le istituzioni e professavano i valori nazionali in effetti non si può dire che i capi dello squadrismo che a un certo punto Mussolini probabilmente commette l'errore di considerare che appunto disponesse dello squadrismo a suo piacimento ma non era così perché i capi dello squadrismo con le motivazioni che ho detto ecco mettevano in campo degli argomenti di peso né del pari si può non si si può sostenere che non vi fossero tra i leader politici delle province delle personalità di rilievo basta pensare a Michele Bianchi basta pensare a Dino Grandi e tanto per fare un altro esempio a Italo Balbo Mussolini che aveva un grande fiuto politico questo Vivarelli glielo riconosce lo capisce e si comporta di conseguenze perché perché al terzo congresso nazionale di Roma che si svolge dal 7 all'11 novembre del 1921 non sceglie la strada del muro contro un muro ma quello della mediazione accetta infatti la proposta di Grandi di considerare il trattato di pace archiviato e sepolto e ancor più la proposta di Grandi di unire tutti i fascisti in un blocco compatto per raggiungere la meta finale il discorso di Grandi in effetti è un discorso di rilievo e Vivarelli arriva a definirlo il più bel documento di una autobiografia del fascismo delle origini che cosa aveva detto di veramente importante Grandi Grandi aveva detto fra Stato e Nazione esiste ormai un dissidio insanabile un contrasto assoluto la lotta della Nazione contro i partiti antinazionali una volta debellati questi ultimi deve necessariamente risolversi in una lotta della Nazione contro lo Stato antinazionale comunque tirando le somme del convegno del congresso scusate Vivarelli scrive che due sono le cose che avevano segnato l'esito del congresso che come sapete sancisce la nascita del PNF la prima che Mussolini aveva vinto e aveva ripreso la guida del fascismo la seconda molto importante era che nel sistema politico italiano esisteva ormai un partito che si caratterizzava per avere una struttura militare Mussolini disponeva di un partito armato ma nei primi mesi del 1922 si mosse con grande prudenza perché mentre si esauriva all'esperienza del governo Bonomi e entrava in carica che si concluse il 25 febbraio entrava in carica FACTA ebbe cura diciamo con grande capacità tattica di mettere una distanza tra sé e lo squadrismo perché perché con mosse ben studiate fece di tutto per accreditarsi come un uomo politico affidabile non incline all'estremismo e disponibile al compromesso dimostrando questa abilità Mussolini e secondo me anche qui Viverelli ha ragione imposta il suo gioco su due piani quello legalitario e quello alla sfida dei poteri dello Stato cioè Mussolini sembrava condurre la sua partita come parlamentare ma rimaneva pur sempre il capo di un partito armato che agiva al di fuori dalla legge ed è adesso emblematico quanto scrive in occasione del primo maggio del 1922 lo Stato nuovo che è in germe in potenza nel nostro partito dovrà poco a poco violentemente sostituire lo Stato liberale la cui storia la cui esistenza è contrassegnata ormai e soltanto da una teoria quotidiana di applicazioni una più miserabile dell'altra ancora più importante mi avvio verso la conclusione della mia relazione è un testo pubblicato dopo le occupazioni di Ferrara e di Bologna tra la fine di maggio e l'inizio di giugno del 1922 che comparve sul popolo d'Italia del 1929 e Vivarelli giudica quel testo su cui anch'io ho fermato la mia attenzione un testo importante perché Mussolini traccia un quadro che corrisponde in qualche misura alla situazione reale Mussolini che cosa fa esamina il rapporto tra lo Stato in atto che era lo Stato esistente e lo Stato in potenza in divenire che era il PNF e dice che il fascismo si sarebbe schierato a fianco dello Stato esistente per evitare il peggio cioè l'antistato socialista anarchico avrebbe difeso lo Stato esistente ma questo non significava affatto legittimarlo per secoli né rinunciare alla formazione dello Stato nazione così come era vagheggiato dal fascismo l'antitesi con lo Stato italiano era profonda perché lo Stato era venuto a configurarsi addirittura come uno Stato semisocialista quindi dicendosi sicuro che in breve tempo fascismo e Stato sarebbero stati una cosa sola Mussolini non indica battate bene in che modo questo sarebbe avvenuto dice il fascismo avrebbe potuto aprire la porta con cito la chiave della legalità ma avrebbe anche potuto sfondare la porta con il colpo di spalla dell'insurrezione una cosa era certa lui riprende un'immagine di Cesare Rossi su cui Vivarelli appunto si è soffermato in cui Cesare Rossi aveva detto non è possibile combattere un duello decisivo in tre Mussolini dice una cosa è certa il duello in tre cioè fascismo Stato socialisti che si va combattendo da quattro anni sarebbe tornato a essere un duello Stato socialista da una parte antistato fascista dall'altro ecco su un piano più generale per intendere per cercare di capire quali sono gli intenti di Mussolini dopo lo sciopero indetto dall'alleanza del lavoro del primo agosto Vivarelli suggerisce di fermarsi su tre discorsi particolarmente importanti che sono ricordati nella pubblicistica fascista come i tre discorsi prima della rivoluzione sono quello di Udine del 20 settembre quello di Cremona del 24 e quello di Milano il 4 ottobre il discorso di Udine è importante perché Mussolini ha affrontato una questione di un certo rilievo ovvero quale tipo di Stato proponeva il fascismo in quell'occasione e guardate bene diciamo la capacità tattica di Mussolini Mussolini si era chiesto cito è possibile una profonda trasformazione del nostro regime politico senza toccare l'istituto monarchico è possibile cioè rinnovare l'Italia non mettendo in gioco la monarchia e quale l'atteggiamento di massima del fascismo rispetto alle istituzioni politiche la risposta di Mussolini era netta io penso che si possa rinnovare profondamente il regime lasciando da parte la istituzione monarchica nel discorso di Cremona fa altre due informazioni importanti la prima è guardate non schiacciateci come movimento classista noi non siamo un movimento di classe il fascismo ha un carattere popolare Mussolini dice noi siamo figli del popolo noi abbiamo conosciuto la rude fatica delle braccia noi abbiamo sempre vissuto la raggente del lavoro che è infinitamente superiore a tutti i falsi profeti che pretendono di rappresentarla la seconda riguarda il rapporto tra fascismo e la guerra di nuovo Mussolini ritorna su questo legame e lo descrive con queste parole è da vittorio veneto che si dipartono i nostri gagliardetti e dalle rive del piave che noi abbiamo iniziato la marcia che non può fermarsi fino a quando non abbia raggiunto la meta suprema infine e so per davvero per chiudervi non voglio abusare della vostra pazienza nel discorso al circolo Antonio Scesa di Milano aveva detto chiaro e tondo quale fosse la sua concezione della libertà il fascismo non avrebbe permesso l'albero della libertà sulle pubbliche piazze non poteva dare la libertà a quanti ne avrebbero approfittato per assassinarlo era questa la soltezza dello Stato liberale che dava la libertà anche a coloro che se ne servivano per abbatterlo a chiusura del suo intervento aveva poi lanciato un severo abbonimento espresso con queste parole dividiamo gli italiani in tre categorie gli italiani indifferenti che rimarranno nelle loro case ad aspettare i simpatizzanti che potranno circolare e finalmente gli italiani nemici e questi non circoleranno la stagione delle parole scrive Relli era finita incominciava il tempo delle azioni in quei giorni in cui pronunciava questi discorsi era cominciata la partita per la successione a facta e Mussolini aveva deciso di giocarla sapendo di avere un'arma in più rispetto agli altri qual era l'arma in più le milizie il fatto di disporre di un partito armato le milizie dovevano far credere possibile l'insurrezione minacciarla per intimidire al tempo stesso disorientare le altre forze politiche ma in quelle settimane come Vivarelli nota egli fu al centro di tutte le trame non ha senso ripercorrerle tutte perché sarebbero velletarie comunque fino all'ultimo momento fino all'ultimo giorno Mussolini ostentatamente partecipò a tutte le trattative perché sapeva che avrebbe dovuto confrontarsi con due personalità di rilievo cioè Giolitti e Salandra non trascurava l'importanza del voto parlamentare in quanto non escludeva in partenza una soluzione formalmente legalitaria ma questo adempimento formale sono parole di Vivarelli fu ottenuto agitando il fantasma dell'insurrezione vado verso la chiusa in effetti fu questo lo scopo della mobilizzazione fascista che ebbe come noto due date cruciali il 24 e il 28 ottobre Mussolini parla a Napoli come noto e si sofferma ancora una volta sul rapporto tra fascismo monarchia ed esercito non vi era alcun dubbio aveva detto che la via italiana si appoggiava saldamente alla monarchia dei Savoia una monarchia che per le sue origini e per la sua storia non poteva opporsi a quelle che erano le tendenze della nuova forza nazionale quanto all'esercito non poteva non ricordare che un manipolo di pochi audaci fascisti lo avevano difeso quando i ministri consigliavano di andare in borghese per evitare conflitti commentando questo discorso il giudizio di Iarelli non è netto è super netto ed è espresso con queste parole non sono i propositi di un rivoluzionario ma io mi chiedo e vi chiedo che cosa fa di un leader politico un rivoluzionario non era forse Mussolini il capo di un partito armato comunque soffermandosi infine sul 28 ottobre Vivarelli scrive che al momento della rivoluzione fascista una crisi di governo era già in atto e quindi nessuna delle forze di governo riteneva possibile una soluzione senza il concorso di Mussolini in ogni caso egli non rinuncia come fa Giovanni e lo dirò adesso a un'ipotesi controfattuale e si chiede lo stato d'assedio se è attuato avrebbe potuto forse sconfiggere i fascisti militarmente ma poi quale soluzione politica quale formazione di governo poi capaci di prendere effettivamente le redini del potere il quadro politico offriva anche Giovanni Giovanni Sabatucci in una bella recensione al terzo volume della storia delle origini del fascismo apparsa sul messiere di storico ha avanzato un'ipotesi controfattuale dicendo che non ritiene ozioso e ha ragione chiedersi che cosa sarebbe accaduto se il re avesse firmato lo stato d'assedio e se quella raccogliticcia armata fascista si fosse dispersa ai primi colpi di arma da fuoco ecco io non farò altrettanto mi limiterò a ricordare la posizione di Vivarelli ancora una volta nettissima sulle ragioni per cui il re si rifiutò di firmare lo stato d'assedio Vivarelli ricorda anzitutto che non disponiamo di alcun dato certo ma solo di congenture ma non rinuncia ad esprimere il suo convincimento sicché ho pensato che la chiusa migliore di questa mia relazione sia dare direttamente la parola a lui io credo scrive Vivarelli che più di ogni altra cosa il re avesse ben presente il quadro politico con un paese da mesi ormai privo di un governo capace di governare un parlamento paralizzato una classe politica divisa inetta e meschina e avesse ben presente la spontanea sintonia che per forza di cose si era creata tra fascismo ed esercito credo che questa consapevolezza più di ogni altra considerazione abbia consigliato al re il suo rifiuto grazie grazie molte Loreto siamo riusciti a finire in mattinata e questo mi pare un buon risultato ecco e appunto adesso forse possiamo avere qualche qualche minuto prima della conclusione appunto un quarto d'ora se c'è qualche intervento qualche domanda qualche osservazione perché poi appunto nel pomeriggio non avremo il tempo di svolgere considerazioni inaudiano sul 1887 eccetera in che cosa veramente questa cioè al di là delle in che cosa questa svolta dell'87 avrebbe in qualche modo precostituito un terreno favorevole a una a un avvento comunque a una del fascismo io l'avevo visto in questo modo ma non è cioè che aveva abituato il popolo italiano a essere sempre in vario modo alle dipendenze del potere pubblico e dello Stato per cui una volta che questo Stato è diventato uno Stato fascista il popolo italiano ha continuato ad aver bisogno dello Stato e quindi in qualche modo si è uniformato è questo secondo lui il senso del discorso o è un altro ma secondo me è una cosa insomma un po' più un po' più complicata quello quello che comunque è certo è che non si tratta solo di una scelta in materia di politica economica di dazi doganali eccetera si tratta di una scelta che chiama in causa i modelli i famosi modelli a cui accennavo prima e a cui Vivarelli credeva insomma in qualche modo che erano un po' un suo riferimento nel momento in cui lui identifica lo Stato protezionista con lo Stato autoritario e nel momento in cui ravvisa questa coincidenza fra la tariffa che tra l'altro fu introdotta dal governo De Preti se non da Crispi e l'avvento di Crispi e l'avvento di Crispi lui stabilisce immediatamente un collegamento fra quella scelta di politica economica e le sue ricadute e i suoi collegamenti scegliere la siderurgia significava anche appunto pensare alla costruzione delle navi da guerra i cannoni eccetera eccetera e quindi è una politica di tipo imperiale questa politica che è portata avanti da uno Stato poco attento ai bisogni e alle istanze dei cittadini è qualcosa che rafforza la struttura autoritaria di quello Stato e solo in questo senso in senso appunto con parecchie tappe intermedie lui collega questo tipo di scelta poi non tanto all'avvento dello Stato fascista ma allo scarso tasso di liberalismo dello Stato il quale poi a sua volta faciliterà la operazione appunto Mussolini e quindi la trasformazione di uno Stato sedicente e liberale in uno Stato che tutto è forché liberale in uno Stato autoritario eccetera eccetera in questo senso il nesso c'è ecco non penso che Vivarelli attribuisse alla tariffa dell'87 direttamente tutte queste approfitto per rispondere un attimo anche alla questione che ha posto Loreto all'ultimo l'ipotesi controfattuale se il io non non sono d'accordo con quest'ultima affermazione di Vivarelli che tu hai citato cioè il re aveva capito qual era la situazione e si comporta di conseguenza in parte sì in parte è così ma il re non aveva capito qual era la situazione non aveva capito neanche i politici liberali che avevano trattato con Mussolini fino all'ultimo tutti pensavano re compreso a un governo di un appunto come dischessa qualcuno ma neanche transitorio di più un giolitti di 40 anni che guarda caso però era a capo di una milizia armata ora il non avere colto l'importanza che in uno Stato liberale in uno Stato di diritto ha il monopolio della forza è un errore da cui nessuno potrà mai assolvere i politici liberali però loro ingannandosi e perché erano poco liberali in questa regione di Varelli credono che mettendo Mussolini al governo basta la questione è risolta lui sta lì che farà mai sì farà qualche correzione in senso autoritario governerà con mano di ferro però prima o poi le istituzioni nate da risorgimento a cui non si riesce a vedere l'alternativa lo assorbiranno e quindi perché no ma perché spargere sangue spargere sangue si sparge perché si deve difendere la libertà ma se tu non pensi che devi difendere la libertà il sangue non lo sparge tra l'altro hai pure paura perché c'è il Duca d'Aosta oppure perché una qualche ritorno sovversivo potrebbe rimettere in discussione la monarchia ma sì ma mandiamo Mussolini al potere questo è il punto secondo me quindi l'ipotesi controfattuale si può fare se quelli smandrappati delle camicie nere avessero sfidato i cavalli di Frisia dell'esercito e qualcuno fosse caduto sotto il fuoco dei carabinieri o dell'esercito finiva lì finiva lì certo anche Hitler fu sparato però dovete aspettare dieci anni e la grande crisi per tornare insomma quindi bastava sparare punto no no ma io ho richiamato la tua ipotesi controfattuale e anche quella di Viarelli io credo che ciao Mauro io credo che Giovanni abbia un po' ragione una totale sottovalutazione del fatto che Mussolini era a capo di un partito armato del resto però se voi leggete quello che scrive De Gasperi De Gasperi dice noi abbiamo consentito quella soluzione perché pensavamo cioè che di dar vita a un governo di concentrazione nazionale in cui si mettesse a capo di questo governo quello che ha promosso l'insurrezione e che poco alla volta si rientrasse nella normalità ecco però questo tira in ballo ancora una volta una cosa su cui Giovanni in particolare insiste e cioè il tipo di classe liberale che abbiamo avuto perché questa cosa di Giolitti è davvero paradossale perché cioè giustamente Vivarelli la sottolinea perché Giolitti dava indicazioni ai prefetti di stroncare le violenze ma nello stesso tempo dava indicazioni ai prefetti di far entrare i fascini blocchi e non dovevano esserci non erano ammesse eccezioni non erano ammesse eccezioni il Corriere della Sera diceva che la lista era una postazione di combattimento era una trincea l'unica che esprimeva dei dubbi rispetto al fatto che i rappresentanti dei fasci entrassero nelle liste era la stampa l'unica che esprimeva dei dubbi qualche altra osservazione capisco che l'ora è avanzata forse possiamo fermarci sì evidentemente forse possiamo allora fermarci qui ringraziando tutti coloro che sono intervenuti tutti voi che avete assistito e ripromettendoci di pubblicare gli atti di questa giornata per l'interesse che mi pare hanno mostrato le relazioni e anche il dibattito che c'è stato grazie molte arrivederci io ringrazio io ringrazio credo a nome di tutti gli ospiti e ancora una volta il nostro presidente Daniele e anche Roberto Pertici perché credo che sia stata una bella occasione d'incontro un seminario di un certo interesse e un'altra cosa che non guasta un bel clima umano ecco grazie molto e arrivederci allora grazie a tutti grazie a tutti